Si chiama Kong Tao. Ha 24 anni, è una ragazza che fa la commessa in un negozio di biciclette a Pechino. Potrebbe essere una erede di Confucio e in effetti ha pagato per partecipare a una operazione che si sta svolgendo in tutta la Cina, esami del DNA per individuare i discendenti di Confucio. Ci sono 3 milioni di cinesi che portano il cognome di Kong, un cognome abbastanza diffuso che era il nome di Confucio. Confucio si chiamava Kong Fuzi, nome che poi noi abbiamo latinizzato in Confucio. Kong Fuzi, che vuol dire il maestro Kong. Il test del DNA costa 100 euro a persona, che è un costo abbastanza elevato per i cinesi, ma il fatto che così tanti siano disposti a pagare questa somma indica quanto sia rimasta elevata l'ammirazione, il prestigio di Confucio in Cina. Un altro segnale è il fatto che l'autorevole Accademia Confuciana di Pechino ha messo a punto un ritratto standard del maestro Confucio per evitare che circolino troppe raffigurazioni diverse di Confucio. Siamo quindi in pieno revival di confucianesimo in Cina. Ma chi è il maestro Kong? Lui nasce nel 551 a.C. a Chufu, una cittadina nella provincia dello Shandong, un po' più a sud di Pechino. Non è rimasto nulla di lui, perfino la sua tomba fu profanata nel 200 a.C. Eppure si sa molto di Confucio. Talento, virtù sono le parole chiave che esprimono i valori del confucianesimo. Lo interessano la società, la storia, l'arte del buon governo, l'etica individuale e l'etica dei governanti. Confucio non è il fondatore di una religione, non si occupa di filosofia metafisica, non si pone il problema dell'aldilà. Del resto, questa è una peculiarità della Cina che non ha mai avuto nelle sue tradizioni un testo rivelato da Dio come la Bibbia o il Corano degli Islamici. La saggezza di Confucio lo fa notare fin da giovane dal principe di Lu, che lo nomina governatore della città di Chengdu, poi ministro dei lavori pubblici, ministro della giustizia, infine consigliere del governo. Arrivato al culmine del prestigio, Confucio si ritira di colpo. La moralità e il potere non vanno d'accordo. Il principe vuole consiglieri che lo lusinghino, non vuole consiglieri critici. E allora Confucio si ritira dall'attività politica e si dedica all'insegnamento, crea una scuola di discepoli che avranno un'influenza fondamentale per duemila anni di storia non solo della Cina, ma di tutta l'Asia, visto che il confucianesimo estenderà il suo insegnamento alla Corea, al Giappone. Il messaggio centrale che Confucio lancia ai sovrani, ai governanti, è questo. Ciò che fa bene al popolo conduce alla pace e può quindi identificarsi con la virtù. Governate a forza di leggi, dice Confucio, mantenete l'ordine a colpi di punizioni e il popolo si accontenterà di obbedire per paura, senza senso morale. Governate con la virtù e il popolo tenderà spontaneamente verso il bene. C'è quindi nel confucianesimo l'idea di un limite al potere assoluto dei governanti. E poiché chi fissa questo limite sono i discepoli di Confucio, grazie a lui acquistano un ruolo enorme gli intellettuali, che diventano, nella storia cinese, guardiani di una tradizione, giudici del principe. Ecco che la virtù sta sopra al potere, ispira l'etica dei re come quella dei membri delle famiglie. Il filosofo cinese Confucio è anche il fondatore della prima società meritocratica al mondo. Nel 960 d.C. la dinastia Song, seguendo l'insegnamento confuciano, crea per la prima volta gli esami mandarinali. Cioè sono gli esami attraverso cui si diventa mandarini, che vuol dire funzionari di alto rango dell'amministrazione pubblica. È un filtro di accesso alla pubblica amministrazione. E insieme con questi esami vengono fondate delle scuole per preparare i giovani a passare gli esami mandarinali. In questo modo una burocrazia moderna, la prima burocrazia moderna nella storia, viene fondata sulla selezione in base alle conoscenze e alle competenze, non sulla base del censo della ricchezza o dell'origine familiare. Questo è un vero shock, tra l'altro, quando lo scoprono gli occidentali. E' nel 600 che gli europei acquisiscono una conoscenza più approfondita di come funziona la Cina e scoprono che grazie a Confucio la Cina è governata da una gigantesca pubblica amministrazione efficiente. Una pubblica amministrazione selezionata su base del merito e non della nascita. E gli occidentali, l'occidente cristiano, scopre anche con una certa stupefazione, con imbarazzo, che il concetto di virtù esiste anche in una società non cristiana. Ma Confucio fu un conservatore o un progressista? E' stato il fondatore di una filosofia autoritaria o democratica? Su questi interrogativi il dibattito va avanti da secoli e non si è mai risolto. Lui, Confucio, quando era vivo con molta modestia, insisteva nel dire di non aver creato nulla di nuovo. Confucio presentava se stesso come un commentatore, uno che si era occupato di rimettere ordine in tradizioni più antiche di lui. Per esempio, commentando il testo I Ching, una delle più antiche raccolte di simboli della tradizione cinese. Proprio per questo, però, una delle accuse che in seguito gli sono state rivolte è quella di essere stato un prigioniero della tradizione. E' che la Cina, sotto l'influenza confuciana, non riuscirà a liberarsi dai condizionamenti del passato. Gli intellettuali confuciani verranno descritti dai loro avversari come dei custodi di riti. Ma c'è un altro aspetto del confucianesimo, c'è un'altra dimensione del suo pensiero, quella che sta nascosta dentro l'espressione del mandato celeste. Il mandato celeste è la legittimità dell'imperatore. Vuol dire che il mandato dell'imperatore viene dal cielo, che non significa però che l'imperatore sia una sorta di Dio in terra. Soprattutto il mandato celeste può essere revocato dal cielo. E nella visione confuciana, quando accadono degli scontri, dei conflitti sociali, delle rivolte violente, questo è il segnale che il cielo sta revocando il mandato all'imperatore. Quindi, in un certo senso, viene il pensiero confuciano la giustificazione di una lunga catena di rivoluzioni che hanno segnato la Cina, che spesso sono state il detonatore di crisi e avvicendamenti dinastici. E' questo il confucio democratico, perché in questa visione è l'imperatore al servizio del paese, non è il paese al servizio dell'imperatore. La millenaria diatriba su confucio, la discussione per stabilire se confucio sia stato il fondatore di un pensiero autoritario e conservatore, oppure il fondatore di una filosofia potenzialmente progressista e democratica, questa discussione si accentra anche su un altro tema del confucianesimo, è la visione della cosiddetta società armoniosa. Dietro questo termine si nascondono tanti concetti. C'è l'idea, per esempio, che i rapporti sociali, anche su scala nazionale, devono essere ricalcati sul modello della famiglia. Quindi i rapporti sociali tra governanti e cittadini, che assomigliano ai rapporti tra padre e figlio, o tra moglie e marito. Questo indubbiamente porta a una lettura gerarchica del confucianesimo, che privilegia la stabilità politica, l'ordine, un ordine che può anche essere autoritario. E del resto, in questo filone confuciano, si iscrive anche l'eredità che Confucio ha impresso nella società cinese per quanto riguarda la vita familiale, i rapporti tra i sessi, i rapporti di potere tra uomini e donne. Non c'è dubbio che nella famiglia tradizionale cinese la donna è sottomessa, a volte addirittura in una condizione servile nei confronti del marito e dei genitori del marito. E perfino la cerimonia tradizionale del matrimonio, più ancora che essere un contratto personale tra il marito e la moglie, è una sorta di garanzia dello sviluppo, di una successione, della sopravvivenza attraverso la nascita dei discendenti, è uno dei momenti in cui i giovani sposi devono esprimere riconoscenza, disciplina, fedeltà ai genitori che hanno deciso e organizzato il matrimonio. Ecco, queste diverse interpretazioni spiegano anche l'alternarsi della fortuna o della disgrazia del pensiero di Confucio nella storia. Per esempio, l'imperatore che costruisce la Grande Muraglia, l'imperatore che fa costruire l'esercito dei guerrieri di Terracotta di Xi'an, l'imperatore Shi Huangdi, che regna dal 221 al 210 a.C., nel suo assolutismo a un certo punto decide un'auto da fe, l'incendio di tutti i libri confuciani e una strage di intellettuali. Fa massacrare tutti gli intellettuali che erano i custodi del pensiero confuciano. Li attira in una trappola, li fa scendere in una fossa, facendogli credere che lì è esposta una zucca miracolosa di dimensioni inusitate. Gli intellettuali scendono e vengono sepolti vivi dai soldati dell'imperatore. Perché questa strage e perché l'incendio dei libri confuciani? Perché evidentemente in quella fase gli intellettuali confuciani stanno contestando l'autoritarismo, l'assolutismo dell'imperatore. Ecco uno degli esempi di una interpretazione democratica del confucianesimo che porta a questo scontro così violento. Ma ci sono invece momenti molto diversi nella storia della Cina saltando in un'epoca decisamente successiva, il 4 maggio 1919 quando esplode un movimento di protesta di studenti, di intellettuali nella Cina repubblicana un movimento di modernizzatori che vogliono scuotere il paese lanciarlo alla rincorsa dell'Occidente. Ecco che questi contestatori nel 1919 denunciano pubblicamente Confucio vogliono ripudiarlo come un elemento di paralisi del paese e probabilmente hanno qualche ragione perché 2500 anni dopo la sua nascita la tradizione confuciana in quel momento si è ossificata il confucianesimo è diventato un freno, una zavorra la ripetizione di un sapere obsoleto perfino nella povertà delle campagne, nel sottosviluppo gli intellettuali del 1919 vedono un'eredità pesante del confucianesimo. La contestazione contro Confucio esplode di nuovo negli anni 60 quando Mao Zedong lancia la rivoluzione culturale Confucio diventa uno dei bersagli delle guardie rosse i giovani rivoluzionari istigati da Mao Confucio viene assimilato alla Cina borghese, arcaica che bisogna cancellare perché Mao vuole riscrivere la storia del suo paese cominciando da una pagina bianca è la metafora che usa il grande timoniere bisogna fare tabula rasa del passato e quindi ecco Confucio diventare il nemico di classe diventare il simbolo di un pensiero reazionario di una Cina feudale e arretrata ma 40 anni dopo l'inizio della rivoluzione culturale la Cina di oggi, volta pagina un'altra volta si assiste al ritorno del confucianesimo con addirittura un governo di Pechino che apre istituti confuciani in tutto il mondo la Cina del 2006 vara degli istituti per l'apprendimento della lingua mandarina in Europa, in America, in Asia e li dedica proprio a Confucio una scelta che può sembrare sconcertante ricordando l'odio per Confucio che nutriva Mao ma in questo neoconfucianesimo professato dalle autorità di Pechino di oggi c'è un'operazione politica un'operazione politica guidata dall'alto è un'operazione che non è neanche cominciata dalla Cina si può ritrovare questo uso del neoconfucianesimo già in Giappone il neoconfucianesimo del Giappone è stato utilizzato per dare fondamento a un regime autoritario a un paternalismo alla costruzione di una società fortemente gerarchizzata c'è stato poi un altro uso diciamo di destra del confucianesimo di cui l'ispiratore è stato il padre padrone della città-stato di Singapore Li Kuan Yu l'ispiratore di uno dei primissimi miracoli economici dei dragoni del sud-est asiatico un uomo che i cinesi hanno ammirato anche se a Singapore c'è un regime autoritario di destra quando Deng Xiaoping alla fine degli anni 70 avviava la Cina per la prima volta verso l'economia di mercato la modernità di Singapore quella ricchezza economica e quella disponibilità di tecnologie avanzate era uno dei fari uno dei modelli ispiratori ecco Li Kuan Yu a Singapore ha sempre predicato il confucianesimo per reprimere la libertà di stampa per respingere l'iper individualismo delle società atomizzate dell'Occidente ecco allora che il recupero del confucianesimo in voga tra i dirigenti del partito comunista cinese serve anche a creare attorno alla Cina una sorta di campana protettiva serve a teorizzare il fatto che esiste una via asiatica alla modernità che il nostro modello di democrazia fondato sui diritti umani le libertà individuali la possibilità di cambiare governo di votare per un'opposizione la libertà di stampa tutto questo va bene per l'Occidente per delle società individualistiche ma non va bene per delle società che hanno alla radice il confucianesimo ecco che tramontando l'ideologia comunista il confucianesimo diventa il nuovo collante ideologico della Cina diventa il modo per isolare la Cina dalle interferenze dell'Occidente per teorizzare che non c'è bisogno di copiare di importare la democrazia occidentale in Cina perché una società asiatica va governata come una famiglia con il padre imperatore oggi il partito unico nuotando muri di pietra si ergeranno controcorrente guardando verso ovest per trattenere le nuvole e le piogge di Wushan finché un lago piatto non sorgerà nelle vicine gole la dea della montagna se ancora esiste si meraviglierà di un mondo così cambiato questa che ho letto è una poesia di Mao Tse Tung del 1956 perché il presidente Mao era anche un poeta ammirato tra l'altro dal nostro Alberto Moravia a questa poesia Mao la scrisse a proposito di una grande opera che sarebbe stata terminata soltanto 50 anni dopo la madre di tutte le dighe la terrificante controversa diga delle tre gole la più grande diga costruita nel mondo per produrre energia per dissetare la Cina della sua inesauribile sete di energia elettrica per alimentare il boom economico della Cina del ventunesimo secolo ma viaggiando attraverso le zone che sono state devastate dall'impatto ambientale della diga delle tre gole mi sono imbattuto di nuovo nello spirito di Confucio perfino nella storia di questo gigantesco cantiere emerge di nuovo l'influenza l'impronta del filosofo nato 2500 anni fa ma la diga delle tre gole è stata costruita in un luogo centrale nella storia della Cina lungo il fiume Yangtze sua maestà Changjiang come lo chiamano i cinesi che significa il fiume lungo un fiume che nasce in paradiso sul tetto del cielo a 5400 metri di altitudine sul monte Tangula in Tibet sull'Himalaya poi percorre 6300 chilometri trasporta ogni anno 900 miliardi di tonnellate d'acqua fertilizza 2 milioni di chilometri quadrati di pianure attraversa province abitate da 400 milioni di cinesi e oggi tra l'altro inghiotte gli scarichi industriali di quella che forse è la città più inquinata e più popolosa del pianeta Chongqing 30 milioni di abitanti infine va a gettarsi lo Yangtze nel mare cinese orientale vicino a Shanghai e inquina anche gli oceani ma lo Yangtze è sempre stato per la Cina fonte di ricchezza e di miseria di fertilità e di sciagure è il fiume le cui piene hanno irrigato e fertilizzato alcune delle pianure più fertili della Cina è un fiume di commerci che è stato attraversato dalle giunche dei mercanti di riso di tè di oppio per secoli e secoli ha anche sterminato popolazioni intere quando le sue inondazioni sono state più devastanti ed è stato il teatro fra l'altro della più celebre nuotata politica della storia quando Mao Zedong lo traversò a nuoto proprio nel 1956 fu ripreso nei documentari in bianco e nero che all'epoca fecero il giro del mondo è anche un fiume culto per i viaggiatori occidentali è un fiume che è un luogo letterario è stato descritto per esempio dallo scrittore americano Somerset Morgan è stato attraversato da crociere turistiche anche di lusso ma più di recente per fare dello Yanzé la più formidabile macchina di produzione di energia elettrica sono state spostate ben due milioni di persone una deportazione di massa di due milioni di abitanti delle valli intorno alle tregole deportazione necessaria per svuotare tredici città da cinquanta centomila abitanti centoquaranta cittadine più piccole mille trecentocinquantadue villaggi è stato creato non un lago ma un mare artificiale per alimentare la diga delle tregole e le sue turbine elettriche sono stati sommersi per sempre ottomila siti archeologici un mondo di templi di pagode e di tombe una Cina del passato che non vedremo mai più la diga delle tregole questa gigantesca opera che è diventata un simbolo della Cina di oggi di questa superpotenza dell'economia globale la più grande diga del mondo contestata dagli ambientalisti perché ha stravolto il clima di un'intera regione della Cina creando un mare artificiale una umidità spaventosa che grava come una una cappa su tutta quella zona ha naturalmente creato sconvolgimenti sociali con la deportazione di intere popolazioni la minaccia di scomparsa per delle minoranze etniche antichissime ebbene questa diga però ci riporta a un dibattito antichissimo che si svolse in Cina 2500 anni fa naturalmente allora non si trattava della diga delle tregole la tecnica di quei tempi non era certo in grado di costruire un'opera così gigantesca e soprattutto non esisteva la turbina per produrre energia elettrica ma 2500 anni fa proprio le dighe furono al centro di una feroce disputa teologica fra le due anime più antiche e più profonde della Cina i taoisti e i seguaci di Confucio il taoismo a differenza del confucianesimo è una religione è una religione per la quale uno dei principi fondamentali è quello di vivere in armonia con la natura quindi si può dire una religione ambientalista antelittera i taoisti volevano lasciare scorrere i fiumi della Cina come li ha disegnati madre natura per non violentare l'ordine del cosmo i confuciani invece rappresentano l'anima opposta quella che potremmo forse paragonare al positivismo europeo della fine dell'ottocento quella fiducia profonda nel progresso nella tecnica nella scienza nella conoscenza in ultima istanza fiducia nell'uomo i confuciani quindi già 2500 anni fa invocavano grandi lavori pubblici per deviare i fiumi moltiplicare le ricchezze della società creando canali per il trasporto fluviale o per l'irrigazione delle terre agricole e questo dibattito fra le due anime della Cina è andato avanti 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 per secoli fino al 1919 quando il padre della Repubblica Cinese Sun Yat-sen quello che gli stessi comunisti venerano come una specie di antenato della Repubblica Popolare di oggi Sun Yat-sen si innamorò per primo del progetto originario della diga delle tregole come simbolo della modernizzazione del suo paese e quella infatuazione di Sun Yat-sen si è trasmessa a Mao poi a Deng Xiaoping a tutti i dirigenti comunisti fino all'attuale presidente Hu Jintao al primo ministro Wen Jiabao guarda caso due ingegneri per formazioni si può dire quindi che i dirigenti della Cina di oggi sono confuciani Confucio ha vinto contro Lao Tse il taoismo e il suo amore per la natura è stato sconfitto la scuola Yidan si trova vicino all'ingresso occidentale dell'università di Pechino non è un edificio molto vistoso bisogna conoscere l'indirizzo per arrivarci e da fuori la scuola Yidan sembra una casupola popolare come ce ne sono tante nei vicoli della città vecchia di Pechino con davanti qualche aiuola polverosa un po' trascurata dentro lo spazio modesto sono tre stanze su un piano solo i libri sugli scaffali sono stati tutti regalati dalla università vicina e gli insegnanti sono dei volontari però dietro questa povertà di mezzi la scuola Yidan è una vera potenza ideologica nella Cina di oggi e si trova al centro di un fenomeno interessantissimo che è la rinascita del confucianesimo lo si vede subito qual è lo scopo della scuola Yidan perché appena entrati ci si imbatte nella riproduzione di un ritratto di confucio che accoglie il visitatore quindi questo pensatore che da 2500 anni influenza la Cina oggi ha il suo nuovo centro di venerazione di studio di culto in questa piccola scuola vicina all'università di Pechino quello che è interessante del revival del confucianesimo nella Cina di oggi è un fenomeno che ha molte facce prima di tutto è una reazione contro l'omologazione culturale all'occidente questo è un elemento molto forte la riscoperta delle radici e dell'identità nazionale nella Cina di oggi passa attraverso la riscoperta di confucio è anche per altri versi un'operazione politica incoraggiata dall'alto un'operazione voluta pilotata dagli attuali dirigenti comunisti per teorizzare una diversità cinese un modello asiatico dal significato perlomeno controverso alla scuola Yidan ho incontrato il suo fondatore si chiama Pangfei a 33 anni professore di filosofia e l'ha creata questa scuola confuciana nel 2001 e così spiega il perché di una scuola confuciana nella Cina di oggi dice Pangfei quando una nazione attraversa una trasformazione sociale profonda la gente si sente sperduta nella cosiddetta cultura moderna i giovani non sanno chi sono e cosa vogliono dalla vita in queste fasi difficili bisogna cercare aiuto nella saggezza degli autori antichi ecco la scuola Yidan è un centro dove vengono formati tanti docenti confuciani che poi sciamano dilagano nelle scuole di tutta la Cina sono diecimila volontari che hanno già insegnato i principi di base della filosofia confuciana a più di centomila ragazzi nelle scuole medie uno di questi volontari si chiama Li Tianqing ha 28 anni sorprendentemente non è affatto un filosofo per formazione ha un dottorato di ricerca in informatica si è laureato nella prestigiosa università di Pechino Tsinghua lavora come esperto di software in una multinazionale eppure ha deciso di dedicare il suo tempo libero a insegnare la saggezza degli antenati a scolaresche tra gli 8 e i 15 anni insegna a leggere poesie in calligrafia dell'era Tang cioè poesie disegnate dipinte dal 600 al 900 dopo Cristo insegna gli analecta di Confucio e le opere del discipolo Mencho e dice Li Tianqing l'informatico esperto di software Li Tianqing dice i giovani cinesi di oggi hanno più familiarità con la cultura occidentale che con la nostra questa è un'anomalia non si concilia con uno sviluppo sano del paese la riscoperta del confucianesimo nella Cina di oggi quel confucianesimo che viene insegnato dai volontari della scuola Li Dan è una reazione all'impatto devastante della globalizzazione sulla cultura e sull'identità dei cinesi un impatto che noi occidentali vediamo subito appena sbarcati a Pechino ci accorgiamo per esempio osservando la fisionomia urbana della capitale che questa città ha devastato la sua fisionomia antica pochissimo si è salvato della Pechino imperiale il 90% del tessuto urbanistico di oggi è una brutta bruttissima copia delle più brutte metropoli dell'occidente colate di cemento autostrade urbane grattacieli ma anche quelli che ci abitano spesso scimmiottano le mode occidentali si vestono come noi ascoltano i giovani cinesi la stessa pop music dei teenager americani europei c'è questo senso di una omologazione che inquieta preoccupa i cinesi e quindi c'è nella riscoperta di Confucio sicuramente qualcosa di nobile il tentativo di ritrovare le radici del proprio passato un passato che prima ancora del capitalismo globale il comunismo maoista cercò di estirpare dalla memoria dei cinesi fu la rivoluzione culturale di Mao a distruggere il ricordo del confucianesimo prima ancora che arrivassero la pop music MTV e i film di Hollywood ma c'è un'altra forma di recupero dell'eredità di Confucio questa di segno diverso è abbastanza preoccupante è il neoconfucianesimo autoritario che riesuma quella lettura di Confucio che fu particolarmente diffusa durante la dinastia dei Song dal 960 al 1279 dopo Cristo un confucianesimo che impone all'uomo di vivere in armonia nella società ma questa armonia si ottiene attraverso l'obbedienza assoluta il rispetto degli anziani e dei capi e questo confucianesimo diciamo così di destra è stato inventato non certo nella Cina di oggi probabilmente è cominciato il suo revival moderno nel Giappone un paese che i cinesi hanno a lungo considerato un modello perché è stato nel 900 l'unico paese asiatico capace di inseguire di agganciare la modernità occidentale poi più di recente a partire dagli anni 60 il padre padrone della città-stato di Singapore Li Kuan Yu ispiratore del miracolo economico dei dragoni del sud-est asiatico anche lui rilanciò Confucio sempre in chiave paternalistica e autoritaria ed ecco che oggi lo recuperano a sorpresa i dirigenti del partito comunista cinese lo recuperano perché questo Confucio forse tradito rispetto al Confucio originario di 2500 anni fa ma questo Confucio riletto nella versione più paternalista e autoritaria serve a dire ai cinesi di oggi che tramontata l'ideologia comunista il nuovo collante ideologico è il confucianesimo paternalista autoritario al posto dell'imperatore basta sostituire il partito unico c'è un personaggio della Cina antica che ha colpito l'immaginazione di uno dei più grandi scrittori del novecento l'argentino Borges ecco cosa scrive Borges di questo personaggio l'uomo che ordinò l'edificazione della quasi infinita muraglia cinese fu quel primo imperatore Shi Huang Ti che dispose anche che venissero dati alle fiamme tutti i libri scritti prima di lui le due vaste imprese le cinque o seicento leghe di pietra opposte ai barbari la rigorosa abolizione della storia cioè del passato procedevano da una persona contemporaneo delle guerre di Annibale Shi Huangdi re di Qin ridusse in suo potere i sei regni e annientò il sistema feudale e resse la muraglia perché le muraglie servivano di difesa bruciò i liberi perché l'opposizione invocava la loro testimonianza per elogiare gli antichi imperatori bruciare i libri ed erigere fortificazioni è compito comune dei principi la sola cosa singolare in Shi Huangdi fu la scala sulla quale operò e continua Borges recingere un orto o un giardino è cosa comune non così recingere un impero e neppure è una bagatella pretendere che la più tradizionalista delle razze rinunci alla memoria del suo passato mitico o vero 3.000 anni di cronologia avevano i cinesi e in quegli anni l'imperatore giallo e confucio e Lao Tse quando Shi Huangdi ordinò che la storia cominciasse con lui questo scriveva Borges ed è singolare pensare che Mao Tse Tung l'imperatore rosso il fondatore della Cina comunista ha tentato un'operazione analoga ha voluto che la storia ricominciasse con lui ma oggi la figura di Shi Huangdi ha riacquistato un prestigio straordinario perfino in Cina e quando visitate in Cina l'armata dei guerrieri di terracotta una delle maggiori attrazioni turistiche del paese vicino all'antica capitale imperiale di Shi'an forse non lo sapete ma state visitando il più grande monumento alla memoria del primo imperatore Shi Huangdi interessante è come questo ritrovamento archeologico è stato possibile se siete fortunati all'ing Tong all'ingresso del museo che custodisce l'armata dei guerrieri di terracotta potete incontrare un ometto gioviale che sta seduto per ore vicino al bancone della biglietteria e si lascia fotografare con i turisti e racconta la sua storia quello ometto a 74 anni è Yang Ji Fa il contadino che 30 anni fa si imbatté per caso in una meraviglia archeologica senza eguali al mondo portando alla luce la più grande eredità della Cina antica la scoperta avvenne veramente per caso perché la siccità colpiva i campi dei contadini quell'anno e Yang Ji Fa andò insieme con alcuni suoi compagni a scavare cercando un po' d'acqua urtò con un piccone contro un uomo di terracotta uno l'avanguardia di quello straordinario esercito che poi gli archeologi avrebbero portato alla luce era l'11 luglio 1975 quando il contadino Yang Ji Fa alla ricerca di una vena d'acqua per combattere la siccità nelle campagne vicino all'antica capitale imperiale di Xi'an si imbatte nella scoperta del primo guerriero di terracotta e dietro di lui gli archeologi cinesi che arrivano allertati da Yang Ji Fa intuiscono di avere a che fare con uno dei più importanti ritrovamenti nella storia dell'umanità una ricchezza che tanti turisti stranieri ormai hanno potuto vedere 8000 soldati 8000 statue individuali di dimensioni imponenti da 1,75m a 2m di altezza ciascuno ben più alti fra l'altro del cinese medio di oggi un esercito magnifico che è diventato l'immenso simbolo pietrificato della civiltà cinese in qualche modo proporzionato perfino alle dimensioni demografiche della Cina e alla profondità nel tempo della civiltà di questo paese e questa possente misteriosa armata di terracotta era andata persa per due millenni se ne era persa ogni traccia al punto che la sua descrizione che pure esisteva tramandata nell'anno 100 avanti cristo nelle memorie storiche di Sima Xi'an l'erodoto cinese quella descrizione per secoli era stata scambiata per pura fantasia per una leggenda ma la scoperta archeologica dell'armata di terracotta di Xi'an è particolarmente fortunata per il periodo storico in cui viene a cadere il contadino che con la sua piccozza urta contro il soldato di terracotta lo fa nel 1975 quando si sta esaurendo la rivoluzione culturale ancora un anno e Mao Zedong sarebbe morto è quindi un momento cruciale nella storia della Cina una biforcazione il momento in cui sta per finire quella virulenta radicalizzazione del comunismo cinese che aveva tentato di amputare la memoria storica del paese aveva rinnegato il passato aveva messo all'indice qualunque forma di venerazione dell'antichità per cui perfino gli studi archeologici ne avevano sofferto durante la rivoluzione culturale erano state chiuse università erano stati distrutti musei erano stati bruciati templi l'archeologia era bollata come una sorta di nostalgia decadente di un passato che la Cina moderna doveva superare ecco in un certo senso Mao Tse Tung ricorda l'imperatore Shi Huang Di proprio l'imperatore che aveva fatto costruire l'armata dei guerrieri di Terracotta per custodire la sua tomba quelli erano i guerrieri che dovevano vigilare sulla sua salma Mao Tse Tung come il primo imperatore della Cina Shi Huang Di voleva che la storia ricominciasse da lui voleva che la storia della Cina fosse scritta su una pagina bianca senza condizionamenti dal passato ma quello che è interessante è che insieme con la scoperta dell'armata di Terracotta degli 8000 guerrieri sepolti nella capitale imperiale di Xi'an parte un'operazione di rivalutazione del primo imperatore l'imperatore che ha fatto costruire la grande muraglia e che ha fatto costruire l'armata di Terracotta per custodire la propria tomba oggi è al centro di una nuova forma di culto della personalità in Cina perché viene identificato con il momento della riunificazione dell'impero cinese un potere politico forte che supera la disgregazione l'anarchia degli stati guerrieri è la rivalutazione del passato imperiale che esplode proprio oggi che la Cina torna ad essere una superpotenza chi è il primo imperatore Shi Huangdi e perché oggi è al centro di una sorta di nuovo culto della personalità in Cina l'imperatore Shi Huangdi prima ancora di avere fatto costruire l'armata dei soldati di Terracotta è il sovrano che completa l'unificazione della Cina nel 221 avanti Cristo soggiogando le sette dinastie rivali è quindi il capostipite di una lunga catena di dinastie che hanno poi assicurato la continuità dell'impero cinese fino all'anno 1911 l'anno della Repubblica è in qualche modo Shi Huangdi il padre autentico della Cina che infatti prende uno dei suoi nomi antichi dalla dinastia Qing e soprattutto il primo a collegare tanti pezzi di fortificazioni sparse trasformandoli nell'embrione della Grande Muraglia è l'iniziatore di una rete stradale unificata è lui che inaugura la prima forma di un'amministrazione pubblica con funzionari retribuiti dal potere centrale crea uno standard nazionale per la lingua per la scrittura per la moneta insomma dove c'erano il caos e il disordine impone l'autorità e la stabilità cioè esattamente quei valori che la classe dirigente attuale della Cina tiene in massima considerazione ecco quello che è interessante dal momento in cui viene riscoperta l'armata di terracotta sepolta vicino all'antica capitale di Xi'an fino ad oggi è il significato che la classe dirigente cinese dà alla riscoperta del primo imperatore Xi'an di prima di Xi'an di c'era il caos c'era il periodo degli stati guerrieri dopo Xi'an di grazie alla sua repressione grazie a un regime autocratico anche crudele quando necessario la Cina diventa una grande potenza non è difficile leggere dentro questa metafora una rappresentazione una legittimazione del potere attuale tra l'altro Xi'an di è anche colui che manda alla morte tutti gli intellettuali confuciani della sua epoca con uno stratagemma li attira dentro un enorme buca che ha fatto scavare dicendo che lì dentro è stata ritrovata una zucca di proporzioni inusitate una gigantesca zucca forse questa è una leggenda quella della zucca ma sembra proprio vero che abbia poi fatto seppellire vivi più di 400 intellettuali intellettuali scomodi che disturbavano il suo potere mettevano in discussione la sua autorità usavano Confucio per sostenere che l'imperatore era troppo severo con i suoi sudditi ecco il potere di oggi si riconosce più con il primo imperatore Shi Huangdi che non invece con l'interpretazione democratica del confucianesimo il potere cinese di oggi rivaluta il primo imperatore Shi Huangdi perché si legittima presso i cittadini cinesi con l'ordine e con la stabilità a qualunque prezzo anche al prezzo della censura della libertà politica calpestata della persecuzione dei dissidenti la Cina di Hu Jintao e di Wen Jiabao la Cina del ventunesimo secolo la Cina superpotenza dell'economia globale riscopre la figura del primo imperatore Shi Huangdi e dice l'alternativa al potere assoluto è il caos è l'anarchia il primo imperatore della Cina Shi Huangdi in realtà è durato pochissimo la sua dinastia è crollata appena quattro anni dopo la sua morte sembra quindi che Shi Huangdi abbia costruito sulla sabbia che quella furia repressiva quella che lo spinse a bruciare tutti i liberi confuciani a uccidere quattrocento intellettuali a costruire la grande muraglia sembra che si sia autodistrutto ma in realtà dal primo imperatore da Shi Huangdi inizia anche un'espansione imperiale della Cina inizia la fase in cui la Cina conquista tutte le regioni meridionali fino al fiume rosso e perfino il Vietnam del nord e sicuramente questa è una delle ragioni del fascino di Shi Huangdi nella superpotenza cinese di oggi un fascino e un culto della personalità che si sono tradotti perfino nel più popolare di tutti i mezzi di comunicazione una superproduzione cinematografica il film Hero del grande regista cinese Zhang Yimou l'autore di Lanterne Rosse il film Hero è stato tutto centrato sulla vicenda del primo imperatore Shi Huangdi un film con più ricco budget nella storia del cinema asiatico con la benedizione di Quentin Tarantino la distribuzione internazionale del gruppo hollywoodiano Miramax Hero ha battuto record in cassa in tutto il mondo perfino negli Stati Uniti ma soprattutto è stato un film culto per i cinesi il film ha inizio nel momento in cui il primo imperatore Shi Huangdi combatte ancora contro le dinastie rivali che deve soggiogare per unificare la Cina e lui stesso l'imperatore è nel mirino di tre assassini tre sicari spada spezzata cielo e neve volante alla fine tutti gli assassini vengono sconfitti o smascherati e l'ultimo senza nome anziché realizzare la sua missione anziché assassinare il re si arrende con una motivazione molto particolare si inchina alla ragione di stato è il sovrano in questo film ad avere l'ultima parola se vengo eliminato spiega sarà il trionfo dei signori della guerra i combattimenti non finiranno mai e a soffrire sarà il popolo io uso la violenza per sconfiggere la violenza per creare ordine è la legittimazione dell'ordine imperiale della stabilità ottenuta attraverso il dispiegamento degli eserciti ecco singolare il fatto che il film Hero sia firmato da Jiang Yimou un regista che era stato un contestatore era stato un dissidente aveva firmato dei film di denuncia sociale dei film contro il regime e invece quando esce Hero addirittura l'attore protagonista Tony Loing spada spezzata durante la conferenza stampa di presentazione del film a Pechino si esprime così condivido i valori di pace e di umanità di questo film per esempio durante gli incidenti del 4 giugno 1989 cioè gli incidenti di protesta di piazza Tiananmen io dice l'attore non partecipai alle manifestazioni perché ciò che fece il governo cinese era giusto mantenere la stabilità dell'interesse generale e per il bene di tutti ecco quello che è diventato il revisionismo storico del cinema cinese è il messaggio che piace di più al potere attuale nella riscoperta del primo imperatore Shi Huangdi il messaggio dell'ordine dell'autorità che prevale su qualunque altro valore l'interpretazione della storia ci aiuta sempre a capire una società forse ci aiuta ancora di più quando siamo di fronte a un regime autoritario un regime totalitario come quello cinese ci confessa quali sono le sue aspirazioni che cosa pensa di se stesso quali sono i suoi valori spesso attraverso delle operazioni di rilettura della storia a volte di revisionismo storico la storia in un paese come la Cina di oggi insegnata nei manuali scolastici è uno dei modi più potenti per trasmettere una visione del paese alle nuove generazioni la storia insegnata la storia ufficiale è anche una forma di propaganda di indottrinamento per questo è particolarmente interessante seguire certe operazioni di riscoperta o di riabilitazione di grandi figure del passato che avvengono nella Cina di oggi e l'ultima di queste riabilitazioni una di quelle più interessanti curiose sorprendenti è la riabilitazione di Gengis Khan Gengis Khan fu probabilmente il più grande conquistatore di tutti i tempi innovando nella strategia e nella tecnologia militare se così si può dire costruì un impero che univa Cindia Cina più India ma anche il mondo islamico perfino la Russia la Polonia e l'Ungheria ma fino a poco tempo fa Gengis Khan è stato perseguitato da una pessima immagine la reputazione del guerriero sanguinario e dello sterminatore analfabeta una sorta di feroce ignorante ed ecco che adesso una nuova rivelazione cambia tutto quello che si credeva di sapere su Gengis Khan e impone di rendergli giustizia perché per la prima volta abbiamo la prova che il condottiero mongolo sapeva leggere e scrivere era perfino attratto dalla religione e studiava la storia dei suoi tempi questo è quello che ha scoperto uno studioso di fama internazionale Tengus Bayarin cittadino cinese ma di etnia mongola appartenente alla minoranza etnica perché oggi un pezzo della Mongolia quella che si chiama la Mongolia interna fa parte della Cina è una regione della Cina ecco Tengus Bayarin ha dedicato tutta la sua vita allo studio di Gengis Khan ed è sempre rimasto vicino alle origini di quell'impero leggendario perché vive e fa ricerca storica all'università di Hohot che appunto è la capitale della Mongolia interna la vera novità sorprendente che lo studio di Bayarin su Gengis Khan quello che rivaluta la figura del guerriero mongolo oggi viene esaltato dai mass media ufficiali ed è la cassa di risonanza del regime di Pechino che consente alla recente scoperta di questo studioso mongolo di fare il giro del mondo e quindi con l'imprimatur ufficiale del governo cinese di oggi che parte la grande operazione di riabilitazione di Gengis Khan in finire del 2004 l'agenzia di stampa ufficiale del governo cinese la Xinhua nuova Cina segnala per prima il ritrovamento da parte dello studioso mongolo Tengus Bayarin di un editto autografo scritto da Gengis Khan nel 1219 dentro un libro di meditazione dedicato a un religioso taoista così dice questo messaggio autografo di Gengis Khan io ho ordinato ai miei ministri di compilare un manuale tratto dalle tue lezioni e lo leggerò personalmente l'autore di questo breve testo è proprio lui Gengis Khan il capo delle orde barbare che terrorizzarono l'intero continente eurasiatico e la data è sorprendente perché le prime tracce storiche di una scrittura in lingua mongola risalgono proprio all'inizio del XIII secolo quando Gengis Khan che era nato nel 1167 aveva ormai più di 40 anni e finora gli storici escludevano che lui avesse potuto imparare l'alfabeto così tardi al contrario secondo Bayarin le tracce autografe ritrovate sono scritte in uno stile e in un tono assolutamente inconfondibili le prove che lo studioso mongolo ha accumulato hanno superato il vaglio di tutti i suoi colleghi la comunità internazionale degli storici ha convalidato questa scoperta e quindi è adesso dimostrato senza alcun dubbio che Gengis Khan scriveva e la sua capacità di lettura era analoga a quella dei pochi letterati mongoli suoi contemporanei poteva leggere la versione mongola di un sermone taoista che era un testo niente affatto facile ora l'attrazione verso il taoismo è forse l'aspetto più sconcertante di questa scoperta perché il taoismo è una religione impregnata di misticismo di ricerca di una spiritualità interiore di tensione verso l'armonia con la natura e contrasta molto con quello che sappiamo di Gengis Khan della sua storia e delle sue imprese di guerriero e di conquistatore se al taoismo si aggiunge poi l'interesse dimostrato di Gengis Khan per lo studio della storia davvero questo personaggio si arricchisce di una dimensione inedita e diventa ancora più interessante ancora più attraente sprigiona un fascino proporzionale al mistero della sua grande impresa di guerriero quello che ha fatto di lui una leggenda che ha continuato a sprigionare interesse nel mondo intero per secoli perché Gengis Khan era il capo di un popolo minuscolo fatto di tribù di cacciatori sparpagliate per le steppe della Mongolia eppure partendo da questa base etnica del suo dominio riuscì a terrorizzare e sconfiggere militarmente stati ben più popolosi ben più ricchi e organizzati del suo Gengis Khan fu fulmineo e irresistibile quanto Alessandro Magno ma ancora più fortunato nella dimensione territoriale delle sue conquiste per di più a differenza di Alessandro Magno fu capace di tramandare il suo impero a due generazioni di eredi nasce nel 1167 nella regione del fiume Onon da una famiglia di guerrieri mongoli ed è solo nel 1206 che Temujin si fa chiamare il Gengis Khan un titolo che letteralmente significa il signore dell'universo nel 1206 riesce a unire le varie tribù mongole di pastori nomadi che vagavano all'estremità orientale delle steppe asiatiche cioè a nord del deserto di Gobi e sotto la sua guida in pochissimi anni queste orde guerriere dilagano verso la Cina travolgono ogni resistenza riescono a soggiogare civiltà ben più antiche e strutturate nell'Asia islamica e nell'Asia occidentale nel 1215 cade Pechino poi i cinesi Han vengono sgominati a turno anche gli Yurken e i Dengxiang i persiani i russi i turchi la potenza di espansione di Gengis Khan non si smorza neppure dopo la sua morte che avviene durante una spedizione in occidente nel 1227 nel 1279 quindi a 50 anni dalla sua morte i suoi eredi continuano l'avanzata verso sud e spugnano Hangzhou la capitale cinese meridionale della dinastia dei Song che poi diventerà una delle città favorite del Kublai Khan discendente di Gengis Khan e ai tempi di Marco Polo proprio Hangzhou è probabilmente la metropoli più popolosa ricca e raffinata del mondo intero sotto il regno del Kublai Khan è giunta al suo apogeo e sia pure divisa tra dinastie diverse la civiltà mongola in Cina e mogul irradia la sua influenza perfino sull'India è un discendente di Gengis Khan quel imperatore Akbar illuminato religiosamente ecumenico che segna con la sofisticatezza della sua civiltà un pezzo importante della storia dell'India in Asia minore gli eredi di Gengis Khan si insediano nella pianura del Volga e fino all'Europa centroorientale quindi per la sua estensione geografica fu probabilmente il più grande impero di tutti i tempi e tuttavia la specificità del contributo dei mongoli alle nazioni sottomesse è sempre stata discussa forse sottovalutata nel caso di Akbar in India per esempio la grandezza del suo regno è stata attribuita soprattutto alla capacità di lasciarsi permeare dalle culture altrui infatti Akbar riuscì a fondere l'influenza indiana persiana e araba a creare nel suo regno una civile tollerante convivenza tra religioni induista islam il cristianesimo però ecco questi meriti in qualche modo non vengono attribuiti al carattere mongolo della dinastia e il pregiudizio antimongolo nasce proprio dalla figura di Gengis Khan e il suo nome è sempre rimasto sinonimo di potenza ma anche di barbarie e di arretratezza l'unica superiorità che si è riconosciuta sempre al condottiero mongolo è la padronanza di una tecnologia militare avanzatissima rispetto ai suoi tempi cioè la forza d'urto della cavalleria leggera molto rapida in perenne movimento con cavalieri addestrati all'uso di tutte le armi durante le loro veloci cariche incluse le armi da fuoco che si affermano soprattutto sotto la dinastia Yuan del nipote Kublai Khan e a questo si aggiunge naturalmente per il fondatore Gengis Khan il marchio indelebile di una mitica ferocia l'immagine di un guerriero che non esitava davanti a nessun massacro perché Gengis Khan era così feroce da cosa nasce la leggenda di un guerriero così spietato questa caratteristica secondo molti storici ha le sue vere radici in una spiegazione demografica ed economica i mongoli all'epoca di Gengis Khan quindi nel 1200 dopo Cristo erano popolazioni minacciate nelle loro regioni originarie dalla carenza d'acqua e da un grave processo di desertificazione dei problemi che paradossalmente e tristemente si stanno riproducendo in quell'area proprio oggi otto secoli dopo Gengis Khan perché la Mongolia interna è una delle zone della Cina dove avanza la morsa del deserto ma quindi all'epoca di Gengis Khan quella ferocia quei massacri si spiegavano con la spietata determinazione di un piccolo popolo costretto alla conquista territoriale da una drammatica logica di sopravvivenza sta di fatto che la visione unidimensionale e riduttiva del Gengis Khan ha resistito per secoli è una condanna che lo ha inseguito fino a poco tempo fa se ne trova una traccia anche nella poesia Neve scritta dal fondatore della Cina comunista Mao Zedong Mao in quella poesia descrive il leader mongolo con un certo rispetto con il rispetto dovuto a un grande guerriero ma al tempo stesso ripete e fa proprio lo stereotipo del barbaro sprovvisto di cultura scrive Mao Zedong Gengis Khan amato figlio del cielo per un solo giorno non sapeva che tendere il proprio arco di contro all'aquila dorata ecco adesso noi possiamo ristabilire la giustizia e la verità a favore di Gengis Khan e grazie alla scoperta clamorosa dello studioso mongolo Bayarin sappiamo che Gengis Khan era un uomo per i suoi tempi colto un avido lettore di storie studiava i paesi che conquistava cercava di imparare delle lezioni dagli imperi che lo avevano preceduto non solo lezioni nell'arte della guerra in cui lui eccelleva ma anche nell'arte del governo e l'incomprensione che ha perseguitato il personaggio Gengis Khan probabilmente dovuta all'atteggiamento che lui adottò verso l'elite letteraria degli Han cioè dei cinesi che aveva sottomesso a differenza di altri conquistatori stranieri di altre dinastie i mongoli non si lasciarono mai sinizzare fino in fondo diffidavano degli intellettuali cinesi perché temevano che la loro influenza potesse minare dall'interno la solidità dell'impero perciò Gengis Khan e poi i suoi eredi adottarono spesso una forma di discriminazione razziale quasi un apartheid etnico che regolava l'accesso ai ranghi alti delle loro gerarchie eppure oggi il rovesciamento delle parti il fatto che oggi i mongoli sono diventati un piccolo popolo un'etnia debole marginale minoritaria in preda una sinizzazione galoppante dominati dai cinesi consente a Pechino questa nuova straordinaria sorprendente operazione di revisionismo storico e il governo di Pechino approva questo giudizio magnanime su Gengis Khan il nuovo impero celeste che sta nascendo nella Cina del ventunesimo secolo ha deciso di cooptare anche Gengis Khan nel pantheon delle glorie passate i suoi trofei di colpo non sono più solo mongoli ma danno lustro all'intera nazione ed ecco che il mito di Gengis Khan conosce perfino un rilancio popolare una mega produzione televisiva 28 puntate di un serial televisivo che ha avuto un record di audience è stato plebiscitato dai telespettatori della Repubblica Popolare e quei cinesi che lo subirono come un tiranno straniero otto secoli dopo si appropriano del fascino delle sue geste Hangzhou non è probabilmente la città cinese più nota agli italiani è una città anche singolare per chi la scopre la prima volta il cielo azzurro che si rispecchia nel lago le barche dei turisti che scivolano sull'acqua e il verde dei boschi attorno potrebbero farci sentire sul lago di Garda se non fosse per le antiche dimore imperiali col tetto a pagoda che stanno intorno al lago e fino a un decennio fa Hangzhou era soltanto una tranquilla cittadina turistica nella provincia del Zhejiang che si cullava nel ricordo dei 2200 anni di storia che l'avevano vista fra le sette capitali imperiali della Cina i gerarchi del partito comunista si riservavano di solito per la loro villeggiatura estiva le più belle case della passeggiata lungo il lago di Hangzhou e per noi italiani però c'è un motivo di attrazione una statua di Marco Polo che troneggia in città a memoria dei lunghi soggiorni che il mercante veneziano fece nei suoi viaggi sulla via della seta e in particolare tra il 1292 e il 1294 oggi in realtà a causa della sua collocazione geografica strategica 140 km a sud-ovest di Shanghai sul delta del fiume Yangtze l'autostrada fluviale che porta le navi mercantili verso il mare Hangzhou è una delle basi da cui l'industria cinese ha lanciato la sua conquista del mondo in particolare Hangzhou è una città chiave per capire quel processo che si è scatenato nel 2005 all'inizio del 2005 per effetto degli accordi firmati in seno all'organizzazione del commercio mondiale la World Trade Organization gli accordi di liberalizzazione del commercio tessile sono gli accordi firmati dai paesi ricchi inclusa l'Italia che hanno consentito dal primo gennaio del 2005 al Made in China l'industria il tessile e dell'abbigliamento di invadere tutti i mercati mondiali ebbene Hangzhou si era preparata a lungo proprio per quel momento e attorno al lago e alla cittadina storica che ospita la statua di Marco Polo era cresciuta una moderna metropoli di 7 milioni di abitanti la vera punta avanzata di quella formidabile macchina da guerra che è il Made in China e a parte le bellezze del lago e delle pagode attorno al lago della statua di Marco Polo Hangzhou in realtà assomiglia alle più moderne metropoli della Cina decine e decine di nuovissimi fiammanti palazzi dormitorio sono stati costruiti in tempi record di fianco alle fabbriche che sono proliferate alla periferia di Hangzhou con la mensa la scuola per i figli e la sala del karaoke che sono inclusi nei prefabbricati perché il moderno esercito proletario degli operai cinesi perda il minor tempo possibile nello spostarsi da casa al posto di lavoro e nel 2004 alla vigilia della liberalizzazione del commercio mondiale a Hangzhou la produzione tessile è cresciuta del 300% 400 multinazionali di 28 paesi sono venute a investire a delocalizzare mano d'opera per prepararsi al grande assalto del made in china nel resto del mondo a noi italiani la statua di marco polo sul lungo lago di Hangzhou ricorda un'epoca in cui la seta della cina valeva così tanto da indurre i mercanti veneziani ad attraversare il mondo intero e qualche volta perfino a rischiare la vita per impossessarsi di quella seta e venderla in Europa ma per i cinesi quella statua ha un significato diverso e i ricordi che evoca sono diversi la statua di marco polo per un cinese è la traccia di un passato in cui il loro impero quello che nel nome in mandarino si chiama Chonguo è stato letteralmente il paese di mezzo questo è il nome della cina in cinese il paese di mezzo cioè il centro del mondo perché questo era ai tempi di marco polo e anche molto prima e molto dopo la cina era la nazione più ricca più sviluppata più avanzata del pianeta questo spiega del resto lo shock culturale che i racconti di marco polo producono in italia quando vengono letti quando 750 anni fa marco polo racconta la cina agli occidentali anche chi crede la metà della metà dei resoconti del suo milione resta abbagliato e sedotto da quegli splendori marco polo è un reporter di talento un giornalista antelitteram ma la realtà che lui vede che cerca di raccontare è perfino troppo vasta per i suoi lettori e la sproporzione tra l'esperienza che lui vive in cina e il mondo europeo che si è lasciato alle spalle è inverosimile quella che procurerà a marco polo la fama ingiusta di essere un cacciaballe uno che ha esagerato un raccontatore di favole la verità è che l'europa contemporanea di marco polo è una zona del mondo a quei tempi introversa e fanatica è soprattutto una periferia quasi deserta dal punto di vista demografico se vista dalla cina è del tutto sottosviluppata venezia la venezia di marco polo che pure allora era una delle città più ricche e popolose d'europa a quei tempi ha 160.000 abitanti ma han giò la capitale della dinastia song quando ci arriva a marco polo nel 1278 ha 2 milioni di abitanti cioè han giò ha più abitanti a quel tempo di tutta l'inghilterra ed è così per la maggior parte dei centri urbani europei considerati grandi nel 200 che invece contano abitanti a poche decine di migliaia mentre la cina di quell'epoca ha 20 città sopra il mezzo milione di abitanti ed è stato stimato da storici dell'economia che all'epoca in cui marco polo visita han giò la cina produce da sola i due terzi di tutta la ricchezza mondiale del resto agli albori della dinastia song cioè addirittura due secoli prima che arrivi marco polo la cina ha già inventato la stampa molto prima di gutenberg e la usa la usa massicciamente per diffondere una produzione letteraria che non ha uguali al mondo la cina ci ha preceduti nell'inventare la polvere da sparo e la bussola ha molte lunghezze di vantaggio su di noi nell'invenzione di un'industria che poi sarà fondamentale per la rivoluzione industriale europea cioè la siderurgia ancora prima che marco polo scopra la cina di hangzhou e del kublai khan quel paese ha una supremazia evidente da secoli in settori strategici come la cantieristica e la tecnologia navale il genio civile l'ingegneria dei ponti sospesi l'idraulica la costruzione delle chiuse e delle prime turbine il sistema per esempio dei grandi canali di Pechino di quei canali che riescono a trasformare una città come Pechino circondata di deserto di montagne aride una città perennemente afflitta dalla siccità riescono a trasformarla in una città di giardini di laghetti di meravigliose ville imperiali circondate immerse nel verde questi miracoli di ingegneria idraulica che portano l'acqua attraverso i canali a Pechino non saranno eguagliati neppure dai navigli lombardi progettati da Leonardo da Vinci la Cina prima ancora che arrivi Marco Polo ha mosso i primi passi nella fabbricazione in serie in qualche modo ha prefigurato il fordismo la catena di montaggio la produzione di massa perfino quell'esercito di 8000 guerrieri di terracotta scoperto nelle viscere della terra vicino alla capitale imperiale di Xi'an nel secondo secolo a.C. quell'esercito è in qualche modo la prova che esistono già delle tecniche di produzione di massa perché gli 8000 guerrieri non sono certo tutti uguali anzi i cinesi vantano l'individualità della produzione artigianale il fatto che ogni guerriero ha una fisionomia particolare e tuttavia la base di costruzione di queste statue è la stessa c'è stato quindi una sorta di gigantesco montaggio di catena di montaggio che ha costruito anche l'esercito di terracotta la Cina quando arriva invece Marco Polo nel 1200 possiede un'economia finanziaria più sviluppata di quella europea con un'ampia circolazione di carta moneta un libero mercato per il trasferimento della proprietà terriera e addirittura delle forme embrionali di quello che noi chiameremmo un welfare state e poi naturalmente quella Cina la patria della più vasta burocrazia mai esistita ha visto nascere un'idea di stato un corpo di funzionari e di regole che saprà tenere unito un territorio pari ai due terzi degli Stati Uniti per un periodo più lungo di qualunque altra civiltà mondiale e quindi contrariamente allo stereotipo diffuso sul dispotismo orientale la Cina di Marco Polo pone perfino dei limiti all'arbitrio del sovrano non è del resto neanche vero l'altro luogo comune che descrive una Cina così orgogliosa della propria superiorità da rinchiudersi in uno splendido isolamento dal resto del mondo rifiutando di conoscere di scoprire altri paesi altre civiltà quella fase di chiusura della Cina verso l'esterno ci sarà ma arriverà più tardi molto più tardi nel settecento ottocento e quello sarà il momento della crisi il momento del declino di cui approfitteranno l'Occidente e il Giappone per allungare le mani sull'impero cinese in disfacimento in decomposizione e afferrarne dei pezzi e occuparne dei territori ma la Cina di Marco Polo è ancora davvero Zhonguo quello che significa il regno di mezzo il centro del mondo e anche il crocevia la Cina in cinese si dice Zhonguo che significa regno di mezzo può voler dire il centro del mondo ma anche il crocevia e la Cina che scopre Marco Polo e che tenta di raccontarci nel milione sfidando l'immaginazione dei suoi lettori è davvero un crocevia perfino prima che arrivasse il mercante veneziano Hangzhou al passaggio del primo millennio dell'era cristiana quindi nel medioevo quando l'Europa sta vivendo la sua epoca più buia e più depressa in quella che era allora la capitale cinese a Xi'an vivono 25.000 stranieri e altri 100.000 ce ne sono a Guangzhou e a Guangzhou quando poi arriva Marco Polo e siamo sotto la dinastia mongola dei Khan con il Kublai Khan in Cina sono rappresentate e tollerate tutte le grandi religioni d'Eurasia il buddismo che è nato in India alla stessa epoca in cui in Cina nasceva il confucianesimo cioè nel 500 a.C. e insieme l'Islam venuto dall'Arabia e insieme il cristianesimo romano cattolico quello bizantino e perfino il cristianesimo nestoriano e insieme la religione ebraica e il taoismo cinese i Khan hanno cooptato nella tecnocrazia dei loro funzionari molti stranieri forse anche perché non vogliono non vogliono farsi influenzare troppo dai cinesi essendo loro una dinastia di origine mongola non vogliono finire prigionieri della casta degli intellettuali confuciani cinesi sta di fatto che i Khan comprano come alti funzionari della loro amministrazione tanti stranieri compreso Marco Polo il mercante venuto da Venezia che diventa per una fase della sua vita un ambasciatore del Khan ecco la Cina di allora non solo è più avanzata tecnologicamente non solo è più ricca è più sviluppata a forme primitive che prefigurano l'industrializzazione ma anche la visione globale che manca all'Europa e la sua superiorità quella che trapela nelle pagine perfino troppo fantasiose del milione ha delle radici ancora più antiche dell'epoca di Marco Polo delle radici che affondano in un passato davvero lontanissimo perché mille anni prima di Pericle e dell'età aurea di Atene i cinesi già filavano la seta lavoravano il bronzo e la giada con una maestria superiore a tutti gli altri popoli della terra e alcuni dei capolavori della poesia mondiale di tutti i tempi nascono in Cina quando Alessandro Magno è ancora un bambino nel 240 avanti Cristo gli astronomi cinesi studiano il passaggio della cometa di Halley con dieci secoli di anticipo sugli astronomi occidentali quando l'impero romano si avvia verso la caduta quello cinese estende il proprio controllo su un'area geografica che spazia dall'Iran al Vietnam ecco è dall'anno 1000 almeno fino ai nostri giorni in almeno sette secoli su dieci l'economia cinese è stata la più ricca e produttiva del pianeta per noi per il nostro eurocentrismo quello che rimane è il ricordo dell'ultima epoca quella dei due secoli delle umiliazioni cinesi della Cina declinante sottomessa e umiliata ma per i cinesi quella statua di Marco Polo sul lungo lago di Hangzhou ricorda un tempo molto più lungo il tempo della storia in cui loro sono stati i primi indovinate chi ha circunnavigato il globo 87 anni prima di Cristoforo Colombo e 114 anni prima di Magellano la risposta è un ammiraglio cinese Zheng He che esplorò l'occidente in sette viaggi dal 1405 al 1433 percorrendo 50.000 km e visitando 37 nazioni un personaggio così importante nella storia della Cina che a un certo punto fu l'oggetto di una venerazione quasi come un semidio di recente è stato ritrovato nella città meridionale di Xiamen un antico tempio di epoca Qing dedicato al culto di Cheng He l'ammiraglio l'importanza di questo personaggio invece è totalmente ignorata in occidente ebbene su mandato dell'imperatore Cheng Zhu nel 1405 una flotta di dimensioni ineguagliate al mondo salpa dal porto di Suzhou chiamata la Venezia cinese tuttora la cittadina di Suzhou ha qualcosa che ricorda la nostra Venezia una città fatta di canali di ponticelli antichi al comando di quella flotta nel luglio del 1405 c'è un eunuco imperiale ai suoi ordini 208 navi 27.800 uomini le navi più grandi sono lunghe 146 metri e larghe 60 ciascuna può trasportare un migliaio di passeggeri e dispone dei mezzi tecnici più avanzati di quell'epoca nessun paese europeo poteva competere con la Cina di allora per la qualità di quei nove alberi delle carte nautiche o delle bussole di bordo la spedizione del 1405 serve a esplorare il mare del sud della Cina fino all'isola di Java in Indonesia e dell'or Sri Lanka ma è solo una prima prova nei 28 anni successivi la grande armada cinese salpa per ben otto volte diretta a occidente viaggia dallo Yemen all'Iran dalla Somalia alla Mecca e l'impero cinese allarga a dismisura le sue conoscenze e la sua influenza un controverso bestseller angloamericano scritto da uno storico navale nonché ex ufficiale della British Navy Kevin Menzies intitolato 1421 l'anno in cui la Cina scoprì il mondo sostiene addirittura che l'ammiraglio eunuco Zheng He non navigò solo verso ovest e i suoi exploits furono ancora più clamorosi di quanto si sapesse l'autore lo storico Menzies afferma di aver raccolto le prove che l'ammiraglio cinese raggiunse con la sua flotta l'America 70 anni prima che Colombo che Cristoforo Colombo sbarcasse ai Caraibi e un pezzo forte di questo teorema secondo Menzies è il ritrovamento da parte dei portoghesi nel 1424 di una mappa geografica disegnata dai cinesi dove compare distintamente l'America 600 anni fa salva dall'allora capitale imperiale di Nanchino la flotta di 208 navi fra ammiraglie bastimenti militari vascelli per la ricerca scientifica grandi giunche mercantili per il trasporto di truppe e di cavalli di sete preziose e di acqua potabile è l'invincibile armada con 28.000 uomini a bordo che non fu eguagliata nei secoli successivi neppure dagli spagnoli o dagli inglesi all'apice della loro potenza navale solo nella prima guerra mondiale gli oceani avrebbero rivisto un simile dispiegamento di forze dal 1405 al 1433 quella flotta dei tesori effettua sette memorabili spedizioni che dalla Cina la portano a esplorare e colonizzare economicamente i paesi affacciati sull'oceano indiano l'Africa orientale il golfo persico e i confini meridionali dell'Egitto a quell'epoca i cinesi sanno anche molte cose sull'Europa ma a causa del basso livello di sviluppo europeo rispetto allo sviluppo cinese non ne sono attratti per questo non si spingono fino alle rive del Mediterraneo perché sanno di trovarci solo lana vino poche altre cose che hanno bisogno di comprare è un'epoca in cui una parte dell'Europa deve ancora uscire dalla retratezza del Medioevo le repubbliche marinare italiane sono floride ma troppo piccole per competere o confrontarsi con la Cina la Cina è l'unica superpotenza mondiale l'autorità del suo imperatore Giudì che si faceva chiamare Yongle cioè gioia eterna si estende a quei tempi sui mari dalla Corea al Giappone dall'India all'Indonesia dal Kenya a Aden e sarebbe bastato poco perché i cinesi colonizzassero l'Europa cambiando il corso della storia ma non lo fecero invece un secolo dopo i conquistadores spagnoli esportarono il dominio dell'uomo bianco nel nuovo mondo e tuttavia l'epopea delle spedizioni navali cinesi ignorata dei nostri manuali di storia eurocentrici e riscoperta solo di recente è piena di sorprese viene ribaltata fra l'altro l'opinione tradizionale che abbiamo avuto sulla Cina di allora la credevamo una nazione ricca sì ma ripiegata su se stessa orgogliosa e indifferente verso il resto del mondo è tutto sbagliato così come è sbagliato lo stereotipo secondo cui la Cina anche al suo apogeo fu sempre soltanto una potenza militare terrestre al contrario l'imperatore Giudi volle lanciare le sue flotte alla conquista degli oceani perché in qualche modo era non tanto un imperialista un conquistatore ma si potrebbe dire un neoliberista antelitteram e cioè ripudiando la saggezza convenzionale del suo tempo soprattutto la saggezza della scuola confuciana ancora convinta che l'unica fonte di ricchezza fosse l'agricoltura l'imperatore Gioia Eterna era deciso a incoraggiare i mercanti e gli scambi internazionali in un certo senso con una visione che oggi ci appare davvero profetica quella Cina era già convinta di avere tutto da guadagnare dalle esportazioni sui mercati stranieri e singolare davvero anche il personaggio il protagonista delle imprese della grande armada Zheng He promosso grande ammiraglio all'età di 34 anni dopo essere stato un brillante generale dell'esercito era un eunuco castrato da bambino per entrare al servizio dell'imperatore nella gerarchia del potere cinese gli eunuchi ricoprivano spesso funzioni cruciali lungi dall'essere soltanto come crediamo noi i guardiani delle concubine del palazzo imperiale in realtà erano consiglieri del sovrano per il protocollo per le finanze della casa reale e per la gestione del personale ma perfino per le consuetudini cinesi era rarissimo che un eunuco arrivasse a eccellere nell'arte della guerra come Zheng He Zheng He il grande ammiraglio eunuco che all'inizio del quattrocento porta un'invincibile armada di 208 navi alla conquista del mondo non ha soltanto la peculiarità di essere un eunuco imperiale cinese ne ha anche un'altra è musulmano a testimonianza di un'epoca in cui la Cina oltre che un crogiolo etnico religioso è anche un modello di tolleranza all'inizio del quindicesimo secolo nella sola capitale imperiale di Nanchino sono censiti più di centomila fedeli dell'islam la grande flotta che salpa nel 1405 è l'ultima erede di una straordinaria tradizione navale cinese quasi certamente la più antica nella storia dell'umanità molto prima dei fenici molto prima che gli antichi greci colonizzassero Creta già 50.000 anni fa gli indigeni della Cina meridionale le popolazioni Yi furono per così dire i primi boat people di cui ci sia traccia sulla terra sulle loro scialuppe di bambù quei cinesi migrarono in tutti i mari del sud fino a popolare l'isola di Java in Indonesia la nuova Guinea e probabilmente l'Australia gli archeologi oggi considerano seriamente anche la possibilità che dei navigatori partiti dalla Cina abbiano attraversato il Pacifico influenzando le civiltà precolombiane in Messico infatti la scrittura il calendario la scultura dei Maya presentano somiglianze sconcertanti con le tradizioni dei cinesi di altri popoli buddhisti dell'Asia gli exploit marittimi furono consentiti anche dall'antica superiorità cinese nella scienza e nelle sue applicazioni mille anni prima di Copernico e di Galileo l'astronomo cinese Zhang Heng aveva stabilito con certezza che la terra è rotonda dal sestante alla polvere da sparo tutte le tecnologie decisive per le esplorazioni e per i combattimenti navali videro la luce in Cina con diversi secoli d'anticipo sull'Europa quando Marco Polo arriva alla corte del Kublai Khan nel 1275 i cinesi hanno già sottratto da tempo agli arabi la supremazia nella marina mercantile sulle rotte tra l'Africa e l'Asia nel porto di Guangzhou sulla costa del Fujian Marco Polo scopre giunche gigantesche usate per sfidare gli oceani avevano almeno quattro alberi 60 cabine individuali per i passeggeri di riguardo che erano di solito mercanti 300 membri di equipaggio e perfino dei giardini pensili a bordo una sola di quelle giunche cinesi avrebbe potuto contenere la Nina la Pinta e la Santa Maria le tre caravelle di Colombo tutte insieme e quando nel 1403 l'imperatore Yongle diede l'ordine di costruire le nuove flotte imperiali per consentire le esplorazioni del suo ammiraglio eunuco lanciò uno dei più ambiziosi programmi di opere pubbliche mai realizzati nella storia umana quasi paragonabile all'edificazione della grande muraglia ogni provincia dell'impero fornì il suo contributo all'assemblaggio di 1681 fra navi mercantili militari e logistiche fu sfruttata ampiamente la tecnica dei cantieri a secco che gli inglesi avrebbero scoperto solo alla fine del secolo la maggior parte delle navi avevano quattro ponti un'avanzatissima stiva di stabilizzazione con terra e pietre catapulte incendiarie cannoni con polvere da sparo prue rinforzate capaci di resistere all'urto delle barriere coralline le ammiraglie arrivavano a 146 metri di lunghezza sono tuttora fra le più grandi navi di legno mai costruite nella storia lo scrittore cinese Lu Maotang nel XVI secolo ha redatto una dettagliata cronaca delle spedizioni navali dei Ming e le sue descrizioni sono per noi oggi una miniera inesauribile di notizie le grandi navi del tesoro guidate dall'ammiraglio eunuco Zheng He quelle navi riservate ai comandanti e ai carichi più pregiati di merci per l'esportazione avevano 8 o 9 alberi lussuosi saloni di rappresentanza ponti coperti con eleganti balconate e ringhiere nei tesori caricati in stiva figuravano le porcellane Ming delle manifatture imperiali tappezzeria di seta della densità di 24 fibre a centimetro e si pensi che a quell'epoca le tappezzerie francesi dei Goblin arrivavano a un massimo di 11 fibre a bordo delle navi ammiraglie viaggiavano squadre di astronomi meteorologi medici farmacisti e botanici e anche insegnanti capaci di leggere libri stranieri cioè nel gergo dell'epoca quello che oggi diremmo traduttori interpreti versati soprattutto nell'arabo e nel persiano che erano le lingue franche delle rotte navali ogni nave militare possedeva 24 cannoni di bronzo che sparavano granate esplosive degli armamenti che nessuno era in grado di eguagliare a quei tempi e grazie all'indiscussa superiorità militare della Cina del 400 la funzione di quelle armi in realtà era quasi soltanto dissuasiva quello che oggi definiremmo un deterrente l'ammiraglio eunuco Zheng He ebbe raramente bisogno di combattere né aveva del resto per missione da parte dell'imperatore l'annessione forzata di terre straniere semplicemente perché non era necessario lui fece alcune operazioni di polizia internazionale ripulendo i mari dai pirati o ebbe brevi scaramucce con qualche vassallo riottoso in Giappone ma erano episodi minori in una pax cinese che regnava incontrastata perché dalla Corea a Calcutta dalla Somalia alla Tanzania tutti i sovrani locali esibivano rispetto e sottomissione verso la dinastia Ming un'eredità interessante di quelle esplorazioni navali cinesi verso l'Africa esiste ancora ai nostri giorni sulle coste del Kenya abitano famiglie di mulatti africani che si definiscono dalla faccia rotonda perché sono probabilmente discendenti dei cinesi che esplorarono quel mondo nel 1433 improvvisamente nel corso della settima e ultima spedizione da lui comandata l'ammiraglio Unuko Zheng He si ammala e muore in mezzo all'oceano indiano ha 62 anni negli ultimi 28 anni della sua vita aveva percorso 50.000 chilometri il rito funebre fu semplicissimo secondo la tradizione islamica il suo corpo fu lavato e avvolto in un tessuto bianco mentre i musulmani a bordo cantavano e pregavano Allah è grande la salma scivolò in mare con la testa rivolta verso la Mecca la morte dell'Eunuco ammiraglio coincide con una svolta politica profonda per la Cina da quel momento in poi la dinastia Ming viene aggredita minacciata soprattutto dal continente dall'interno subisce le incursioni delle orde a cavallo dei mongoli dei tartari e quindi i Ming sono costretti a una revisione strategica radicale spostano la capitale della Cina da Nanchino a Pechino che è situata molto più a nord e non ha sbocchi sul mare la potenza navale non è più una priorità militare la difesa della Cina si gioca sulla terraferma e questa svolta si accentuerà ancora nel XVII nel XVIII secolo sotto la dinastia Qing l'impero lancia campagne di conquiste terrestri che ingigantiscono la sua estensione incorpora territori come il Tibet lo Xinjiang musulmano la Mongolia la Manciuria e così la Cina si ritira dai mari proprio quando le nascenti potenze europee osano affacciarsi sempre più lontano dal loro Mediterraneo anche eccitate dai racconti di Marco Polo e da tutto quello che ha descritto della Cina i grandi navigatori dell'Europa cominciano a esplorare le nuove rotte e la ritirata della potenza cinese dai mari del sud-est asiatico apre nuovi spazi di conquista agli europei per cui un giorno i loro appetiti i nostri appetiti si sarebbero scatenati contro la stessa Cina penetrando nei suoi territori e umiliando gli eredi di quell'imperatore che era stato a un passo dalla conquista del mondo c'è un giallo storico appassionante che ha come protagonisti una delegazione di alti dignitari cinesi nella Firenze rinascimentale del 1433 e insieme le rivelazioni scientifiche di cui erano portatori quegli emissari della dinastia Ming un astronomo italiano esperto in cartografia infine il ruolo decisivo di questo astronomo nell'ispirare le esplorazioni di Cristoforo Colombo si è già discusso molto dell'ipotesi che il grande ammiraglio eunuco cinese Zheng He abbia scoperto l'America 70 anni prima di Colombo ma ora un'altra pista eccita la curiosità degli storici ed è l'ipotesi che le formidabili traversate oceaniche di Cristoforo Colombo e di Amerigo Vespucci siano state possibili proprio grazie al progresso tecnologico portato dai cinesi in Italia ed è qui che il ruolo chiave lo svolge quella misteriosa ambasciata cinese nel 400 a Firenze una missione che in certo senso è un fantasma perché non abbiamo molte informazioni c'è poche tracce negli annali diplomatici dell'epoca della corte dei medici o del papato questa scarsità di notizie però si spiega facilmente la distrazione degli storici è scusabile se si pensa che il 1433 l'anno di quella visita cinese è un anno un po' turbolento nella storia di Firenze è l'anno della cacciata in esilio di Cosimo il Vecchio dei Medici e a Roma ancora peggio perché il malcontento popolare culmina nel 1434 con la proclamazione della Repubblica per cui il Papa di origine veneziana Eugenio IV è costretto a scappare da Roma travestito da Monaco Benedettino e si rifugia proprio a Firenze per due anni trasferisce a Santa Maria Novella la sede del suo pontificato perciò in mezzo a tutte quelle tensioni non stupisce più di tanto la scarsa attenzione che gli storici dell'epoca dedicano alle visite cinesi tra l'altro gli scambi di ambasciatori tra la Cina dei Ming e l'Europa in modo particolare lo Stato Pontificio non erano più un evento straordinario nel 1400 già nel 1338 Papa Benedetto XII aveva ricevuto dei rappresentanti cinesi ad Avignone e un'altra delegazione era stata poi inviata in Italia dalla dinastia Ming nel 1371 a loro volta degli ambasciatori del Papa avevano reso omaggio all'imperatore Yongle in Cina all'inizio del 400 quindi c'erano intensi scambi tra l'Europa dell'epoca e la Cina scambi che tra l'altro hanno dato luogo a delle divertenti cronache cinesi che descrivono l'Europa di quel tempo eccone una ecco il resoconto di un ambasciatore cinese di ritorno alla corte di Yongle ecco come descrive un cinese la Firenze del Rinascimento a differenza che in Cina le loro case sono in mattoni la gente fa il vino con l'uva gli strumenti musicali includono clarinetto violino e tamburo il re locale scrive l'ambasciatore cinese che probabilmente si riferisce al Papa veste di rosso e di giallo e avvolge il capo in sete dorate ogni anno va al tempio seduto su una portantina rossa trasportata da religiosi circondato di ministri vestiti in colori verde e porpora a cavallo gli stati pontifici scrive ancora l'ambasciatore cinese sono piuttosto pacifici le loro dispute minori si risolvono con guerra di parole o lo scambio di messaggi diplomatici per i conflitti seri però sono pronti a scendere in guerra la terra di Fu Lin così l'ambasciatore cinese chiama Firenze commercia in oro argento perle vestiti cavalli olive e uva è uno storico cinese che vive in Canada il professor Wang Taipeng docente all'università di Vancouver che ha studiato nel modo più approfondito le conseguenze eccezionali della missione diplomatica cinese nella Firenze rinascimentale del 1433 e una traccia preziosa un documento fondamentale per ricostruire quell'evento è una lettera inviata nel 1474 dall'astronomo fiorentino Paolo del Posso Toscanelli a Cristoforo Colombo insieme con quella lettera l'astronomo spedisce anche una carta navale che si rivelerà decisiva per consentire la scoperta dell'America nella lettera è Toscanelli che riferisce a Colombo una lunga conversazione che ha avuto con un ambasciatore cinese proprio nell'anno 1433 sotto il papato di Eugenio IV nella lettera l'astronomo fiorentino cita l'emissario cinese come la sua fonte di informazioni sulla grande dimensione dei palazzi reali della Cina la meravigliosa lunghezza e larghezza dei loro fiumi e la moltitudine di città nel loro paese ecco secondo lo storico cinese canadese Wang Taipeng quella lettera apre uno squarcio inedito sulle interazioni intellettuali tra la Firenze rinascimentale e la Cina dei Ming il rinascimento secondo questo storico di Vancouver ancora oggi noi lo consideriamo come un fenomeno essenzialmente europeo o perfino essenzialmente italiano non abbiamo studiato abbastanza le possibili influenze della scienza e della tecnologia cinese in particolare nell'astronomia e nella navigazione anche se sappiamo benissimo ormai accertato che la Cina del Quattrocento era all'avanguardia mondiale in quei campi ora la portata dell'incontro fra l'astronomo fiorentino e la delegazione di ambasciatori cinesi la riscopriamo solo oggi a sei secoli di distanza a quell'epoca la verità è che la cartografia europea era arretrata i navigatori occidentali dovevano affrontare i mari senza un'accurata misurazione delle longitudini e le lacune delle nostre mappe rispecchiavano i ritardi dell'astronomia europea mentre le flotte cinesi da molti secoli avevano perlustrato l'oceano indiano utilizzando conoscenze astronomiche più avanzate delle nostre per determinare in particolare sia la latitudine sia la longitudine di una nave in mare per esempio nel 1300 l'ammiraglio Wang Daiwan aveva compiuto una traversata oceanica dal Mozambico allo Sri Lanka con esattamente 150 anni di anticipo su Vasco de Gama e lo aveva fatto combinando l'uso dei sestanti e l'osservazione delle stelle perciò la visita di quegli ambasciatori cinesi a Firenze nel 1433 diventa un punto di svolta e qui una testimonianza preziosa ce la fornisce il figlio di Cristoforo Colombo che divenne anche il biografo di suo padre Don Fernando Colombo lui ha ricordato che l'astronomo fiorentino Toscanelli considerava la Cina un modello per noi latini non solo per le sue grandi ricchezze ma anche per i suoi eruditi scienziati per i suoi filosofi e soprattutto per i suoi astronomi la figura di Paolo del Posso Toscanelli nato nel 1397 morto nel 1482 rimane avvolta da ombre e da misteri perché molte delle sue opere sono andate perdute sappiamo però che era un astronomo un matematico un geografo fra i più stimati del suo tempo ammirato in particolare dal giovane Leonardo da Vinci la sua influenza cruciale però è quella che Toscanelli esercita su Cristoforo Colombo nel 1474 Toscanelli teorizza la possibilità di navigare verso occidente per raggiungere le Indie e questa possibilità lui la espone in una lettera al canonico della cattedrale di Lisbona arcivescovo Martinez che a sua volta è un appassionato di cosmografia Cristoforo Colombo viene a saperlo si mette in contatto con Toscanelli Toscanelli gli fornisce incitamenti consigli e soprattutto una carta nautica per raggiungere il mitico Cipangu Cipangu è il nome che Marco Polo aveva dato al Giappone nei suoi racconti del milione Toscanelli spiega con quella carta a Cristoforo Colombo che il Giappone si potrebbe raggiungere facendo rotta dall'Europa verso ovest quindi l'astronomo fiorentino è con ogni probabilità l'ispiratore scientifico delle imprese transatlantiche di Colombo e poi anche di Amerigo Vespucci che sembra sia stato suo amico personale ma tutta l'attività scientifica di Toscanelli subisce una impressionante accelerazione dopo l'incontro con i cinesi a Firenze del 1433 la delegazione della dinastia Ming infatti in quell'anno porta in Europa per la prima volta il calendario da Tong che è il più accurato dell'epoca nel prevedere le fasi lunari il passaggio delle stagioni e le eclissi tre anni dopo esattamente nel 1436 Toscanelli insieme con gli astronomi Reggio Montanus e Nicola di Cusa presenta alla chiesa un progetto di riforma del calendario Giuliano in realtà quel progetto non sarà approvato e bisogna aspettare il 1582 perché entra in vigore in Europa il nuovo e più preciso calendario Gregoriano ma è interessante che sempre dopo quell'incontro misterioso con i cinesi a Firenze nel 1433 il Toscanelli fa costruire nel Duomo di Firenze uno gnomone che per mezzo di un foro praticato in una lastra di bronzo alla base della cupola consente di controllare il passaggio del sostizio d'estate e così di correggere le tavole dei moti solari nel 1456 quindi siamo 23 anni dopo l'incontro con i cinesi Toscanelli diventa il primo europeo che riesce a prevedere con esattezza il passaggio nei cieli della cometa di Halley ma è noto che gli scienziati cinesi avevano 2000 anni di tradizione nello studio delle comete e loro avevano registrato ogni passaggio della cometa di Halley dal 240 prima di Cristo in quanto alla cartografia navale il contributo decisivo dei cinesi per misurare la latitudine è la tecnica che consiste nel rilevare la declinazione del sole a mezzogiorno alla stessa longitudine ma su latitudini diverse e la mappa del pianeta che Toscanelli mette a punto nel 1474 e che attira la curiosità di Cristoforo Colombo guarda caso è la prima in occidente a essere suddivisa per longitudini e latitudini le rivelazioni sul ruolo di una misteriosa ambasciata cinese nella Cina del 1433 ci costringono a rivedere molte delle nostre certezze sul rinascimento ma del resto tutta quell'epoca della storia dell'umanità vede dei rapporti di forza completamente rovesciati rispetto a quello che noi credevamo con una Cina molto più avanzata di noi un'Europa periferica rispetto agli equilibri del mondo di allora in un certo senso quello che ci avvantaggia è la nostra debolezza ci rende più curiosi i cinesi ci trattano con una certa sufficienza molto divertente fare un salto di qualche secolo indietro ai primi contatti diretti di ambasciatori cinesi con l'Europa e descrizioni che fanno dove colpisce una certa approssimazione è per esempio questa che nel 200 molto spesso venivano confuse descrizioni di mercanti arabi al servizio dell'imperatore cinese racconti dove spesso Roma e costantinopoli finivano confuse in un'amalgama e così nel 1225 lo storico cinese Chao Zhukua nel suo libro descrizioni di vari barbari aveva citato Firenze testualmente come la città dove gli uomini portano il turbante e mangiano spaghetti con una salsa a base di carne descrizione che molto probabilmente mescola elementi di Firenze ed elementi di qualche città araba medio orientale ma nel 1433 quello che è decisivo è l'apporto che la superiorità scientifica cinese consente a Cristoforo Colombo e alle esplorazioni navali europee ecco secondo lo storico cinese canadese professor Wang Taipeng docente all'università di Vancouver non è esagerato affermare che il Paolo Toscanelli grazie al suo contatto con gli scienziati cinesi ha la paternità intellettuale di tutte le esplorazioni transatlantiche che portano i navigatori occidentali ad approdare in America a Cristoforo Colombo l'astronomo fiorentino scrive che il viaggio in Cina verso Occidente lo cito è non solo possibile ma certo offre inestimabile onore e guadagno e una gran fama tra i cristiani Toscanelli aggiunge di avere informazioni ricche e dettagliate lo cito ancora da uomini eminenti venuti da quelle terre fino alla corte papale che parlano con grande autorità di queste questioni quindi la vicenda di quell'ambasciata cinese a Firenze nel 1433 non è solo un giallo storico avvincente che può gettare una luce nuova sulla conquista dell'America e anche in un certo senso la data simbolica di un passaggio delle consegne tra noi e loro tra due mondi tra la Cina che a quell'epoca era l'indiscussa superpotenza mondiale con molte lunghezze di anticipo sull'Europa e un'Europa che è soltanto una potenza emergente ma da quel momento si intravede un crepuscolo della superiorità cinese volge al tramonto l'era gloriosa delle imprese navali cinesi che si esauriscono infatti dopo la morte dell'ammiraglio eunuco Zheng He la dinastia Ming diventerà isolazionista la sua capacità di eccellere nelle innovazioni si indebolirà e quindi la supremazia della Cina come centro del commercio internazionale ma anche dello sviluppo delle idee verrà sfidata da potenze emergenti cioè noi è l'anno 1792 quando re Giorgio III d'Inghilterra decide di mandare il suo diplomatico più abile lord George McCartney in una delicata missione in Cina presso l'imperatore Qianlong siamo in un'epoca in cui Cina e Inghilterra rappresentano in qualche modo due poli estremi la Cina ha ridotto ormai ai minimi termini la sua esposizione alle influenze straniere e anche il suo commercio con l'estero è una Cina decadente è una Cina ripiegata su se stessa un pallido ricordo di quella che è stata fino al 1400 è ancora un paese ricchissimo però come si sa i processi di declino di decadenza durano a lungo e si vive di rendita anche per secoli sulle ricchezze passate quindi la Cina di allora probabilmente ancora produce la più larga parte del prodotto interno lordo mondiale per questo è un boccone appetitoso per la nuova potenza imperiale l'Inghilterra in ascesa è attratta dalla Cina come mercato per la sua industria al tempo stesso è un'Inghilterra forte ma non ancora abbastanza da osare l'aggressione militare pure semplice quindi l'operazione che tenta Re Giorgio III in quell'anno 1792 è un'operazione di diplomazia delle buone maniere tenta di convincere i cinesi ad aprirsi lo fa naturalmente senza risparmiare una certa esibizione di muscoli militari ma al tempo stesso cercando di rispettare l'etichetta imperiale cinese che è molto molto esigente superba altezzosa a quell'epoca del resto la Cina è profondamente xenofoba i mercanti occidentali vengono chiamati diavoli stranieri sono trattati con sospetto e le loro attività subiscono delle limitazioni pesanti proprio queste limitazioni del resto sono la ragione per cui Re Giorgio III manda Lord George McCartney e questa prima ambasciata viene presentata ufficialmente nel modo più nobile e anche si potrebbe dire più generoso quasi disinteressato il primo ambasciatore in Cina si dice sta viaggiando nell'interesse della promozione della scienza e per garantire degli accordi commerciali e dei legami diplomatici di reciproco interesse così nel 1792 Lord George McCartney salpa dal porto di Spithead salpa su una nave militare una cannoniera quella che in un certo senso anticipa la futura politica delle cannoniere della Gran Bretagna a bordo ha 95 uomini di equipaggio 50 soldati le leggendarie giubbe rosse inglesi 600 pacchi con magnifici regali che per essere trasportati richiedono 90 vagoni 200 cavalli 3000 facchini cinesi quelli che poi gli inglesi battezzeranno i culis eppure perfino i più raffinati regali che il re d'Inghilterra può offrire orologi globi oggetti di porcellana probabilmente non saranno sufficienti per sedurre l'imperatore della Cina quando Lord George McCartney ambasciatore del re Giorgio III d'Inghilterra si fa annunciare alla corte imperiale cinese la Cina ha una pessima immagine dell'Europa a Pechino sono arrivate notizie allarmanti di recenti disordini non meglio precisati e probabilmente si riferiscono alla rivoluzione francese quindi per un regime come quello dell'imperatore Qianlong l'Europa sembra sinonimo di turbolenza instabilità tutti disvalori per un paese che invece venera l'ordine e l'autorità imperiale inoltre la Cina già sospetta gli europei in particolare gli inglesi di essere nazioni turbolente rissose conquistatrici fin dall'inizio Lord George McCartney ha sentore che la sua missione sarà difficile per non dire impossibile prima ancora che dal mar giallo il vascello inglese possa risalire il fiume Haihe che collega il porto di Tianjin con Pechino e quindi gli consente di raggiungere la capitale imperiale i cinesi impongono al vascello inglese che inalberi una bandiera con la scritta contribuente dall'Inghilterra e questo è un segnale molto preciso l'imperatore cinese non accetta di trattare da pari a pari il re d'Inghilterra nella visione della Cina che si chiama Chongguo il paese di mezzo il centro del mondo tutto il resto del mondo è periferia anche se i rapporti di forza sono già cambiati drammaticamente anche se questa Cina dell'imperatore Qianlong è un paese in declino è un paese in decadenza tuttavia la visione di se stessa che la Cina ha alla fine del settecento è ancora una visione orgogliosamente superiore perciò McCartney non è l'ambasciatore di un'altra potenza imperiale deve essere trattato come un tributario come un vassallo che viene a versare un tributo e i regali quei regali raffinatissimi che la corte d'Inghilterra ha selezionato per cercare di rabbonire l'imperatore Qianlong vengono trattati giuridicamente come se fossero delle tasse come se lord George McCartney venisse a versare un'imposta al suo sovrano e quindi McCartney si vede messo insieme quasi in coda con altre delegazioni di dignitari stranieri che però vengono dalla Mongolia e dalla Birmania e quindi sono davvero dei vassalli della Cina sono dei paesi che vivono sotto la il dominio l'influenza cinese gli viene concessa con largo anticipo una sola udienza imperiale nessun cena di stato non è abbastanza importante l'ambasciatore d'Inghilterra per essere invitato a cena dall'imperatore un'altra piccola umiliazione che gli viene inflitta è che l'udienza non si terrà neanche a Pechino l'imperatore non si scomoda ad aprire il palazzo imperiale di Pechino preferisce rimanere nella sua residenza di villeggiatura Qianlong appartiene a una dinastia mancese ama quindi il nord della Cina e costringe l'ambasciatore lord George McCartney a un'altra ulteriore navigazione dopo aver attraversato gli oceani per arrivare dall'Inghilterra fino a Pechino lord George McCartney è costretto a risalire un altro fiume per arrivare fino a Chengdu cioè alla villa di campagna dell'imperatore Qianlong quando finalmente l'ambasciatore di re Giorgio III d'Inghilterra lord George McCartney viene ricevuto dall'imperatore cinese è ormai il mese di settembre del 1793 il diplomatico inglese ha dovuto fare molta anticamera ma le sue umiliazioni non fanno che cominciare anzitutto l'imperatore Qianlong che ormai è un vecchio di 85 anni decrepito si rifiuta di ascoltare le richieste che il diplomatico inglese dovrebbe rivolgergli i suoi consiglieri hanno già preparato un comunicato estremamente altezzoso nei confronti degli inglesi in questo comunicato che in qualche modo registra la visita dell'ambasciatore britannico la corte imperiale cinese riconosce che da parte di re Giorgio III vi è una sincera umiltà e obbedienza nel mandare una missione tributaria all'imperatore soprattutto il momento chiave arriverà di fronte a un incidente di etichetta abbastanza divertente secondo le regole della corte imperiale qualunque visitatore anche dei ranghi più elevati una volta ammesso davanti alla presenza dell'imperatore o anche soltanto davanti alla presenza del seggio imperiale vuoto cioè di un sedile che per ora rappresenta l'autorità imperiale anche se l'imperatore non ci sta seduto sopra ebbene il dignitario straniero chiunque gli sia deve inginocchiarsi per tre volte toccando il suolo con i ginocchi e chinando il capo fino a toccare anche la terra con la fronte per tre volte consecutive messo di fronte a questa richiesta lord George McCartney nonostante tutte le sue buone intenzioni si inalbera e si irrigidisce no un diplomatico inglese non può umiliarsi a questo punto anche perché esiste una precisa etichetta della corte d'inghilterra dove anche i più alti dignitari devono inchinarsi una volta sola davanti al re d'inghilterra e qui lord George McCartney pone una questione di principio lui non può compiere un gesto che implicitamente riconoscerebbe che l'imperatore della Cina è superiore più importante del re d'inghilterra dunque lord George McCartney si rifiuta di fare tre inchini al massimo potrà fare un inchino solo su questo si crea un incidente diplomatico e la situazione si blocca l'udienza non è possibile finché non si trova una soluzione lord George McCartney prova a suggerire lui una scappatoia accetterà di inchinarsi tre volte davanti all'imperatore cinese solo se a sua volta il primo ministro dell'imperatore si inchina tre volte davanti a un ritratto di re Giorgio III d'Inghilterra ma anche questo sotterfugio questa scappatoria non viene accettata dai cinesi no primo ministro dell'imperatore non può inchinarsi tre volte davanti a re Giorgio III d'Inghilterra alla fine la soluzione sarà trovata dalla leggendaria astuzia dei mandarini imperiali i consiglieri dell'imperatore hanno voglia di risolvere la questione di rimandare a casa più presto possibile questo inglese e allora un alto funzionario di corte spiega all'imperatore che il povero inglese è affetto da una malformazione alle gambe che gli impedisce assolutamente di compiere tre inchini ecco così che di fronte a questa razza inferiore a questo povero inglese che non è in grado di fare la faticosa ginnastica dell'inchino l'etichetta imperiale concede magnanimemente una eccezione e lord george mccartney potrà al cospetto dell'imperatore cianlong inchinarsi una volta sola ammesso alla corte dell'imperatore cianlong nel settembre del 1793 l'ambasciatore di re giorgio terzo d'inghilterra lord george mccartney riesce a salvare la faccia riesce a ottenere un'eccezione a inchinarsi una volta sola davanti all'imperatore e tuttavia la sua missione diplomatica è un fiasco totale nel ascoltare le proposte degli inglesi per modificare gli accordi commerciali tra la Gran Bretagna e la Cina la corte imperiale stabilisce che non c'è nulla da cambiare perché le proposte inglesi per aumentare il commercio bilaterale non sono conformi al sistema cerimoniale del celeste impero questa è la risposta inoltre nel editto imperiale che i mandarini di corte consegnano a lord mccartney perché lo riporti a re giorgio terzo sta scritto molto seccamente che la Cina è autosufficiente e non ha il minimo bisogno delle manifatture del vostro paese inoltre l'editto imperiale ammonisce il monarca britannico ad agire in conformità con i nostri desideri ad essere leale e a giurare perpetua obbedienza lord George mccartney non ha ottenuto quello che voleva sperava di conquistare un'apertura dell'immenso mercato cinese per la industria britannica in ascesa viene congedato frettolosamente quando ha appena visto l'imperatore lo informano che poiché l'inverno si avvicina è opportuno pensare ai preparativi per la partenza in sostanza viene cacciato ecco di questa infruttuosa missione di lord george mccartney resterà negli annali della gran bretagna una voglia di rivincita spietata e la rivincita arriverà arriverà quattro decenni dopo nel 1839 l'inghilterra manda questa volta non una cannoniera con un ambasciatore a bordo ma manda una flotta di cannoniere scatena la guerra dell'oppio si chiama così la guerra dell'oppio perché la gran bretagna si trova ad avere un deficit commerciale con la cina la gran bretagna che è una grossa potenza di trasformazione industriale di prodotti del tessile abbigliamento importa troppo cotone troppa seta e anche troppo tè dalla cina quindi ha uno sbilancio nei suoi conti per compensarlo decide la transazione più ignobile cioè decide di invadere la cina di oppio l'inghilterra imperiale diventa il più gigantesco trafficante di droga nella storia del mondo per fini unicamente economici finanziari stabilisce che la cina sarà obbligata piegata con la forza militare per aprire il suo mercato al consumo dell'oppio che l'inghilterra comincerà ad esportare sistematicamente massicciamente dai suoi possedimenti coloniali in India e in Asia centrale e così sconfitta dal 1839 al 1842 nelle guerre dell'oppio la cina sarà costretta questa volta a piegarsi a sottoscrivere il trattato di Nanchino ad aprire il suo mercato interno ai prodotti inglesi e soprattutto a consentire che intere città cinesi Shanghai Canton diventino di fatto delle città aperte con dei quartieri posseduti controllati dalle potenze imperiali straniere un altro rovesciamento di situazione è quello che conosciamo oggi quasi due secoli dopo le guerre dell'oppio oggi i grandi manager delle multinazionali occidentali che arrivano come pellegrini in visita a Pechino sarebbero disposti anche a inchinarsi tre volte davanti al nuovo potere imperiale della Cina oggi dal chairman della General Motors a Bill Gates della Microsoft se gli chiedessero di fare quel triplice inchino che Lord George McCartney rifiutò oggi probabilmente i miliardari americani lo farebbero il primo luglio del 2007 il governo di Pechino ha inaugurato con grande enfasi e orgoglio nazionale quella che presenta come una meraviglia della tecnologia cinese la ferrovia che unisce Pechino all'Asa la capitale del Tibet è effettivamente un exploit tecnico e industriale notevole soprattutto l'ultimo tratto lungo quasi 1200 chilometri di cui 960 a un'altitudine superiore ai 4000 metri molti tratti a 5000 metri di altitudine su terreni eternamente ghiacciati dove la costruzione di una ferrovia ha dovuto superare delle difficoltà estreme e quindi un gioiello della tecnologia ammirato dagli ingegneri di tutto il mondo con delle soluzioni particolari anche dal punto di vista dei treni che devono circolare i vagoni sono stati costruiti da una multinazionale canadese la Bombardier con doppi vetri con uno speciale sistema di filtraggio dei raggi ultravioletti e una pressurizzazione delle cabine analoga a quella dei jet perché altrimenti i passeggeri non sopravviverebbero con la rarefazione dell'atmosfera a 5000 metri ma al tempo stesso questa ferrovia è il simbolo di tante altre cose non soltanto della prudezza industriale tecnologica della Cina moderna per i cinesi è lo strumento di quella che loro considerano la conquista del West la conquista della nuova frontiera delle regioni più desertiche e inesplorate del paese che possano offrire nuove opportunità alla crescita economica un po' con lo stesso spirito che avevano gli americani alla fine dell'Ottocento la loro conquista del Far West che coincise anche quella tra l'altro con la costruzione della ferrovia la ferrovia transcontinentale che univa la costa est e la costa ovest degli Stati Uniti per i tibetani invece per molti tibetani e anche per molti occidentali soprattutto gli ambientalisti la fine del progetto ferroviario che unisce in 40 ore di viaggio Pechino a Lhasa è il simbolo di uno scempio anzitutto uno scempio ambientale perché la costruzione di questa ferrovia ha in qualche modo violentato delle zone inesplorate dei pezzi di natura selvaggia degli ecosistemi dove vivono razze in via di estinzione come la preziosa antilope tibetana sterminata dai bracconieri che fanno commercio delle sue pelli pregiate è per i tibetani che ancora sognano l'autonomia della propria nazione la ferrovia il simbolo di un'identità culturale calpestata è lo strumento della progressiva sinizzazione del Tibet l'invasione demografica di questa regione ma perché i cinesi ci tengono tanto in fondo con 3,8 milioni di chilometri quadrati di superficie cioè quanto l'intera Europa occidentale il Tibet è un immenso deserto occupa un terzo della superficie della Repubblica Popolare cinese ma i suoi 6 milioni di abitanti sono lo 0,5% dei cinesi i cinesi sono un miliardo e 300 milioni è misterioso perché questa regione di montagne e di altipiani così ostile all'uomo abbia sempre suscitato gli appetiti dei vicini perché la Cina vuole a tutti i costi controllare il Tibet il Tibet oggi controlla una delle risorse più strategiche di cui ha bisogno la Cina del boom industriale e cioè l'acqua in Tibet nascono quasi tutti i più importanti fiumi cinesi e anche asiatici lo Yangtze il fiume giallo il Mekong l'Indus il Brahmaputra il Tibet ha anche giacimenti di minerali preziosi dall'oro all'uranio e tuttavia queste risorse sono relativamente recenti i minerali preziosi sono stati scoperti abbastanza di recente l'importanza delle riserve idriche per esempio per la produzione di energia elettrica anche questo è un bisogno esploso negli ultimi anni con la crescita economica cinese l'accanimento invece della Cina nel controllare il Tibet è molto più antico e questo in qualche modo è un mistero la chiave del mistero la spiegazione io l'ho trovata visitando la cittadina di Yangtze che è un avamposto verso l'India verso il Nepal e verso il Bhutan è quella punta del Tibet che si avanza al confine con tutte le altre nazioni dell'Himalaya nella cittadina di Yangtze c'è un museo di regime si chiama il Memoriale anti-britannico un antico fortino militare trasformato in monumento dalla Repubblica Popolare Cinese e la storia che viene raccontata in questo piccolo museo sperduto in una cittadina di montagna nel Tibet ai confini con l'India è la storia che spiega tutto del perché il Tibet ha un destino così sciagurato è una storia che comincia nel 1903 quando proprio la città di Yangtze questa roccaforte sperduta fra le montagne diventa il teatro di una delle imprese più sconclusionate dell'imperialismo britannico un'impresa di cui purtroppo le conseguenze vengono pagate ancora oggi dal popolo tibetano nel 1903 il vice re dell'India l'inglese Lord Curzon si lascia convincere da un giovane colonnello fanatico Francis Young Husband che la Russia zarista controlla il Dalai Lama dell'epoca l'autorità spirituale dei tibetani e quindi una pedina negli equilibri geopolitici dell'Asia centrale è uno di quegli episodi del grande gioco come lo chiameranno gli storici dell'epoca cioè il gioco di contesa fra l'impero britannico e la Russia zarista per l'influenza geopolitica e strategica sull'Asia centrale in questo scontro fra giganti in questo scontro fra imperi il colonnello britannico si mette alla testa di una piccola armata di mercenari indiani e di gurka nepalesi supera il confine del Sikkim e spugna il fortino della cittadina tibetana di Jansè massacra 3000 soldati tibetani poco dopo è costretto a battere in retromarcia perché londra ci ripensa decide che il tibet non è affatto minacciato dall'influenza russa e che quell'impresa è inutile ma quando young husband ritorna indietro già troppo tardi ha messo in moto una catena inarrestabile di eventi la dinastia imperiale dei Qing a Pechino è terrorizzata vede all'orizzonte l'incubo di una penetrazione inglese attraverso il tibet e quindi l'apertura di un nuovo varco per minacciare la cina dal subcontinente indiano da quel momento le truppe dei Qing occupano l'asa per liberarla dall'invasore occidentale da quel momento per colpa degli inglesi la cina considererà il tibet come un cuscinetto strategico indispensabile per i suoi interessi vitali dopo l'incursione britannica all'inizio del novecento in tibet per la cina il controllo del tibet diventa una priorità strategica e i brevi periodi di indipendenza tibetana come quello degli anni trenta sono sempre vissuti sotto la minaccia del vicino potente nel milenovecentotrentuno per esempio il tredicesimo Dalai Lama predecessore dell'attuale leader spirituale dei tibetani lancia questo ammonimento dobbiamo essere pronti a difenderci altrimenti le nostre tradizioni spirituali e culturali saranno sradicate perfino i nomi dei Dalai e Panchen Lama saranno cancellati i monasteri verranno saccheggiati e distrutti monaci e monache uccisi o scacciati diventeremo schiavi dei nostri conquistatori ridotti a vagabondare senza speranza come mendicanti quelle parole del millenovecentotrentuno erano davvero profetiche appena un anno dopo la rivoluzione comunista del millenovecentotquarantanove il nuovo leader fondatore della repubblica popolare cinese Mao Zedong si affretta ad avverare la profezia del Dalai Lama già nel primo gennaio del millenovecentocinquanta Radio Pechino annuncia trionfalmente per il Tibet l'imminente liberazione dal gioco dell'imperialismo britannico sembra quasi un tragico scherzo visto che il gioco dell'imperialismo britannico era stata una minaccia durata per poche settimane nel lontano millenovecentotre ma diventa quell'episodio di penetrazione inglese l'alibi per l'invasione scatenata da Mao Mao decide di manipolare il Dalai e il Panchen Lama che allora sono appena adolescenti accettano sotto pressione dei comunisti cinesi di firmare di loro pugno dei messaggi in cui chiedono l'intervento della Cina ed ecco che il 7 ottobre 1950 40.000 militari dell'esercito popolare di liberazione attraversano il corso superiore del fiume Yangtze e dilagano in tutto il Tibet uccidendo 8.000 soldati tibetani a quell'epoca cosa fa l'occidente si gira dall'altra parte sostanzialmente l'Europa tratta l'invasione del Tibet come una questione interna cinese l'America è già impegnata nella guerra di Corea di fatto teme di dover combattere ben presto contro la Cina non osa aprire un nuovo fronte di sfida con Mao Zedong negli annali delle Nazioni Unite in quella data dell'ottobre 1950 quando l'esercito popolare di liberazione espugna l'Asa quasi per una tragica farsa l'unico paese che solleva la questione all'ONU è chissà perché il Salvador ma all'inizio Mao Zedong è abile alle truppe d'occupazione cinese impartisce delle istruzioni astute per accattivarsi la popolazione locale così i soldati cinesi che entrano a Lhasa non si abbandonano a saccheggi o a violenze anzi addirittura corteggiano il consenso della nobiltà e del clero buddista quasi un'assurdità perché in fondo se qualcosa c'era di sbagliato di storto nel Tibet di allora che i comunisti potevano riparare e correggere era proprio la permanenza di una sorta di regime feudale di una teocrazia in cui i contadini tibetani erano poco più che dei servi della gleba costretti a lavorare per mantenere i monaci delle lamasterie nel 1954 quindi a quattro anni dalla invasione del Tibet da parte dell'esercito di liberazione popolare Mao Tse Tung sta ancora usando il guanto di velluto nei confronti dei tibetani è una sorta di offensiva della seduzione quindi nel 1954 il leader comunista invita a Pechino il Dalai Lama e il Panchen Lama i due giovani leader spirituali dei buddhisti tibetani e in qualche modo riesce a sedurli i due ragazzini sono affascinati da questo uomo più anziano di loro e dotato di una discreta cultura classica solo alla fine del soggiorno a Pechino c'è una sorpresa brutale quando si sta congedando quando li sta accompagnando all'uscita verso la partenza per il loro ritorno in Tibet improvvisamente quasi en passant con una battuta di spirito Mao Tse Tung rivela al Dalai Lama e al Panchen Lama che secondo lui il buddismo è niente meno che un veleno è quello che lui pensa è in fondo il pensiero marxista che la religione è l'oppio dei popoli e così tornati in patria i due giovani leader religiosi scoprono che in loro assenza è cominciata un'operazione di repressione le milizie comuniste hanno cominciato a svuotare i monasteri la repressione gli arresti di massa scatenano nel 1955 le prime fiammate di insurrezione un'insurrezione armata a cui partecipano molti monaci buddhisti in Tibet l'America è uscita dalla guerra di Corea contro i cinesi e ha un atteggiamento duro la CIA viene incaricata di addestrare la resistenza tibetana ma non durerà molto questo aiuto americano perché verrà interrotto dalla politica di Kissinger il disgelo con Mao Tse Tung che comincia nel 1971 intanto nel 1956 Pechino scatena una delle sue offensive più sanguinose con 150.000 soldati impegnati a tappeto in Tibet e bombardamenti aerei nel 1959 il Dalai Lama in pericolo di vita fugge in esilio in India a quel punto la repressione cinese ha già fatto 65.000 morti e altri 70.000 tibetani sono deportati nei campi di lavoro 80.000 hanno attraversato il confine indiano o nepalese e sono finiti nei campi di profughi eppure il peggio deve ancora venire nel 1965 quando il Tibet diventa quasi per uno scherzo feroce del linguaggio diventa una regione autonoma in quell'anno sta per cominciare la rivoluzione culturale allora il fanatismo radicale delle guardie rosse aizzate da Mao devasta uno dei più ricchi patrimoni artistici e archeologici dell'umanità molto prima dei talebani in Afghanistan molto prima di Pol Pot in Cambogia i comunisti cinesi decidono di annientare tutto ciò che ricorda della religione castelli e statue dipinti e libri antichi vengono distrutti dei 6.000 templi e monasteri tibetani censiti prima del 1959 nel 76 dopo 10 anni di rivoluzione culturale non ne resta intatto neanche uno stremati anche dalla miseria dalle carestie i tibetani non perdono però la loro volontà di resistenza e basta qualunque allentamento di controllo per far rinascere l'insurrezione per esempio nel 1980 il riformista Hu Yaobang diventa numero uno in Cina allenta un po' il controllo poliziesco le insurrezioni tornano a moltiplicarsi alla fine sarà Hu Jintao l'attuale presidente della Cina a dichiarare la legge marziale in Tibet l'8 marzo 1989 una prova generale per il massacro di Tiananmen tra le strade di Kashi il profumo del montone alla griglia si mescola con quello dei nan le stesse focaccette che vengono preparate in India e insieme anche con il profumo dei datteri o dei croccanti dolci di nocciole c'è una grande ressa al bazar di Kashi dove si aggirano dei maestosi anziani con il caftano con lunghe barbe a punta da califfo e il fez sulla testa qualche donna è perfino completamente velata con il burka che le copre il viso e sulle bancarelle di Kashi a fianco ai tappeti di preghiera islamica a fianco ai drappi di Pashmina e ai pugnali d'argento intarsiato è in vendita sempre il Corano ci sono delle orchestre di strada con mandolini e tamburelli che diffondono delle melodie chiaramente arabesche ci sono tende verande colorate nelle case minareti e soprattutto facce medio orientali o addirittura mediterranee potrebbe essere Istanbul o Marrakesh invece Kashi nello Xinjiang è in Cina lo Xinjiang è la più vasta delle regioni della Repubblica Popolare Cinese cinque volte l'Italia è anche il centro della più tenace resistenza islamica contro il regime di Pechino è una città dalla storia antichissima Kashi è stata magnificata da Marco Pollo nel 1271 è una di quelle città oasi in mezzo al deserto del Taklamakan che erano una tappa obbligata per le carovane di cammelli dei mercanti lungo la via della Seta che collegavano Oriente e Occidente la Cina e l'Europa Kashi è molto più vicina a Kabul e a Islamabad che a Pechino non solo culturalmente ma anche in chilometri per arrivare da Pechino a Kashi ci vogliono otto ore di volo verso ovest partendo da Pechino tra l'altro non c'è un volo diretto bisogna fare scalo nel capoluogo dello Xinjiang che è Urumqi ma a differenza di Urumqi che è stata già plasmata dall'influenza cinese una grande metropoli piena di grattacieli di sviluppo economico segnata dalla modernizzazione Kashi è riuscita a conservare una fisionomia inconfondibile a Kashi il 70% degli abitanti sono Uiguri cioè membri di una orgogliosa etnia turcomanna e musulmana loro non vogliono piegarsi alla Cina neppure sulla topografia geografica per loro Kashi non si chiama Kashi si chiama Kashgar lo Xinjiang non si chiama Xinjiang si chiama Turkestan orientale non si mescolano mai con i cinesi neanche per sbaglio tra di loro è ancora forte un movimento autonomista che vuole la secessione vuole l'unità con i turcomanni sono però un piccolo popolo visti da Pechino ormai perfino in minoranza a casa loro appena 8 milioni di Uiguri su 20 milioni di abitanti della regione e naturalmente circondati da un miliardo e 300 milioni di cinesi è un po' lo stesso destino dei tibetani minoranze etniche schiacciate nel rapporto con gli Han l'etnia dominante della Cina la cui superiorità demografica è insormontabile c'è una differenza fondamentale fra la minoranza islamica degli Uiguri dello Xinjiang e la minoranza etnica dei tibetani gli Uiguri sono pochi rispetto ai cinesi ma subito dopo i confini della Repubblica Popolare sono circondati da fratelli fratelli di religione perché lungo i 5600 chilometri della sua frontiera esterna lo Xinjiang confina con 8 nazioni di cui 5 di religione musulmana il Pakistan l'Afghanistan il Tajikistan il Kyrgyzstan e il Kazakistan popolate a loro volta da minoranze turco-uigure e quindi quando si visita Kashi e si vede nel centro della città nella piazza centrale una titanica statua in granito di Mao Zedong forse il più gigantesco monumento di queste dimensioni rimasto in tutta la Cina si sente palpabile la partita che si gioca nello Xinjiang una partita di influenza geostrategica tra la nuova superpotenza mondiale tra la Cina e l'Islam in apparenza la Repubblica Popolare cerca di dare l'impressione di una convivenza armoniosa con la minoranza degli uiguri promuove ogni sorta di spettacolo folcloristico di industria dell'artigianato locale quasi per trasformare lo Xinjiang in una regione vetrina in un modello di eguaglianza tra gruppi etnici diversi però la propaganda non regge neppure un minuto alla prova dei fatti e del resto non a caso il governo di Pechino non incoraggia i giornalisti stranieri a visitare lo Xinjiang le visite autorizzate sono rare e spesso avvengono con la scorta asfissiante di un funzionario di governo ma appena arrivati da Pechino a Casci la prima assurdità che colpisce è la prova dell'orologio il centralismo di Pechino è tale che impone a tutta la Cina nonostante l'immensa estensione del territorio un solo fuso orario il fuso orario della capitale per cui quando si vive in Xinjiang si è costretti ad alzarsi per andare a scuola a un'ora innaturale quando tutto è buio è un po' come se a Los Angeles dovessero i bambini alzarsi alle 5 del mattino per andare a scuola perché il fuso orario è lo stesso di Washington a proposito di scuola un altro aspetto che è immediatamente visibile visitando lo Xinjiang è l'apartheid etnico nelle scuole ci sono da una parte tutti gli Han che studiano in mandarino dall'altra parte tutti i bambini con la faccia turca che studiano l'Uiguro non si mescolano mai tra di loro non si mescolano neanche uomini e donne in giro per le strade di Kasci non si vedono coppie miste il rapporto con i cinesi è tesissimo solo al bazar poiché il denaro è pur sempre denaro i mercanti sono disposti a parlare cinese con i turisti che vengono da Pechino pur di vendere ma anche al bazar nella confusione levantina nel caos gioioso delle bancarelle quando passa una comitiva di turisti cinesi si crea una tensione anche perché i turisti cinesi sono poco rispettosi dei valori locali indossano i kaftani ridendo trattano la religione islamica come se fosse un fenomeno folcloristico locale ridono sguaiatamente all'ingresso delle moschee basta sedersi in un ristorante islamico per sentire attorno ai turisti cinesi un'atmosfera di ostilità il governo di Pechino nega che il separatismo della minoranza islamica degli uiguri nello Xinjiang abbia qualunque fondamento storico i cinesi ricordano che Akashi l'imperatore Wudi già nel secondo secolo avanti Cristo mandò il suo braccio destro Zhangjiang per le prime spedizioni lungo la via della seta verso i regni di Samarkand e di Bukhara verso l'India e verso la Persia e anche verso la mitica Li Kun che secondo alcuni storici sarebbe Roma la storia in effetti dà argomenti sia all'una che all'altra tesi alla tesi del centralismo cinese e alla tesi dell'indipendentismo uiguro la regione dello Xinjiang o del Turkmenistan orientale nella sua storia ha alternato secoli di indipendenza in cui era governata da Khan locali di religione islamica o anche buddista ha avuto periodi di sottomissione ai mongoli o al Tibet ha avuto altri periodi in cui faceva parte dell'impero ottomano ed ha avuto anche periodi in cui faceva parte della Cina l'ultima indipendenza la più recente è stata goduta dagli uiguri dello Xinjiang negli anni 30 e 40 quando nella zona c'era un movimento panturco ma dopo l'annessione alla Cina le turbolenze dello Xinjiang non sono mai finite veramente nel 1986 per esempio lo Xinjiang è stato il teatro della prima e unica protesta antinucleare che si sia mai verificata in Cina era una manifestazione locale contro i test delle bombe atomiche che i cinesi facevano proprio lì nel deserto di Lopnor quindi Pechino contesta la legittimità dell'indipendentismo uiguro e al tempo stesso però il governo cinese parla sempre più apertamente della minaccia separatista parla esplicitamente di attentati e questa è una cosa singolare per la Cina perché la Cina ha un tale culto dell'ordine e dell'autorità che la stessa ammissione che avvengano attentati terroristici nello Xinjiang in qualche modo scuote le certezze l'immagine di solidità che il regime cinese vuol dare ma il ministero degli interni di Pechino ammette che negli ultimi vent'anni sarebbero stati compiuti dai separatisti uiguri più di 260 atti terroristici con 160 morti Pechino parla esplicitamente di legami tra gli uiguri e i talebani e con Al-Qaeda i dati ufficiali del governo cinese indicano che nel solo anno 2005 sarebbero stati arrestati 18.000 uiguri per minacce alla sicurezza nazionale un termine generico che può nascondere un po' di tutto perché possono esserci dietro queste minacce degli attentati terroristici ma anche il semplice reato di aver avuto contatti con un giornalista straniero ci sono stati uiguri arrestati anche soltanto per aver organizzato delle scuole coraniche in casa loro e all'ingresso di tutte le moschee di Kashi sono ben visibili delle telecamere che sorvegliano tutti i musulmani che vanno a pregare le accuse del governo di Pechino agli indipendentisti uiguri agli islamici dello Xinjiang sui legami con Al-Qaeda e con il terrorismo internazionale hanno avuto una curiosa conferma il giorno in cui si è scoperto che nel carcere speciale di Guantanamo dove gli americani hanno rinchiuso molti prigionieri catturati nei campi di addestramento dei talebani di Al-Qaeda c'erano effettivamente dei cittadini di nazionalità cinese erano naturalmente tutti uiguri dello Xinjiang e questo ha fornito al governo di Pechino il pretesto insperato per cercare un'alleanza con gli Stati Uniti d'America contro gli uiguri dello Xinjiang il presidente Hu Jintao ha chiesto personalmente a George Bush l'estradizione in Cina degli uiguri detenuti a Guantanamo mettendo in grave imbarazzo le autorità americane sapevano benissimo che estradare in Cina gli uiguri significava condannarli a morte ma oltre alla repressione pure semplice c'è un'altra strategia che la Cina applica nello Xinjiang musulmano per assimilarlo e integrarlo a se stessa ed è la strategia parallela a quella applicata in Tibet è la cura del capitalismo nello Xinjiang esattamente come in Tibet i cinesi sono convinti che il tempo lavora in loro favore perché con il tempo la Cina sta portando effettivamente sviluppo ricchezze e tecnologie e le minoranze etniche nello Xinjiang come nel Tibet non sono compatte nel respingere la penetrazione cinese lo sviluppo è visibile i suoi benefici ci sono all'Asa capitale del Tibet come a Urumqi capitale dello Xinjiang esiste un nuovo ceto medio urbano che può permettersi l'automobile l'appartamento nuovo l'università per i figli perfino le vacanze ecco però di questo sviluppo solo una parte arriva alle minoranze etniche gli uiguri musulmani spesso sono gli ultimi nella lista quando si tratta di assegnare nuovi appartamenti a Urumqi o a Kashi intanto continuano ad arrivare a ondate i migranti dal resto della Cina gli uiguri si sentono ancora a casa propria a Kashi ma a Urumqi nella capitale dello Xinjiang loro sono già diventati la minoranza etnica il potere poi è quasi tutto in mano agli Han nello Xinjiang come in Tibet che si tratti dei governanti locali che si tratti dei comandi militari dove c'è il potere di solito c'è un viso Han c'è una fisionomia cinese i lavori più qualificati finiscono ai giovani tecnici e neolaureati affluiti dal resto della Cina le linee ferroviarie le nuove infrastrutture gli aeroporti tutto ciò che viene costruito dalla Cina e che rappresenta la modernizzazione tutto questo agevola anche l'immigrazione per i giovani Han che accettano di trasferirsi lontano dalla Cina costiera in cambio di alti salari il Tibet o lo Xinjiang sono la conquista del West sono la nuova frontiera del boom economico c'è un avvocato di successo a Pechino Ding Haiwa che lavora per uno dei più importanti studi legali della capitale e nel tempo libero coltiva una passione abbastanza singolare da molti anni l'avvocato Ding setaccia ogni angolo della Cina alla ricerca di reperti storici speciali sono dei contratti di vendita di esseri umani e dalle soffitte dei contadini nelle campagne povere fino ai mercatini dell'antiquariato o dell'usato di Pechino e Shanghai con molto denaro e molta pazienza l'avvocato Ding ha messo insieme un archivio molto interessante per ricostruire una dimensione tragica della storia della Cina è la consuetudine secolare dei cinesi poveri di vendere i propri familiari e ridurli in schiavitù vendere i figli per lavorare come servi nei campi degli altri vendere le mogli e le figlie come serve o come concubine esiste perfino la variante del contratto di affitto un contratto a termine in cui un contadino povero cede a pagamento la propria moglie a un altro uomo per qualche anno e poi ha il diritto di recuperarla a condizione che in quel periodo la donna abbia dato un figlio maschio all'altro uomo tutti questi contratti costituiscono un piccolo museo dell'orrore sono abbastanza rari perché i firmatari si vergognavano e cercavano di distruggerli appena possibile per evitare che venissero ritrovati da altri lo schiavismo è stato praticato in Cina per millenni probabilmente era il metodo più diffuso di saldare i debiti da parte degli agricoltori rovinati dalle ricorrenti calamità naturali non era però legale da secoli ufficialmente fu abrogato e messo fuori legge dall'imperatore Kang Shi dopo la sua ascesa al trono nel 1654 l'imperatore Kang Shi decise di vietare lo schiavismo per placare delle ribellioni violente di servi che rischiavano di destabilizzare la sua dinastia però come dimostra la raccolta privata messa assieme dall'avvocato Ding quella messa al bando imperiale è stata disattesa e il commercio di esseri umani in Cina ha prosperato in tutte le epoche che forse continua ad esistere ai nostri giorni quei contratti sono testimonianze importanti per capire le condizioni di vita del popolo cinese per consuetudine il venditore che scrive quei contratti cita sempre le motivazioni le sciagure che lo costringono a separarsi da un familiare o in certi casi addirittura a vendere se stesso e dalle brevi frasi introduttive dei contratti di vendita si intuisce che la diffusione della pratica dello schiavismo non l'ha resa moralmente accettabile anzi si indovina in quei poveri disgraziati che vendono se stessi o dei familiari uno scrupolo morale l'ansia del venditore di giustificarsi agli occhi degli altri non fosse altro che dei propri discendenti l'ansia di invocare una comprensione umana mentre si sta commettendo un atto indegno nella collezione messa assieme dall'avvocato Ding di Pechino collezione di contratti di vendita di esseri umani il pezzo più antico che ho potuto leggere risale all'epoca dell'imperatore Wan Li della dinastia Ming nell'anno 1578 quel contratto per la qualità della carta su cui è stato scritto e per la bellezza della calligrafia la cura con cui sono stati dipinti caratteri in lingua mandarina e in un certo senso anche un'opera d'arte il testo del contratto rivela che la coppia dei Ma marito e moglie decidono di cedersi insieme al signor Zhao per 15 monete d'argento siamo stati colpiti da un disastro naturale si legge nel contratto abbiamo perso il raccolto ci vendiamo volontariamente in seguito alla vendita ci trasferiamo a vivere nel luogo dedicato alle tombe degli antenati di Zhao e ne diventiamo i guardiani coltiveremo il terreno adiacente daremo metà del raccolto al nostro padrone la morte estingue il contratto pertanto il signor Zhao non sarà tenuto a pagarci le spese di sepoltura si può fare un balzo in avanti di tre secoli e un altro contratto che ho letto nella collezione privata dell'avvocato Ding del 1890 in questo caso espone il caso di una madre che deve dare via il terzo figlio nel contratto anche lei esige puntualmente che siano spiegate le circostanze i bambini piangono giorno e notte si legge in quel contratto per la fame e per il freddo perciò decido di vendere il piccolo di tre anni perché gli altri sopravvivano con questo lui cessa di essere mio e diventa il figlio di Liang che può cambiargli il nome e prendere ogni decisione sulla sua educazione non ci sarà mai più un contatto tra me e il bambino dietro questi documenti storici dietro questi contratti di vendita di esseri umani c'è la fame atavica del popolo cinese c'è la pioggia che non arriva oppure arriva di colpo troppo violenta provoca inondazioni ci sono raccolti che anche negli anni buoni spesso bastano solo per la sussistenza ci sono anche le tasse esose degli imperatori le scorribande dei signori della guerra la crudeltà degli usurai infine soprattutto dall'ottocento in poi c'è l'oppio l'oppio che dilaga in Cina e semina la miseria anche qualche volta tra famiglie borghesi e insomma nella collezione di quei contratti raccolti dall'avvocato Ding di Pechino c'è un affresco di secoli di privazioni di soprausi di sofferenze ricostruito attraverso questo mosaico di testimonianze personali trascritte nei contratti e si arriva in epoche sempre più vicine a noi nell'anno 1929 il contadino Dang non ha neppure i soldi per pagarsi uno scrivano perciò il suo contratto è scritto in una calligrafia è a Rozza da semi-analfabeta è pieno di errori appena leggibile scrive la mia vita è miserabile vendo il mio quarto figlio alla famiglia che può farne quello che vuole io perdo ogni diritto e non avrò più nulla a che fare con lui oppure in un altro contratto si legge il marito Yang e la moglie Jiang non vanno d'accordo e non possono vivere più insieme sembra a giudicare da questo inizio una sorta di atto di divorzio ma poi il testo cambia cambia la natura giuridica cambia anche il soggetto perché improvvisamente si passa alla prima persona singolare io Yang vendo qui mia moglie Jiang per 270 yuan davanti a due testimoni nessun membro della famiglia potrà fare opposizione dopo la vendita Yang è liberata dal dovere di portare il mio cognome anno 1930 l'interesse della collezione privata messa insieme dall'avvocato Ding di Pechino la collezione di contratti di vendita di esseri umani è proprio quello di aiutarci a capire che cos'è stata la Cina aiutarci anche a capire che cos'era la Cina nel momento in cui negli anni 30 iniziò la rivoluzione comunista su quale terreno di condizioni sociali di miseria maturò la rivoluzione comunista in Cina ma un altro aspetto rivelato da quelle carte è che anche i poveri cinesi non sono veramente uguali fra loro i contratti di vendita di esseri umani rivelano che la sorte più ingrata è quella che tocca alle donne cinesi comprate e vendute da padri mariti fratelli perfino suoceri che possono disporre delle donne come se fossero merci in effetti bisogna ricordare che le cinesi fino alla caduta della dinastia Qing quindi fino al 1911 non hanno personalità giuridica non possiedono né ereditano beni la nascita di una figlia è una disgrazia perfino in una famiglia ricca che è costretta a stanziare una dote importante per sposarla tra i contadini poi le bambine sono un peso così insopportabile da essere non solo vendute ma spesso anche uccise alla nascita la scrittrice americana Pearl Buck cresciuta in Cina da bambina nel suo romanzo La buona terra del 1931 è probabilmente la prima a offrire a noi occidentali un affresco realistico di una società patriarcale dai costumi feroci la Cina dove nelle campagne il matrimonio impone obblighi molto simili alla servitù dove una volta sposata la giovane moglie diventa praticamente una schiava dei suoceri oltre che del marito una Cina dove alle ragazze di buona famiglia viene imposta la menomazione dei piedi fasciati un costume antico e terribile nato forse anche per motivi estetici si dice per motivi erotici perché gli uomini cinesi trovavano più leggiadro e seducente il piede piccolissimo piegato sinuoso ottenuto attraverso questa fasciatura dura dolorosa fin dai primi anni di vita ma forse c'era anche un'altra ragione dietro i piedi fasciati in quel modo le donne diventavano delle invalide non riuscivano a camminare normalmente non potevano certo correre con dei piedi che erano come rattrappiti nella crescita e quindi questo perpetuava anche la loro dipendenza erano costrette a stare chiuse in casa non potevano uscire facilmente nella collezione dell'avvocato Ding c'è un contratto in un'epoca perfino successiva alla Cina imperiale siamo già nella Cina repubblicana nel 1935 una moglie abbandonata scrive nel contratto mio marito è partito da 11 anni per fare il soldato non ha mai dato sue notizie mi ha lasciata con un figlio piccolo non abbiamo più da mangiare ho bisogno di risposarmi mi vendo come moglie per 70 dollari d'argento è questa la somma che devo pagare per il riscatto a mio suocero a cui appartengo la più recente di queste carte legali ha solo 60 anni nella collezione messa insieme dall'avvocato Ding questo è il primo caso in cui si usano la fotografia e le impronte digitali per l'identificazione dell'oggetto è un contratto firmato nel 1946 siamo già dopo la seconda guerra mondiale il più recente tra i contratti di vendita di esseri umani collezionati dall'avvocato Ding a Pechino data del 1946 ed è un documento che ha un doppio uso in questo caso da una parte il signor Wan compra la ragazza Sun di 19 anni dall'altra lo stesso contratto serve perché il signor Wan vuole registrare la ragazza presso l'ufficio di polizia della città di Changchung a nord di Pechino perché la ragazza eserciti regolarmente il mestiere di prostituta quindi nel contratto di acquisto è indicato anche l'indirizzo del bordello il nome del manager del bordello e il contratto sembra quasi copiato su una formula standard della ragazza che viene venduta e il suo acquirente hanno riempito delle caselle come se facessero parte di una consuetudine sotto la candidatura al bordello c'è scritto ragione povertà familiari fratello minore prostituzione volontaria sì ecco lo spaccato della Cina precomunista che emerge dai contratti d'acquisto di carne umana ritrovati dall'avvocato Ding nel suo lavoro di collezionista serve a capire in che stato versava questo paese quando Mao Zedong si mise alla testa dei suoi partigiani per guidare la lotta armata la miseria estrema dei contadini cinesi è stata sicuramente il carburante che ha fatto divampare la rivoluzione oggi rispetto a quella base di partenza la condizione femminile sotto il comunismo e grazie al comunismo ha fatto dei progressi non sono progressi omogenei e il destino delle donne cinesi nelle campagne ancora oggi è diverso da quello delle donne di città la Cina del 2006 questo è un segnale inquietante ha il record mondiale dei suicidi femminili 150.000 suicidi all'anno di sole donne una donna cinese si uccide ogni 4 minuti e la frequenza dei suicidi è 3 volte più alta nelle campagne rispetto ai centri urbani inoltre a causa degli aborti selettivi che hanno sostituito gli infanticidi di bambine di una volta oggi nelle campagne cinesi mancano all'appello 40 milioni di donne cioè rispetto a quella parità demografica alla nascita che c'è nella maggior parte delle nazioni del mondo fra maschi e femmine in Cina c'è un vistoso squilibrio non nascono abbastanza femmine e questo squilibrio demografico con troppi maschi cinesi che non possono trovare una moglie che sono condannati a restare celibi a sua volta fa rinascere oggi degli abusi antichi nell'economia di mercato che oggi impera in Cina con l'abbondanza di denaro le nuove diseguaglianze sociali che si stanno scavando nel capitalismo cinese rinascono forme di schiavismo in particolare il traffico di bambine vendute come mogli o come prostitute secondo l'organizzazione internazionale del lavoro il regime di Pechino nasconde i veri dati sull'ampiezza di questo nuovo commercio di esseri umani fin dalla metà degli anni 90 ci sono attivisti umanitari che hanno denunciato un business degli schiavi di minorenni venduti per esempio alle fabbriche lager nella regione del Guangdong le stime ufficiali del governo cinese ammettono che almeno 10-20 mila persone ogni anno sono vittime del traffico di schiavi in Cina e la realtà rischia di essere ancora superiore il 90% sono donne e bambini vendute dalle province dello Henan del Sichuan dello Yunnan per essere deportati nelle zone più ricche del paese a scopo di sfruttamento sessuale a Pechino io abito sul bordo del laghetto Houhai uno dei laghetti imperiali vicino alla città proibita nel cuore del centro storico di Pechino è la zona dei vicoli stretti quelli che in cinese si chiamano gli hutong l'ultima zona della capitale che è sopravvissuta all'invasione dei grattacieli del cemento armato e anche delle automobili è una ragnatela di casupole basse di botteghe artigiane di giardini segreti che sono ancora intatti dai tempi dell'imperatore è appunto l'ultimo angolo della Cina dove l'automobile fatica a penetrare perché le strade sono troppo anguste lì ci si muove a piedi o in bicicletta oppure se proprio si vuole viaggiare comodi in risciò il risciò a pedali è sostanzialmente una portantina montata su un triciclo oppure un sedile con una tettoia trainato appunto da un ciclista e il risciò non a caso l'hanno riscoperto di recente i turisti che ne affittano molti in quel quartiere intasando purtroppo i parisaggi più belli come il ponticello Yin Ding che vuol dire l'ingotto d'argento un ponte antico che separa il laghetto Hou Hai dal laghetto Chang Hai all'angolo di quel ponte antico si può incontrare il capitano Cao Yu Yue il decano dei guidatori di Risho di Pechino è facile riconoscerlo perché è l'unico che porta una barba confuciana imponente gli arriva fino a metà del petto d'inverno veste sempre tutto di nero d'estate tutto di bianco e ha un cinturone con una borchia a forma di dragone a 56 anni il capitano per cui la pancia non gli consente delle gare di velocità con pedalatori più giovani e costretto qualche volta a rifiutare dei clienti troppo grassi in compenso è uno dei pochi guidatori di Risho che sa qualche parola d'inglese per raccontare la storia delle dimore più antiche del quartiere i S'H'Yuan quelle case a un piano solo racchiuse con un cortile interno e alla fine di una corsa a bordo del Risho del capitano si può andare a casa sua a bere il tè con la moglie di fronte alla vecchia cucina a carbone il racconto della sua vita che è incluso nel prezzo della corsa di 60 Yuan più o meno 6 euro è interessante il capitano è nato un anno dopo la Repubblica Popolare quindi nel 1950 suo padre era un maestro elementare e si è trasferito nel vecchio quartiere di Ho Hai quando il capitano aveva 6 anni a quei tempi il quartiere del laghetto Ho Hai era povero i vicoli erano tutti sterrati per cui d'estate erano polverosi ed inverno delle melme fangose il capitano guidatore di Risho ha vissuto quindi tutte le grandi fasi politiche della storia della Repubblica Popolare della storia del maoismo lui ricorda perfettamente per esempio la grande carestia del 1958 1959 quando gli abitanti della capitale erano costretti a nutrirsi di semi foglie radici tutto quello che riuscivano a raschiare via dagli alberi e la pelle si gonfiava c'erano le malattie tipiche della denutrizione lui ha anche attraversato l'era della rivoluzione culturale quando improvvisamente vennero chiuse tutte le scuole e le università un'intera generazione di cinesi fu negata l'istruzione fu spedito a quell'epoca come tutti quelli della sua età a lavorare nei campi gli toccò partire ai confini della Mongolia ha trasportato grano turco ha nutrito maiali e vissuto per anni mangiando soltanto patate nella storia della vita del capitano Zaho il decano dei guidatori di Risho nel quartiere più antico di Pechino c'è come un'eco lontana delle sventure che sono all'origine proprio del mestiere dei tiratori di Risho quando il Risho fa la sua comparsa per la prima volta in Cina alla fine dell'ottocento Pechino ha solo un milione di abitanti e un terzo di quegli abitanti all'epoca sono originari della Manciuria sono mancesi quindi all'epoca noi europei li chiamavamo spesso i tartari è un popolo guerriero che era calato dal nord a conquistare la Cina fondando la dinastia dei Qing l'ultima dinastia imperiale cinese ma già alla fine dell'ottocento gli eredi dei leggendari arceri mancesi erano caduti così in basso che erano costretti a vivere di sussidi pubblici distribuiti dalla casa imperiale una dinastia anch'essa in declino ormai impoverita nel 1911 quando arriva la prima rivoluzione repubblicana in Cina la condizione dei mancesi a Pechino diventa ancora più precaria e allora decine di migliaia di loro diventano tiratori di Risho per sopravvivere ma come nasce il Risho Risho o Rikisho è la trascrizione inglese di una parola giapponese Jin Rikisho che in giapponese vuol dire veicolo mosso dall'uomo infatti il Risho nasce a Tokyo lo inventa nel 1846 un missionario europeo all'origine serve per trasportare invalidi e ammalati è appunto una sorta di portantina a cui vengono aggiunte due grandi ruote e nella versione antica è trainata a piedi di solito di corsa la versione più moderna del triciclo a pedali arriva solo un secolo più tardi alla vigilia della seconda guerra mondiale già sul finire dell'ottocento cominciano i primi miglioramenti tecnici al Risho con le molleggiature e le gomme gonfiabili questi miglioramenti ne fanno un mezzo di trasporto così confortevole che diventa improvvisamente popolare in tutta l'Asia invade l'Asia dalla Corea all'India ma ci sono delle resistenze inizialmente all'introduzione del Risho a Pechino l'apparizione dei primi Risho trainati da esseri umani nel 1886 scatena reazioni furiose da parte di una corporazione che si sente minacciata è la corporazione dei carrettieri con i muli poi c'è nel 1900 un altro episodio la rivolta nazionalista dei boxer che nello stesso tempo in cui cerca di cacciare gli stranieri rappresentanti delle potenze imperialiste che stanno dominando la Cina decide anche di mettere fuori legge i Risho perché li bolla come una tecnologia straniera visto che erano stati importati dal Giappone è nella Cina repubblicana degli anni venti che il Risho si impone definitivamente a quell'epoca a Pechino i Risho raggiungono quota 60.000 e si calcola che nella capitale negli anni venti un uomo giovane ogni sei si mantiene trasportando passeggeri oggi a noi quest'idea può far sorridere o ci può sembrare un'esagerazione ma nel primo novecento l'avvento del Risho è una rivoluzione economica che ha degli effetti analogi a quelli che avrà poi in futuro l'automobile e la motorizzazione privata il dilagare del Risho nella Pechino del primo novecento assomiglia in qualche modo a quella che poi sarà la rivoluzione dell'automobile perché in una grande metropoli il Risho è un progresso in dubbio nella mobilità individuale e fa nascere anche dal nulla un'attività che dà lavoro a un pezzo consistente della popolazione al tempo stesso riesce a trasformare il paesaggio urbano la fisionomia di Pechino riceve un'impronta inconfondibile dall'avvento del Risho agli incroci per esempio c'è un frastuono costante che viene provocato dal concerto dei campanelli a pedale che i passeggeri fanno squillare per chiedere strada alle stazioni ferroviarie nei parchi pubblici o all'uscita dei teatri si creano delle calche da un'arressa di tutti gli uomini dei Risho che vogliono conquistarsi clienti e qualche volta devono intervenire i vigili urbani per sedare le risse che sono scoppiate tra questi diciamo autisti il traffico è così intenso il traffico di Risho che il governo di Pechino deve investire per la prima volta nella pavimentazione stradale per rendere più scorrevole la corsa dei portantini l'uso del taxi pedestre è anche il primo servizio di massa che segnala in qualche modo la nascita di un ceto medio urbano perché intorno a questo piccolo lusso si struttura tutta la nuova gerarchia sociale i veri ricchi non lo usano perché hanno a disposizione mezzi ancora più lussuosi come le carrozze a cavalli o addirittura le prime automobili che cominciano ad apparire negli anni venti anni trenta in Cina quindi la massa degli utenti di Risho sono piccoli commercianti liberi professionisti funzionari pubblici gli insegnanti proprio il ceto medio di una società che sta cominciando a evolversi grazie al Risho si affacciano sulla scena anche i nuovi capitalisti che sono quelli che scommettono sul nuovo business della mobilità urbana e comprano intere flotte di Risho che poi affittano ai manovratori che sono degli operai alla giornata e questo esercito di uomini da traino dei Risho a sua volta diventa un embrione di un moderno proletariato urbano una classe operaia in cui confluiscono i contadini poveri immigrati dalle campagne in cerca di un lavoro o anche qualche volta dei vecchi ceti decaduti ci sono militari disoccupati nobili che si sono rovinati al tavolo da gioco o fumando l'oppio ci sono artigiani e commercianti falliti per qualche crisi economica che come ultima spiaggia trovano il lavoro del Risho e a quell'epoca negli anni venti la figura dell'uomo da traino del Risho diventa anche un'ispirazione per letterati e artisti nasce un genere letterario che vede come protagonista il tiratore di Risho il più grande capolavoro della letteratura cinese del novecento è il romanzo Shianzi il cammello del scrittore Lao Tse del 1937 è proprio l'epopea tragica di un guidatore di Risho e Lao Tse riesce a interpretare la Cina del suo tempo guardandola con gli occhi di un uomo che sopravvive trainando passeggeri a forza di braccia e di polpacci in quel romanzo c'è tutta la Pechino colorita dei mercatini dei mille mestieri artigianali del dialetto dei proverbi al tempo stesso ci sono le convulsioni di una guerra civile strisciante le durezze della crisi economica tutto raccontato attraverso la vita di Shang-Zi detto il cammello e nonostante il tono ironico il personaggio di Lao Tse il cammello è perseguitato dalla sorte fino a precipitare in una miseria degradante è una storia bellissima ma così triste che per la prima edizione straniera la prima traduzione di quel romanzo all'estero il traduttore americano decide di sua iniziativa di cambiare la trama aggiungendogli un lieto fine la figura del guidatore di Richaud e la condizione sociale di questo lavoratore nella Pechino degli anni 20 degli anni 30 diventa un simbolo e per i sociologi o gli studenti gli intellettuali di idee egualitarie è molto imbarazzante in quell'epoca doversi sedere su una poltroncina imbottita e farsi trasportare e vedere la schiena curva sudata di un loro simile che li porta da una parte all'altra della città nel 1919 infatti un giornale progressista la nuova Cina scrive che c'è una contraddizione etica in quegli attivisti democratici che vanno alle assemblee politiche a parlare di rivoluzione ma si fanno trainare da poveracci che corrono a piedi nudi nel fango i filo occidentali quella parte modernista dell'intelligenza cinese addirittura vede nello sfruttamento dei tiratori di Risho una conferma di una retratezza del paese e lo spettacolo dei portantini che litigano per conquistarsi un cliente all'uscita di un locale di un teatro di una stazione diventa addirittura la metafora della Cina lacerata servile ai piedi dell'imperialismo straniero Chu En Lai uno dei grandi fondatori del partito comunista futuro primo ministro di Mao Zedong dedica proprio alla figura del guidatore di Risho uno dei suoi primi saggi marxisti sulla natura del capitalismo poi nel 1929 i portantini sono protagonisti di un curioso episodio di lotta di classe o forse di rivolta luddista perché quando vengono introdotti i primi tram di Pechino ci sono scontri di piazza violenti con i portantini di Risho che cercano di distruggere i tram dopo la rivoluzione del 1949 proprio per questo carattere simbolico della figura del portantino la Cina comunista dichiara che il Risho è fuori legge è un lusso borghese è un simbolo di sfruttamento e da quel momento i tricicli vengono riconvertiti al trasporto merci però negli ultimi anni sono riapparsi a Pechino soprattutto come un'attrazione turistica visto che nei vicoli del centro storico ci si muove solo in quel modo ma in altre città anche grandi città della Cina per esempio Chengdu capitale dello Sichuan vengono usati di nuovo regolarmente come i taxi dei poveri certo non c'è una linea di continuità diretta che unisca il capitano Zao il 56enne decano dei tiratori di Risho di Pechino con i suoi predecessori degli anni 20 non si nasce tiratori di Risho non è un mestiere che si tramanda di padre in figlio il capitano Zao però nella sua storia in qualche modo rivive una parabola più antica perché come primo mestiere faceva l'operaio poi quando sono arrivate le riforme di mercato quando la Cina si è trasformata in un'economia capitalistica sono cominciate le ristrutturazioni industriali i licenziamenti di massa la fabbrica del capitano Zao ha chiuso lui si è ritrovato disoccupato e dopo tanti lavoretti ha finito per sposare questa attività di guidatore di Risho è diventato il cammello degli Hutong è una storia che si ripete perché nella Pechina del primo novecento pullulavano leggende di principi decaduti di celebri mandarini depredati da concubine crudeli o di professori universitari licenziati per motivi politici tutti costretti a tirare il Risho per mangiare alcune erano semplici leggende non era leggenda era verità storica il destino di un esercito di ex arceri mancesi ridotti a correre a piedi nudi per le vie della capitale trainando passeggeri quindi oggi come allora non si diventa guidatore di Risho in Cina per onorare una tradizione ma solo per caso o per disgrazia nella Cina centro-settentrionale dove le vallate della provincia di Shanxi si allargano il corso del fiume giallo si appiattisce rallenta l'acqua sembra quasi immobile come se fosse sul punto di evaporare poi ad un tratto si apre una crepa nel terreno è l'inizio di un canyon e il fiume giallo si infila violento forma la cascata di Hukou in quella zona il colore del suolo e dell'acqua si confondono domina una tinta ocara il terreno del Lers un deposito eolico sedimentato da millenni e la buona terra trasportata dai venti della Mongolia esparsa dalle piene del fiume giallo l'elemento primordiale dove è nata la Cina è la culla della civiltà più antica del mondo durante il Neolitico novemila anni fa sulle rive del fiume giallo i nomadi diventano per la prima volta contadini imparano a coltivare il miglio poi nel 2100 avanti Cristo emerge la dinastia Shia seguita dal regno dei Shang la prosperità e la miseria sono scandite dai ritmi del fiume giallo in media a una inondazione ogni due anni il fiume giallo spinge intere montagne di terriccio che vengono dall'Asia centrale per 5500 chilometri finché dà il suo nome e il suo colore a un intero mare il mare giallo in quella zona a Yan'an l'erosione ha scolpito monti e colline con strane forme a volte forme di castelli la terra lì è così dominante nella vita che da tempo immemorabile la gente ci ha fatto dentro la sua tana si vive in abitazioni tradizionali chiamate Yao Dong o Yao Fang che sono case caverne ricavate nelle grotte naturali un po' come i nostri sassi di matera le caverne sono fresche d'estate sono protette dai rigori estremi dell'inverno sono ideali per sfuggire alle piene del fiume giallo e anche per conservare i raccolti sono anche più facili da difendere contro assalti nemici la storia infatti ha dato più volte appuntamento dalle parti di Yan'an otto secoli fa attraverso la valle di Yan'an penetrano le orde dei cavalieri di Gengis Khan nell'avanzata verso la capitale imperiale cinese di Xi'an e 70 anni fa nelle grotte di Yan'an si rifugia il fondatore della repubblica popolare Mao Zedong Mao stabilisce in quelle grotte il quartiere generale della guerra partigiana e della rivoluzione comunista ancora oggi c'è un pellegrinaggio continuo di cinesi che continuano a rendere omaggio a quelli che sono diventati luoghi sacri del comunismo cinese le grotte sono conservate come monumenti nazionali vennero rese abitabili ai tempi di Mao con delle aggiunte molto semplici di muratura una parete esterna fatta di mattoni di fango un po' di intonaco bianco all'interno hanno conservato tutta la povertà spartana che le fa somigliare a delle celle monacali c'è un giaciglio sulla pietra una scrivania di legno una bacinella per lavarsi non è mai esistita l'acqua corrente non c'erano bagni solo latrine all'aperto c'è qualche foto d'epoca alla parete che ricorda quei tempi gloriosi Mao giovane i suoi compagni di battaglia Chuen Lai Liu Shaoqi Lin Piao ancora più nascosti tra le rocce sono cunicoli che portano verso altre caverne più remote nelle viscere della montagna che vennero usate come rifugi antiaerei durante i bombardamenti delle forze nazionaliste di destra di Shanghai Shek o dell'aviazione giapponese Yan'an nella provincia dello Shanxi viene chiamata la madre dei partigiani perché questa cittadina in mezzo alle montagne accoglie Mao e i suoi compagni al termine dell'impresa più memorabile della rivoluzione comunista la lunga marcia iniziata il 16 ottobre 1934 oggi la giovane scrittrice cinese Sun Shuyun ricorda quell'evento con queste parole ogni nazione ha bisogno di un mito fondatore e per la Cina comunista questo mito è la lunga marcia per noi scrive Sun Shuyun la lunga marcia è una storia che ha lo stesso valore dell'esodo dall'Egitto sotto la guida di Mosè per gli ebrei ogni cinese sa raccontare a memoria questa storia scrive Sun Shuyun ogni cinese sa che i primi 200.000 combattenti comunisti furono scacciati dalle loro basi meridionali negli anni 30 sa che incalzati e braccati dai nazionalisti scelsero la sola via di salvezza andare dove nessuno avrebbe potuto inseguirli sopra montagne così alte che neppure gli uccelli vi arrivano a volare attraverso fiumi dove ponti e battelli erano stati bruciati dentro paludi e trappole mortali dopo quasi due anni di incredibile resistenza scrive Sun Shuyun dopo una marcia di 10.000 miglia l'esercito rosso raggiunge infine l'altopiano giallo del nord ovest attorno a quell'impresa di Mao Tse Tung sono fiorite favole create dalla propaganda comunista sono entrate nei manuali scolastici nel senso comune della gente hanno formato in qualche modo il nocciolo duro dell'identità nazionale cinese di oggi l'importanza simbolica della lunga marcia si capisce solo ricordando che era preceduta da una lunga decadenza da due secoli di umiliazioni della Cina da parte delle altre potenze imperiali quindi la lunga marcia è in un certo senso il momento del riscatto nel 1936 Mao scampato ai suoi inseguitori arriva nella zona di Yan'an e si ritrova isolato dal resto del mondo lontano da tutte le grandi città Pechino Nanchino Shanghai sono in mano alle forze nemiche i comunisti che già allora sono cultori metodici dell'indottrinamento delle masse si danno da fare per educare i contadini analfabeti della provincia dello Shanxi sono geniali per esempio gli esperimenti di quell'epoca che fanno i comunisti nel teatro popolare i partigiani traducono gli ideali del comunismo in storie molto semplici recitano nelle piazze dei paesi delle allegorie sugli abusi dei vecchi proprietari terrieri rappresentazioni edificanti sui benefici della riforma agraria e dell'egualitarismo comunista ma il partito in quel momento ha bisogno di amplificare la sua voce ben oltre le vallate dello Shanxi ha bisogno di raggiungere tutta la Cina possibilmente anche altri paesi i comunisti cercano comprensione solidarietà avrebbero bisogno di aiuti per il mondo esterno Mao nel 1936 è uno sconosciuto in occidente addirittura circolano leggende su un misterioso leader comunista che combatte alla testa di un'armata nelle montagne nessun giornalista straniero lo ha mai incontrato la zona governata da Mao e dai comunisti è off limits è circondata da un cordone di sicurezza delle truppe nazionaliste e in seguito dai giapponesi alcuni in quei tempi mettono addirittura in dubbio la reale esistenza di Mao o il fatto che sia ancora vivo nelle grotte di Yan'an 70 anni fa il destino di Mao incrocia quello di un audace giornalista americano che si è innamorato della Cina e da quell'incontro nasce uno dei più indimenticabili scoop dell'informazione moderna il giornalista americano si chiama Edgar Snow è nato nel Missouri nel 1905 è figlio di un piccolo editore di Kansas City ed è sbarcato a Shanghai all'età di 23 anni l'impatto con la miseria della Cina ha sconvolto Snow per la prima volta in vita mia scrive Edgar Snow mi trovai di fronte a esseri umani moribondi perché non avevano niente da mangiare ne vidi a migliaia uomini donne e bambini morire di fame davanti ai miei occhi avete mai visto un uomo scrive Edgar Snow avete mai visto un uomo onesto che ha sempre lavorato duro che rispetta la legge che non fa del male a nessuno quando non ha mangiato niente da più di un mese è lo spettacolo più sconvolgente che ci sia e il peggio continua Snow è che in quelle stesse città c'erano ancora uomini ricchi gente che accaparrava grano usurai e proprietari terrieri circondati di guardie armate che accumulavano enormi profitti il giornalista americano Snow armato di questa sua indignazione di questa passione civile pubblica le sue corrispondenze dalla Cina su vari giornali degli Stati Uniti e al tempo stesso sente crescere l'attrazione verso quegli ignoti comunisti di cui si narrano le promesse di giustizia sociale la voglia di raggiungerli per Snow diventa irresistibile e scrive così che cos'era la vita dietro le linee impenetrabili dei guerriglieri rossi mi sembrava incredibile che durante l'intero periodo in cui i loro Soviet avevano governato alcune regioni del sud della Cina cioè prima della lunga marcia non un solo osservatore straniero fosse entrato nel territorio rosso nonostante che fosse l'unica nazione al mondo sotto controllo comunista a parte l'Unione Sovietica tutto ciò che era stato scritto sui Soviet cinesi erano informazioni di seconda mano finalmente dopo otto anni dal suo sbarco a Shanghai Edgar Snow afferra la possibilità che stava sognando a Pechino lui è riuscito a conquistarsi la simpatia della vedova di Sun Yat-sen cioè il leader repubblicano rispettato come un padre della patria anche dai comunisti la vedova di Sun Yat-sen gli dà una preziosa lettera di presentazione che diventerà il lasciapassare per Snow presso i capi della guerriglia comunista a quel punto rischiando la vita affidandosi a degli emissari segreti che guidano i suoi movimenti ma lo tengono all'oscuro fino all'ultimo Snow riesce nella sua impresa diventa l'unico occidentale a oltrepassare la linea di combattimento penetra nella zona rossa dello Shanxi e così 70 anni fa dentro la grotta di Yan'an Edgar Snow può scrivere quello che rimarrà per sempre uno degli incipit più celebri nella storia del giornalismo il 16 luglio 1936 ero seduto su uno sgabello dentro la casa di Mao erano le nove di sera avevano suonato il coprifuoco e tutte le luci erano spente i muri e i soffitti della casa erano solida roccia il pavimento di mattoni la signora Mao nella stanza accanto faceva una marmellata di pesche Mao sedeva a gambe incrociate e fumava una sigaretta Chien Men nelle grotte di Yan'an dal 16 luglio del 1936 per quattro mesi Edgar Snow il giornalista americano diventa l'inseparabile compagno dei dirigenti comunisti cinesi Mao Tse Tung capisce l'opportunità che rappresenta quel giornalista è attraverso di lui che per la prima volta il leader comunista cinese può spiegare il suo pensiero al mondo può presentarsi come il salvatore del più grande popolo contadino della terra il salvatore di una nazione affamata e oppressa che nella rivoluzione deve trovare il suo riscatto e così in mezzo ai rigori della guerra partigiana Mao Tse Tung riesce a dedicare intere giornate a rispondere alle domande di Edgar Snow quei testi usciranno man mano sui giornali americani non appena Snow riemerge dalla sua spedizione clandestina a Yan'an e riappare a Pechino poi saranno raccolti in un libro classico intitolato Stella rossa sulla Cina un best seller mondiale fin dal 1938 l'importanza dello scoop di Snow è davvero enorme perché per almeno altri otto anni fino al 1944 nessun giornalista riesce a replicare l'exploit di Snow dopo la partenza dell'americano Mao e l'armata rossa tornano ad essere irraggiungibili le interviste contenute nel libro Stella rossa rimarranno le uniche informazioni sui comunisti cinesi sulla loro forza sui loro programmi durante tutto il periodo cruciale a cavallo della seconda guerra mondiale e l'influenza del libro Stella rossa si estende anche oltre perché per decenni il libro diventa una lettura obbligata per la sinistra occidentale la scintilla originaria di quel fascino del Maoismo che riesplode nel maggio 68 perfino i cinesi considerano a lungo Stella rossa come una bibbia anche perché Mao Tse Tung non scriverà mai un'autobiografia quindi molte notizie ufficiali sulla sua infanzia sulla sua giovinezza sono affidate per sempre a quei dialoghi del 1936 nelle grotte di Yan'an il racconto di Edgar Snow imprime il marchio d'origine all'immagine del comunismo cinese c'è il carisma personale di Mao in quelle pagine aveva un senso profondo di dignità personale scrive Snow qualcosa in lui suggeriva uno spietato potere di decisione quando lo giudicava necessario non l'ho mai visto arrabbiato ma ho sentito da altri che poteva scatenarsi in una furia intensa in quei momenti si dice che la sua padronanza dell'ironia e dell'invettiva fosse classica e micidiale c'è poi nelle pagine di Snow il prestigio di un uomo che dirige una guerra di popolo la più grande organizzazione di guerriglieri mai esistita al mondo c'è anche l'intuizione di tutto quello che Mao potrà diventare in seguito il liberatore della Cina nella lotta contro il Giappone il teorico di un comunismo di tipo nuovo fondato sui contadini ma anche un messia come lo definisce Snow il fondatore del ramo orientale di una nuova religione Mao e Edgar Snow resteranno amici per la vita dopo la morte di Snow nel 1972 e quella di Mao nel 1976 la ricerca storica ha rivelato che già durante la lunga marcia erano emersi i germi del totalitarismo la rieducazione attraverso il lavaggio del cervello per i dissidenti le purghe le lotte trafazioni le esecuzioni di avversari politici il mito di Mao ha ricevuto dei colpi formidabili a posteriori Edgar Snow è stato accusato di essersi lasciato manipolare di aver costruito una geografia di aver contribuito al culto della personalità eppure ancora oggi visitando le grotte di Yanan negli anfratti della montagna si ha la sensazione che in quel posto sono vissuti dei personaggi omerici degli eroi quasi primitivi nel loro rapporto con la terra e con le origini della Cina un pugno di sognatori di ribelli di banditi che disegnarono il futuro di una grande nazione e cambiarono il mondo la sua Oldsmobile Bianca è stata ritrovata su una stradina isolata nei pressi di Los Gatos vicino all'autostrada numero 17 che costeggia la Silicon Valley californiana sul cadavere c'era una sola ferita di arma da fuoco e lo sceriffo locale ha parlato di evidenti indizi di suicidio così in America all'età di 36 anni nel 2004 si è tolta la vita la storica sino-americana Iris Chung divenuta celebre nel 1997 con il suo best-seller mondiale intitolato Lo stupro di Nanchino è un'opera che ha squarciato 60 anni di silenzi di bugie e di omertà rivelando uno dei più atroci crimini contro l'umanità il massacro di 260.000 civili cinesi in una sola città commesso dall'esercito giapponese nel 1937 è un libro al centro di controversie furiose e tuttora rifiutato dai giapponesi perciò il suicidio di Iris Chung è diventato il simbolo di una maledizione che perseguita le più grandi nazioni asiatiche in cui la memoria storica viene rimossa e le vittime non possono neppure ottenere il risarcimento morale della verità i ricordi familiari avevano ispirato la giovane storica sinoamericana in una sfida che era diventata alla fine la missione della sua vita cioè fare luce sui crimini di guerra dei giapponesi i nonni di Iris Chung erano scampati per miracolo a Nanchino e nei loro racconti sulla furia degli invasori lei aveva trovato i primi indizi di una vicenda quasi invisibile in molti libri di storia lo storico americano George Will lo ha definito il più rivoltante episodio di barbarie in un secolo già pieno di orrori un evento quasi completamente dimenticato prima che la Changlo mettesse al centro del suo libro e per l'Asia quella tragedia lo stupro di Nanchino segna in un certo senso il vero inizio della seconda guerra mondiale due anni prima che Hitler invada la Polonia avviene in una Cina già in piena disgregazione una Cina contesa sbocconcellata fra diverse potenze imperiali è già nel 1931 che al nord le forze imperiali giapponesi si sono annesse la Manciuria la parte settentrionale della Cina ma il 7 luglio 1937 usando come pretesto un incidente con le truppe cinesi sul ponte di Marco Polo vicino a Pechino i giapponesi si lanciano verso il sud per invadere l'intera Cina e spugnano Shanghai poi l'armata dell'imperatore Hirohito risale il corso del fiume Yangtze e il 13 dicembre 1937 i giapponesi entrano nell'antica città di Nanchino che nel frattempo il partito nazionalista Kuomintang di Chiang Kai-shek ha ripristinato come capitale nazionale è a Nanchino che si scatena la brutalità delle forze di occupazione in una strage senza precedenti in otto settimane i giapponesi incendiano e distruggono gran parte della città uccidono 260.000 cinesi stuprano oltre 20.000 donne su una popolazione di un milione di abitanti in proporzione quello di Nanchino è un massacro che supera il bilancio di Dresda o di Hiroshima nella seconda guerra mondiale come nel caso dell'olocausto nazista quello che colpisce nello stupro di Nanchino da parte dei giapponesi è la normalità dei carnefici e insieme una cultura di superiorità razziale che riduce le vittime a dei non umani c'è almeno un generale dell'imperatore Hirohito che tenta di opporsi alla distruzione di Nanchino e propone una politica di alleanze di consenso con la popolazione locale anche per cercare di organizzare le basi di un'occupazione a lungo termine ma alla fine il Giappone opta per la soluzione più economica in un certo senso la rapidità dell'avanzata delle truppe nipponiche è tale che pone dei grossi problemi di gestione del territorio conquistato la città la città di Nanchino è nel caos i giapponesi non hanno i mezzi per sfamare tutta la popolazione ed ecco quindi che lo sterminio ha una sua terribile razionalità la storica Chang ha indagato anche sul ricorso massiccio allo stupro su questa sorta di rito sistematico della violenza sessuale esercitata sulle donne come parte integrale della cultura di guerra gli eccessi negli stupri di Nanchino sono tali che a un certo punto perfino le autorità militari giapponesi hanno qualche ripensamento e per regolare dall'alto gli stupri nel corso della seconda guerra mondiale dopo Nanchino i vertici giapponesi adotteranno la soluzione delle schiave sessuali cioè le prigioniere cinesi e coreane relegate nei bordelli per soldati il libro Lo stupro di Nanchino è stato coronato da un successo mondiale ma anche suscitato controversie infinite le prove raccolte dalla Chang sono state confutate dai politici e dagli storici giapponesi l'autrice è stata accusata di avere esagerato le dimensioni della strage senza portare prove sufficienti è vero non mancano le lacune le contraddizioni nelle testimonianze dei cinesi anche perché per accelerare l'eliminazione dei cadaveri i soldati giapponesi ne buttarono migliaia nel fiume Yangtze e quindi di fatto è impossibile un conteggio esatto basato sui resti umani ma c'è una testimonianza decisiva di fonte occidentale una testimonianza insospettabile un uomo d'affari tedesco nazista John Rabe nazista militante che stava a Nanchino e salvò dalla morte centinaia di migliaia di cinesi proteggendoli adottandoli nella zona internazionale della città John Rabe ha tenuto un diario che inchioda i responsabili di quella strage e poi la Chang ha ritrovato anche una documentazione importante negli archivi della Yale Divinity School un collegio di missionari americani a Nanchino perfino negli archivi del dipartimento di stato americano è emerso un telegramma intercettato nel 1938 da Tokyo firmato dal ministro degli esteri giapponese Koki Hirota il telegramma afferma testualmente resoconti verbali di testimoni oculari attendibili e lettere di individui la cui credibilità non è sospetta offrono le prove che il nostro esercito si è comportato in modi che ricordano Attila e gli Unni questo scriveva in un telegramma un ministro giapponese non sempre però le autorità americane hanno contribuito a far luce su quella pagina tragica negli anni 50 sotto l'influenza dell'anticomunismo maccartista quando la priorità strategica per Washington era ricostruire il Giappone e farne un solido alleato nella guerra fredda contro l'Unione sovietica e contro la Cina maoista anche la storiografia americana ha fatto la sua parte nel minimizzare i crimini di guerra dell'esercito di Hirohi il revisionismo storico giapponese il rifiuto di fare i conti con le responsabilità dell'esercito nipponico durante l'occupazione della Cina a partire dagli anni 30 ancora oggi ha dei rigurgiti che sono terrificanti un episodio recente in un processo in Giappone ha come protagonista una delle più grandi aziende di quel paese la Mitsubishi i deportati cinesi usati come schiavi operai nella seconda guerra mondiale secondo la Mitsubishi non hanno diritto a scuse o a risarcimenti perché quella del Giappone in Cina non fu un'invasione ma una guerra di autodifesa questa è la tesi degli avvocati della Mitsubishi una delle più grandi multinazionali del mondo un colosso che spazia dall'automobile all'energia dalla chimica all'edilizia dalla finanza alle assicurazioni la Mitsubishi durante la seconda guerra mondiale fu uno dei massimi produttori di armamenti in Giappone il suo revisionismo oggi è un insulto alla memoria un insulto ai sopravvissuti o agli eredi dei deportati che ancora attendono giustizia in Cina da 60 anni l'uso di manodopera schiavista manodopera cinese coreana costretta ai lavori forzati in fabbrica ebbe un escalation da parte dei giapponesi soprattutto a partire dal 1939 in quell'anno la grande industria giapponese era impegnata nello sforzo della produzione bellica si era alla vigilia dell'attacco di Pearl Harbor contro gli americani e la manodopera nazionale del Giappone cominciava a scarseggiare c'era la mobilitazione di massa nelle forze armate giapponesi già impegnate a occupare molti territori in Cina e nel resto dell'Asia a quel punto scatta l'uso della deportazione e la Mitsubishi ebbe un ruolo di punta nell'utilizzo degli schiavi fu la Mitsubishi a costruire nei suoi cantieri e poi a utilizzare 17 navi dell'inferno così sono stati battezzati bastimenti mercantili addetti al trasporto di prigionieri dalla Cina verso le officine e le miniere giapponesi la Mitsubishi fu coinvolta anche in un'altra vicenda infame la costruzione della linea ferroviaria tra la Birmania e il Siam oggi la Thailandia un lavoro in cui morirono molti operai stranieri e sempre la Mitsubishi ebbe un ruolo diretto in uno degli episodi più tragici dell'occupazione giapponese in Cina i tecnici della Mitsubishi in Manchuria sperimentavano sugli esseri umani armi chimiche e batteriologiche in quelle torture oltre ai cinesi morirono anche dei militari americani nelle miniere della Mitsubishi tra i prigionieri cinesi il tasso di mortalità raggiunse punte del 30% nelle fabbriche era sistematico con lo sfruttamento minorile in particolare di ragazzine coreane e oltre all'alto numero di vittime un abuso supplementare quasi una beffa fu il sequestro dei miseri salari dei detenuti la Mitsubishi come altre aziende giapponesi versava quei salari su cosiddetti libretti di risparmio patriottico che non furono restituiti agli schiavi neppure dopo la guerra nonostante queste atrocità siano state ampiamente documentate dopo la resa del Giappone nel 1945 in decine di cause in tribunale gli avvocati della Mitsubishi e delle più grandi multinazionali giapponesi hanno negato l'evidenza hanno negato di essere state protagoniste dello schiavismo e della deportazione hanno negato perfino che ci sia stata una vera occupazione giapponese della Cina il negazionismo giapponese il rifiuto di accettare quello che è stato lo stupro di Nanchino e la responsabilità dei militari nipponici durante l'invasione della Cina è una ferita aperta in Asia in quella parte del mondo non si riesce ancora a fare i conti con il passato il primo imputato oggi senza alcun dubbio è il revisionismo giapponese di recente questo revisionismo ha conosciuto un revival inquietante attraverso la riscrittura dei manuali scolastici ci sono associazioni politiche movimenti di estrema destra in Giappone spesso finanziati dalle multinazionali come la Mitsubishi che fanno stampare nuovi manuali scolastici dove si minimizza la colpa del Giappone durante la seconda guerra mondiale addirittura si giustifica l'imperialismo giapponese degli anni trenta in nome della difesa di una identità asiatica minacciata dalle potenze coloniali dell'occidente quindi il Giappone che invade la Manciuria nel 1931 il Giappone che poi dilaga dal 1937 in tutta la Cina il Giappone colpevole dello stupro di Nanchino non sarebbe altro che un paese impegnato nella riscossa degli asiatici nella guerra contro l'imperialismo bianco c'è anche in questa storia del revisionismo giapponese la causa profonda di quelle tensioni che oggi impediscono un rapporto normale tra la Cina e il Giappone le tensioni che sono state esacerbate esasperate dalle ricorrenti visite dei primi ministri giapponesi a quel santuario a quel tempio shintoista di Tokyo dove si venera la memoria di tutti i caduti giapponesi nella seconda guerra mondiale ivi compresi alcuni dirigenti dell'esercito giapponese condannati come criminali di guerra quelle visite dei primi ministri giapponesi nel tempio Yaku-suni di Tokyo sono vissute come una provocazione dai cinesi la stessa Cina ha avuto le sue ambiguità ha oscillato tra periodi di appeasement quando la sua priorità era trarre investimenti giapponesi e quindi ha steso una sorta di velo pietoso di silenzio sulle vicende degli anni trenta e poi altri momenti in cui invece il rancore contro il giappone nella popolazione cinese è stato incoraggiato ad arte dai leader comunisti in chiave nazionalista la vittima alla fine è sempre la verità storica la verità storica viene manipolata da una parte e dall'altra del mar del giappone i giapponesi riscrivono i manuali scolastici onorano dei criminali di guerra nel tempio yakusuni i cinesi da parte loro nel museo militare di pechino fanno finta che la seconda guerra mondiale sia stata vinta da mao zetung a loro volta stendono il silenzio sul ruolo degli americani della bomba atomica di hiroshima e di nagasaki per piegare la resistenza dell'imperatore hirohito e delle sue truppe i cinesi nel museo di storia militare di pechino mentre rimproverano al giappone di non avere mai chiesto veramente perdono per la sua invasione a loro volta alimentano i sospetti dei paesi vicini perché esaltano la storia del loro imperialismo antico in corea o censurano la loro tragica invasione del vietnam nel 1979 il problema della memoria della memoria storica amputata che perseguita l'asia è lo stesso problema che ha perseguitato la storica iris chang fino al suicidio nell'introduzione al suo libro lo stupro di nanchino iris chang aveva messo una citazione del filosofo george santayana chi non ricorda il proprio passato è condannato a ripeterlo per primi arrivarono i tedeschi e gli austriaci poi i polacchi quasi tutti si erano imbarcati a Genova sulle navi del Lloyd Triestino avevano fatto scalo a Port Said Aden Bombay Ceylon Singapore Manila e Hong Kong ma senza potere mai scendere a terra dalle navi finché non raggiungevano la loro meta finale che era Shanghai viaggiavano sotto un'afa torrida indossando pesanti cappotti di lana perché erano gli unici vestiti che avevano sicuramente non erano preparati alla vita in una metropoli d'estremo oriente erano senza soldi perché i nazisti li avevano lasciati partire solo a condizione che abbandonassero tutti i loro beni e si mettessero in viaggio con 20 marchi tedeschi e una valigia a testa come se non bastasse gli armatori italiani approfittavano di loro e si facevano pagare il doppio della tariffa per il viaggio in nave questa è una delle più strane pagine di storia del ventesimo secolo la storia della fuga di 20.000 ebrei europei che scamparono alle persecuzioni di Hitler solo perché nel 1938 trovarono rifugio nel ghetto di Shanghai e vissero a Shanghai fino alla fine della seconda guerra mondiale sotto la sorprendente protezione di un Giappone alleato dei tedeschi è una vicenda che ha dell'incredibile ancora poco nota ricostruita solo di recente nelle memorie degli ultimi sopravvissuti tra questi per esempio c'è Ursula Blomberg che fuggì da Bratislava con i suoi genitori quando aveva 11 anni e solo 65 anni dopo ha consegnato i ricordi di quell'epoca nel suo diario di Shanghai il resto del mondo scrive la Blomberg che oggi vive negli Stati Uniti aveva chiuso gli occhi di fronte e gli orrori della Germania nazista aveva chiuso le orecchie di fronte alle nostre grida di aiuto aveva chiuso le porte in faccia a chi cercava di scappare dall'orrendo incubo del genocidio l'America il Messico il Canada il Sud America l'Australia il Sud Africa per non parlare delle nazioni europee e delle loro colonie tutti respingevano i rifugiati e continua la Ursula Blomberg nelle sue memorie a Singapore colonia britannica noi ebrei non potevamo neppure scendere dalla nave per poche ore durante lo scalo in tutto il mondo soltanto una città ci aprì le braccia Shanghai l'instancabile metropoli cinese popolata di avventurieri e cacciatori di fortuna la capitale del piacere e del peccato tenne le sue porte spalancate e offrì asilo a noi ebrei disperati in fuga dall'Europa così scriveva Ursula Blomberg fuggita da Bratislava a undici anni nel 1938 ecco la Shanghai degli anni 30 veniva definita a seconda dei gusti la Parigi d'Oriente o il bordello dell'Asia era una metropoli fantastica e repellente raffinata e caotica eccitante e viziosa Shanghai alla fine degli anni 30 ha una popolazione di 2 milioni di cinesi e di 200 mila stranieri tra russi indiani giapponesi inglesi francesi tedeschi forse è la città più cosmopolita del pianeta è una città molto particolare la Shanghai degli anni 30 che accoglie 20 mila ebrei europei in fuga dalle persecuzioni di Hitler le concessioni ottenute dalle potenze imperialiste ai danni della Cina dopo la guerra dei boxer del 1900 hanno consentito a Shanghai la costruzione di quartieri coloniali francese inglese tedesco tuttora del resto si possono ammirare le vestigia architettoniche di quei quartieri coloniali sul Bund il lungo fiume di Shanghai dove si alternano palazzi in stile neoclassico fin de siècle o art déco che potrebbero benissimo essere a Londra a Berlino a Vienna o a Parigi Shanghai è il principale porto dell'Asia tra le due guerre mondiali unisce le punte estreme della miseria nei suoi bassifondi cinesi e nel proletariato delle sue fabbriche insieme con l'opulenza sfacciata delle elite cinesi oppure della grande borghesia mercantile venuta dall'Occidente ha una industria cinematografica splendida rivaleggia con Hollywood c'è un'attrice cinese Zhuang Lin Yu che viene definita in quegli anni la Greta Garbo d'Oriente ci sono a Shanghai ristoranti diretti da grandi cuochi parigini ci sono concorsi ippici che sfidano Ascot e Longchamp ci sono casinò e bordelli per tutte le tasche e tutti i gusti compresa perfino una fiorente comunità gay a differenza di New York e delle capitali europee tra l'altro Shanghai è passata indenne attraverso il crack del 1929 la grande depressione il suo boom non si è mai interrotto la vita notturna è sfrenata Shanghai in quegli anni ha un motto non ci sono limiti ai piaceri che il denaro può comprare e questo aspetto è decisivo per la vicenda dei profughi dall'Europa al vertice della piramide sociale in quella Shanghai ci sono ricche famiglie ebree che si danno un grande affare per aiutare gli esuli in fuga dalla Germania nazista sono delle dinastie sefardite si chiamano Abraham Ezra Hardun Kaduri Sassun Shamun sono quasi tutti originari di Baghdad per esempio Silas Hardun già morto nel 1931 ha lasciato un'eredità di 150 milioni di dollari di quei tempi è stato il businessman straniero più potente di tutto l'estremo oriente Elie Kaduri ha fatto fortuna nelle merchant bank e nel commercio di caociu possiede il Jewish Country Club la catena alberghiera degli Hong Kong and Shanghai hotels e ha una villa Marble Hall a Shanghai dove c'è la più grande sala da ballo della città dove le note del tango e del foxtrot risuonano fino alle prime luci dell'alba a dominare la scena soprattutto in questa comunità ebraica antica comunità ebraica di Shanghai c'è senza dubbio Victor Ellis Sassoon detto Sir Victor è discendente di una famiglia di ebrei iracheni che sono stati i banchieri del califo di Baghdad poi si sono trasferiti in estremo oriente per sfuggire al crescente antisemitismo del mondo arabo-ottomano in Cina la fortuna dei Sassoon si è moltiplicata col commercio delle due materie prime che sono l'anima dell'impero britannico cioè il cotone e l'oppio padrone di un conglomerato finanziario con sedi a Shanghai e a Bombay Sir Victor Sassoon ha passaporto inglese è stato un eroe della prima guerra mondiale come pilota della Royal Air Force britannica e nella metropoli cinese di Shanghai Sassoon si è fatto costruire l'albergo più lussuoso dei suoi tempi il Katai con una monumentale hall di marmo rosa di Carrara a freschi liberty mobili di morgano in stile Tudor 214 suite alimentate di acqua pura da una sorgente naturale è il primo hotel del mondo ad avere il telefono e l'aria condizionata in tutte le stanze l'aiuto umanitario della comunità di ebrei sefarditi di Shanghai è decisivo per mettere in salvo quei 20.000 perseguitati dal nazismo però la Shanghai che accoglie i profughi ebrei dalla Germania è ben diversa dai quartieri alti dalla città lussuosa degli occidentali ricchi i giapponesi occupano quasi tutta la Cina ma fino a quel momento rispettano Shanghai come una città aperta dove ci sono varie concessioni straniere nel 1938 proprio i giapponesi accettano di ospitare gli ebrei tedeschi in un quartiere sotto il loro diretto controllo un quartiere cinese un popolare distretto di Hongkyu e con l'arrivo della marea di profughi che si mescolano agli abitanti cinesi il nome di Hongkyu diventa sinonimo del ghetto ebraico di Shanghai è un insediamento unico e assolutamente senza precedenti sotto quelle latitudini esotiche Ursula Blomberg che è fuggita a 11 anni con i suoi genitori ricorda lo shock del primo impatto con la Cina scrive la Blomberg nulla assomiglia alle immagini stereotipate dell'Asia che abbiamo ricevuto nella nostra infanzia cioè giardini profumati signore fasciate di sete eleganti farfalle e fiori delicati Shanghai è avvolta nel tanfo di escrementi umani e di urina i culis facchini in mutande madidi di sudore trasportano carichi pesantissimi che dondolano dalle canne di bambù sulle loro spalle ossute orde di ciclisti eserciti di tiratori di risciò si accalcano agli incroci insieme con i venditori ambulanti che strillano per offrire le loro merci i mendicanti sono dappertutto uomini donne seminudi e pieni di piaghe purulente continua la descrizione di Ursula Blomberg le condizioni igieniche sono spaventose nel caldo soffocante umido gli alimenti marciscono in pochi giorni e vengono divorati dai vermi non esistono fognature a Shanghai i bambini malati di diarrea girano con delle code di cotone fra le natiche per arrestare lo scolo nei vicoli si inciampa nei topi morti nelle carcasse di ogni sorta di animali in decomposizione perfino nei cadaveri di neonati abbandonati nonostante gli stenti descritti nel suo diario la famiglia di Ursula Blomberg si adatta rapidamente suo padre crea una ditta per dipingere case e tra i suoi clienti annovera perfino alcuni celebri bordelli di Shanghai è quell'antico universo delle cortigiane cinesi che naturalmente incuriosisce l'adolescente Ursula anche lei la ragazza trova lavoro a sua volta come maestra d'inglese per tre concubine di un ricco generale cinese e così Ursula entra in contatto con la decadente elite cinese di Shanghai intanto in questa città già seducente per la sua varietà multietnica molto antica quell'innesto improvviso di tanti ebrei mitteleuropei genera una nuova meraviglia tra i profughi scappati dalla Germania ci sono artisti attori di teatro e di cabaret e loro riproducono a decimila chilometri da casa la stessa vivacità culturale di Berlino e di Vienna prima del nazismo per cui nel quartiere cinese di Hongqiu fioriscono di colpo pasticcerie austriache ristoranti di gula schungherese teatri di operetta quartetti di musica da camera che suonano arie di Mozart e di Beethoven c'è un incubo che tormenta il ghetto di Shanghai alla fine degli anni trenta sono le notizie sempre più allarmanti che filtrano dai campi di concentramento tedeschi insieme con quelle rivelazioni cresce nella comunità ebraica di Shanghai il timore che la persecuzione nazista riesca a riagguantare anche quei 20.000 che hanno trovato scampo nella Cina occupata dalle truppe giapponesi il regime nazista si è incrudelito l'antisemitismo è diventato sempre più feroce i gerarchi del nazismo si sono pentiti di averli lasciati partire quei 20.000 ebrei e a questo punto sono determinati a estendere l'olocausto in ogni angolo del mondo in uno di questi tentativi Heinrich Himmler capo supremo della Gestapo manda come suo emissario personale a Tokyo Josef Meisinger detto il macellaio di Varsavia perché ha sterminato 100.000 ebrei polacchi nel 1939 ha mandato Meisinger a Tokyo per convincere i giapponesi a consegnare alla Germania i 20.000 profughi di Shanghai eppure per ragioni che sono rimaste in parte avvolte nel mistero l'impero del sollevante respinge al mittente questa richiesta dell'alleato tedesco non si saprà forse mai esattamente il perché forse il Giappone conserva gratitudine per i prestiti della finanza ebraica new yorkese che ha finanziato la sua guerra contro la Russia azzarista nel 1904 c'è un'altra ipotesi forse i vari Sassun e Kaduri i ricchi ebrei sefarditi di Shanghai pagano a loro volta un riscatto segreto per salvare i rifugiati di Shanghai e forse questa è un'ultima ipotesi che fanno gli storici i giapponesi anche in piena guerra mondiale continuano a sentire il fascino degli ebrei che in Giappone sono ammirati da tempi antichi vengono descritti come un popolo superiore dotato per la matematica e per la musica sta di fatto comunque che il destino degli ebrei in Cina anche se confinati nel ghetto di Hongkyou tra mille disagi materiali è un destino pur sempre migliore di quello che attende gli altri occidentali perché subito dopo l'attacco a tradimento dei giapponesi a Pearl Harbor nel dicembre del 1941 non appena le truppe nepponiche entrano in guerra contro gli Stati Uniti e la Gran Bretagna tutti i cittadini inglesi e americani ancora residenti in Cina subiscono una sorte terribile vengono catturati sono deportati a migliaia rinchiusi nei campi di lavoro dell'esercito giapponese e poi saranno decimati dalla fame dalle malattie perfino dall'uso sistematico della tortura da parte dei loro carcerieri giapponesi per gli ebrei del ghetto di Shanghai la guerra si fa sempre più vicina le privazioni materiali aumentano lo spettro soprattutto di una disfatta delle potenze alleate fa temere il peggio eppure la sorprendente incolumità garantita ai 20.000 ebrei di Shanghai dal Giappone resisterà fino all'ultimo e così ricorda Ursula Blomberg nel suo diario da Shanghai un giorno la guerra improvvisamente finì e allora scoprimmo tutta la verità sulla sorte di 6 milioni di ebrei nomi come Treblinka Auschwitz Bergen-Belsen Tachau Buchenwald rimasero impressi per sempre nelle nostre anime di colpo le nostre piccole miserie nel ghetto di Shanghai impallidirono in confronto all'orrore dei campi della morte di Hitler a me e a tutti quelli come me eternamente grati Shanghai rivelò di essere stata il paradiso dei sopravvissuti Mao Tse Tung leader della guerra partigiana negli anni 30 fondatore della Repubblica Popolare Cinese nel 1949 dopo avere sconfitto i nazionalisti di Shanghai Shek è stato senza dubbio uno dei giganti del Novecento Mao è stato uno dei pochi leader che hanno lasciato un'impronta indelebile sulla storia di quel secolo la sua rivoluzione comunista ha cambiato la Cina ha contribuito a trasformare le condizioni di vita di centinaia di milioni di persone in effetti il popolo più numeroso del pianeta Mao ha anche creato un'ideologia la cui portata si è estesa oltre i confini del suo paese il Maoismo ha influenzato per esempio la protesta studentesca del maggio 68 parigino ha permeato diverse correnti della sinistra occidentale si pensi in Italia a quella che fu la frazione del manifesto che era in dissenso con il partito comunista italiano anche sul giudizio da dare della rivoluzione comunista cinese e poi interi movimenti di liberazione regimi socialisti nel terzo mondo si sono ispirati al comunismo cinese a 30 anni dalla sua morte avvenuta nel 1976 ci sono ancora dei guerriglieri che si autodefiniscono maoisti in Nepal in India perfino in Peru l'irruzione della Cina di Mao sulla scena internazionale fin dagli anni 50 ha modificato gli equilibri mondiali molto prima di diventare quel colosso economico che oggi conosciamo la Repubblica Popolare Cinese anche quando era ben più povera e meno sviluppata è stata comunque una potenza politica e militare e le sue scelte strategiche hanno segnato le vicende mondiali come ad esempio la famosa svolta di Bandung dal nome della città indonesiana dove si tenne la conferenza che diede il via al movimento dei paesi non allineati cioè non allineati né con l'America capitalista né con l'Unione Sovietica ma allo stesso tempo sotto Mao Zedong e per colpa sua il popolo cinese ha dovuto subire tragedie e sofferenze terribili oggi il giudizio degli storici è quasi unanime nel considerare Mao il responsabile di un bilancio di vittime che probabilmente arriva a 70 milioni di morti rispetto a questa sua importanza storica oggettiva la conoscenza reale del personaggio di Mao è ancora limitata in occidente al di fuori degli specialisti o degli appassionati le informazioni che il grande pubblico ha su Mao sono vaghe o sono obsolete e magari del tutto sbagliate e questa ignoranza su Mao non riguarda solo gli occidentali ma quello che è più sorprendente riguarda la stragrande maggioranza dei cinesi che dovrebbero saperne molto di più di noi la maggioranza dei cinesi ha ricevuto sul padre fondatore della Repubblica Popolare delle notizie semplicistiche stereotipate piene di lacune a volte infarcite di leggende e di propaganda su nessun altro dei leader del novecento il bilancio storico rimane così aperto così controverso così incerto dopo essere stato idolatrato come un vendicatore dei poveri e degli oppressi come il creatore di una società ideale egualitaria e giusta trent'anni dopo la sua morte Mao Zedong è candidato secondo alcuni a finire in compagnia di Hitler e di Stalin sulla figura di Mao Zedong non si è ancora consolidato un vero consenso neppure tra gli storici occidentali mentre su Hitler e su Stalin oggi esiste una sorta di saggezza convenzionale un giudizio finale che è accettato almeno da una maggioranza degli esperti e anche dell'opinione pubblica su Mao il verdetto della giuria è ancora sospeso a questo naturalmente contribuisce in maniera determinante l'atteggiamento degli stessi cinesi perché a Berlino non c'è un memoriale che rende omaggio a Hitler anzi i manuali di storia nelle scuole tedesche condannano in modo inequivocabile il nazismo e l'olocausto e tutta la classe dirigente tedesca del dopoguerra si è formata viene da partiti politici che si sono formati prendendo le distanze dal nazismo perfino a Mosca oggi non si fa la fila sulla piazza rossa per visitare la mummia di Stalin il successore immediato di Stalin Nikita Khrushchev prese le distanze subito e denunciò i crimini di Stalin fin dal 1956 avviando avviando il cosiddetto processo di destalinizzazione dell'Unione Sovietica e in Cina la situazione invece è ben diversa a Pechino come sa anche il turista occidentale che sia andato per poche ore a visitare la capitale a Pechino il mausoleo che custodisce la salma di Mao occupa il centro di piazza Tiananmen cioè il luogo più simbolico del potere cinese di fronte alla città proibita in cui abitavano gli imperatori e c'è una folla di visitatori ogni giorno che sfila davanti a quel cadavere imbalsamato una folla enorme non tanto di turisti stranieri una folla di cinesi c'è poi anche la gigantografia il ritratto immenso con Mao la faccia di Mao appesa all'ingresso del palazzo imperiale sempre in piazza Tiananmen a Pechino d'altronde gli eredi politici di Mao sono tuttora al governo e il suo partito comunista conserva il monopolio del potere in Cina certo non esiste più un culto della personalità di Mao paragonabile a quello che veniva imposto e praticato in Cina quando Mao era vivo e anche nella Cina di oggi qualche verità sui terribili errori del grande timoniere come veniva chiamato Mao qualche verità ha cominciato ad affacciarsi dopo la morte di Mao cominciarono a uscire dei libri di testimonianze sulla sua persona il più celebre e il più dissacratore di quei libri di testimonianze è stato senza dubbio il diario di ricordi del suo medico personale Li Chisui un diario che però non è mai uscito ufficialmente nella Cina popolare è stato pubblicato nel 94 a Taiwan è stato tradotto in inglese negli Stati Uniti con il titolo La vita privata del presidente Mao è circolato comunque ampiamente in forme clandestine in Cina e oggi qualunque cinese volesse leggerne delle pagine le trova abbastanza facilmente su internet ecco il medico personale di Mao il medico che lo aveva assistito dal 1954 fino alla sua morte nel 76 ha presentato un Mao Tse Tung egocentrico e presuntuoso irascibile amante del lusso predatore sessuale insicuro della propria cultura vittima di periodiche gravi depressioni forse più furbo che intelligente e la sua crudeltà secondo quel ritratto del medico personale era a volte il frutto di impulsi patologici incontrollabili altre volte il risultato di un freddo calcolo per intimidire gli avversari e perfino i collaboratori per imporre un clima di terrore funzionale al proprio potere che cosa resta del mito di Mao Tse Tung in Cina oggi anche la versione ufficiale della storia quella promulgata dal governo di Pechino contiene delle critiche per esempio si ammette che il cosiddetto grande balzo in avanti quella politica che Mao Tse Tung lanciò nel 1959 puntando a una industrializzazione forzata del paese ivi compresa l'industrializzazione delle campagne una politica per cui si distoglievano i contadini dal lavoro dei campi per costringerli addirittura a costruire dei piccoli altiforni siderurgici nei villaggi che fece crollare naturalmente la produzione agricola fece crollare i raccolti ecco oggi si ammette ufficialmente che il grande balzo in avanti provocò stenti carestie di massa tra il 59 e il 1962 si ammette che la rivoluzione culturale scatenata da Mao tra il 1966 e il 76 fu un periodo di eccessi di violenze di persecuzioni e però quelle tragedie vengono liquidate in maniera abbastanza sbrigativa ad esempio nei manuali di storia usati nelle scuole medie cinesi oggi il grande balzo in avanti che noi sappiamo provocò svariate decine di milioni di morti viene evocato in pochi paragrafi che non citano il numero di vittime e attribuiscono il disastro a una errata pianificazione centrale la causa di quegli errori di pianificazione non è mai stata l'oggetto di un vero dibattito politico nazionale probabilmente perché questo rimetterebbe in discussione l'infallibilità del partito comunista e la stessa legittimità dell'attuale classe dirigente nessuno dei leader che si sono succeduti al potere a Pechino negli ultimi trent'anni ha mai denunciato i crimini di Mao il mito del grande timoniere resiste anche se con il passare del tempo quel mito ha subito una trasformazione oggi quello che viene studiato a scuola dai ragazzi cinesi quello che viene celebrato nella memoria storica nazionale è soprattutto il Mao giovane il Mao leader della lunga marcia capo della lotta di liberazione contro l'invasore giapponese il fondatore di una repubblica popolare unita e stabile che ha restituito alla Cina uno status da grande potenza quindi c'è uno slittamento progressivo della ideologia unificante della Cina dal comunismo verso il nazionalismo la Cina al tempo stesso è molto divisa sulla figura di Mao cioè sono delle divisioni impercettibili che attraversano il tessuto sociale del paese le raccoglie in maniera un po' semplificata una battuta ironica come spesso se ne fanno nei regimi autoritari una battuta che vuole spiegare quella lunga fila di visitatori in pellegrinaggio quotidiano al mausoleo di piazza Tiananmen dove c'è la Salma di Mao quella fila che in tutte le stagioni sfida l'afa estiva gli inverni polari della capitale per vedere la Salma di Mao si dice che la metà di quei visitatori vengono per celebrare Mao l'altra metà per assicurarsi che sia morto davvero e tornare a casa più tranquilli ecco un'ambivalenza come quella catturata dalla battuta permane davvero tra i cinesi c'è una Cina che ha orrore di qualsiasi ritorno al passato alla economia di guerra di razionamento alla miseria e all'oppressione del comunismo egualitario degli anni più radicali di Mao c'è un'altra parte della Cina che invece oggi ha una certa nostalgia di Mao è soprattutto la Cina delle campagne povere è lì che il mito di Mao non è mai tramontato e addirittura conosce un revival è un mito di Mao che è il rimpianto di un'epoca in cui le diseguaglianze sociali erano meno accentuate e meno crudeli di quelle della Cina capitalista di oggi se si guarda soltanto all'individuo Mao Tse Tung a quelle piccole vergogne private rivelate per esempio dalle memorie del suo medico personale si rischia di non capire la figura storica e l'eredità storica del leader non si riesce a spiegare in modo soddisfacente la sua ascesa nel contesto della Cina arretrata e sconvolta dalla crisi del primo novecento non si riesce a capire guardando solo al mostro Mao come e perché Mao seppe conservare il potere fino alla morte non solo ma conquistò un prestigio internazionale un'aureola di rispetto che tuttora lo circonda bisogna ricordare che il novecento fu un secolo crudele con i cinesi ancora prima che spuntasse Mao all'orizzonte fu il secolo in cui la Cina visse il crollo finale di una dinastia imperiale che aveva avuto alle spalle una civiltà ultramillenaria ci fu la decadenza economica di un paese che era stato per gran parte della sua storia il più ricco e il più avanzato del pianeta il novecento si aprì su un livello di estrema indigenza e di degrado disumano delle condizioni di vita nelle campagne cinesi e prima ancora del grande balzo in avanti o delle purghe della rivoluzione culturale c'era stato prima di Mao il terrore seminato dai signori della guerra nel periodo in cui ogni ordine sociale era scomparso in Cina il banditismo e la violenza dilagavano e poi il nome di Mao e degli ideali che lui seppe suscitare sono state fatte delle buone cose in Cina negli anni 50 i progressi nel campo della sanità della alfabetizzazione l'aumento dell'occupazione la costruzione di abitazioni servizi sociali anche quando il progresso economico subì degli improvvisi arretramenti per gli errori drammatici di Mao come il grande balzo in avanti tuttavia il grande timoniere rimase nel cuore di molti cinesi per altre conquiste per esempio il fatto di aver tenuto testa gli americani nella guerra in Corea del 1950 53 il primo conflitto non perduto dalle truppe cinesi da oltre un secolo e poi la costruzione della bomba atomica nel 1964 la politica estera del non allineamento che fece della Cina il leader del terzo mondo e una potenza alternativa nel dualismo della guerra fredda tra America e Unione Sovietica la classe dirigente che guida il paese all'inizio del ventunesimo secolo il presidente Hu Jintao il primo ministro Wen Jiabao si può definire la generazione dei nipoti di Mao perché è arrivata al potere nella terza ondata di successione dopo il regno di Deng Xiaoping l'uomo delle riforme di mercato e dopo Jiang Zemin per molti aspetti Hu Jintao e Wen Jiabao sono gli eredi dei moderati Chu Enlai e Deng Xiaoping più che di Mao di Chu Enlai proseguono la politica di apertura della Cina verso il mondo esterno di Deng Xiaoping proseguono naturalmente la conversione al capitalismo però anche loro di Mao hanno mantenuto qualcosa il decisionismo quella capacità di mobilitare le energie della Cina quelle immense energie umane attorno al perseguimento di progetti titanici quella tenacia quella caparbietà che molti stranieri ammirano nella Cina di oggi quando visitano meravigliati città modernissime come Pechino Shanghai vedono la modernizzazione accelerata delle infrastrutture degli aeroporti delle telecomunicazioni ecco anche in questa Cina ipercapitalistica c'è in qualche modo lo spirito e l'ombra di Mao Zedong a tre ore di volo da Pechino a cinque ore di automobile da Canton passata la cittadina di Shantou bisogna inerpicarsi fra le colline nella vegetazione lussureggiante del Guangdong per scoprire un edificio circolare che sembra una pagoda buddista è solitario deserto custodito da un vecchietto che fuma una sigaretta dopo l'altra è il primo e unico memoriale della rivoluzione culturale cinese nel 1989 il movimento democratico degli studenti voleva togliere da piazza Tiananmen a Pechino il mausoleo con la salma di Mao e in quel posto costruire invece un museo dedicato alla memoria delle vittime della rivoluzione culturale ancora nel marzo 2006 al congresso di Pechino un gruppo di intellettuali ha presentato una petizione perché si costruisca nella capitale un museo degli orrori della rivoluzione culturale ma anche quella richiesta è stata ignorata dal governo cinese in Cina il quarantesimo anniversario della rivoluzione culturale nel 2006 è passato sotto silenzio solo un piccolo funzionario di provincia ha affrontato il tabù e ha spezzato la congiura del silenzio è l'ex vice sindaco della cittadina di Shantou nel Guangdong che ha fatto costruire il museo con donazioni private lui stesso però dopo averlo inaugurato sembra spaventato per avere osato tanto ed è diventato invisibile si nega ai giornalisti nonostante la sua povertà nonostante l'aspetto semi-clandestino e la scarsità di visitatori il nuovo museo di Shantou non lascia indifferenti la tecnica usata per ricostruire le vicende della rivoluzione culturale dal 1966 al 76 è semplice ma efficace le foto sono in bianco e nero tratte dai giornali dell'epoca insieme con brevi spiegazioni riprodotte fissate sui muri del museo sotto forma di incisioni su pietra nera è come se la storia fosse rimasta scolpita per sempre su delle steli funebri e lungo le pareti scorrono le istantanee della follia che precipita la Cina nell'isolamento internazionale in quel decennio in una guerra civile istigata dall'alto che semina morte e sofferenze per generazioni ci sono anche delle teche di vetro che custodiscono vecchie spille di Mao francobolli commemorativi le prime edizioni del libretto rosso con le massime del grande timoniere i bracciali che indossavano le guardie rosse tutte le reliquie del culto religioso votato a Mao il culto della personalità che fu all'origine di tutto un'immagine cattura l'inizio ufficiale di quel movimento di massa è l'8 agosto 1966 un corteo di giovani che protestano agita lo striscione su cui Mao ha scritto di suo pugno lo slogan bombardate il quartiere generale il vecchio leader accende così la polveriera da via libera alla rivolta della base contro la burocrazia del partito è lo stesso Mao Tse Tung che nell'estate del 1966 battezza il termine grande rivoluzione culturale per indicare un movimento che all'inizio appare spontaneo e liberatorio sembra una sana democratica ribellione del popolo cinese contro i politici di professione contro la corruzione del partito una rivincita della base contro i vertici tra le immagini raccolte collezionate nel museo della rivoluzione culturale nella cittadina di Shantou c'è anche la mitica nuotata di Mao Tse Tung allora 72enne nel fiume Yangtze una esibizione di vigore di un leader che in realtà nasconde i primi sintomi del morbo di Parkinson in una lettera di quei giorni scritta la moglie Zhang Qing una delle istigatrici del movimento della rivoluzione culturale Mao annuncia esultante grande è il caos sotto il cielo nel solo anno 1966 ben 11 milioni di giovani inquadrati nei ranghi delle guardie rosse affluiscono da tutta la Cina in pellegrinaggio a Pechino nelle adunate oceaniche di piazza Tiananmen per sentire i comizi di Mao imparano a memoria le sue massime raccolte nel libretto rosso e poi sciamano per il paese a diffondere il nuovo verbo la nuova ideologia radicale ci sono nel museo foto di bambine delle elementari che incollano Tazebao nei manifesti a scuola per criticare i propri maestri perché un ingrediente della rivoluzione culturale senza dubbio è la rivolta generazionale i giovani contro gli anziani questo del resto spiega gli attacchi virulenti a Confucio e alla sua etica paternalista si vedono anche nelle fotografie dell'epoca contadini in cattedra all'università di Pechino per insegnare il pensiero maoista è il preludio alla chiusura delle facoltà alla deportazione dei giovani cittadini nelle campagne alla paralisi degli studi e della ricerca scientifica poi arrivano nelle gallerie del museo dedicato alla rivoluzione culturale le fotografie più dure le immagini che sono state scattate durante le campagne di rieducazione socialista si vedono contadini costretti a umiliarsi nell'autocritica pubblica davanti a tutto il villaggio accusando se stessi di deviazioni borghesi si vedono uomini all'agonia con al collo il cartello di contro rivoluzionario si vedono vecchi costretti a indossare in pubblico magliette con l'elenco delle loro colpe un po' come la stella di davide sotto il nazismo per gli ebrei ci sono documenti immagini sui processi sommari ai monaci tibetani che sfilano tra gli insulti con il lungo cappuccio della vergogna in testa si vedono statue di buddha coperte di striscioni contro l'idolo reazionario perché comincia in quell'epoca anche la fase più intollerante totalitaria di repressione di ogni fede religiosa la pagheranno duramente i buddhisti ma anche le minoranze islamiche e cristiane in Cina dopo aver scatenato istigato le violenze della rivoluzione culturale lo stesso Mao Zedong ha paura che gli sfuga di mano quella spontaneità movimentista dei giovani irregimentati nelle guardie rosse e allora con un voltafaccia cinico il grande timoniere scatena le forze dell'esercito regolare in una repressione feroce dei suoi stessi sostenitori è così che si apre il periodo della massima violenza perfino dell'anarchia dei regolamenti di conti mortali tra le fazioni si vedono nelle immagini repertoriate dentro il museo della rivoluzione culturale di Chantot delle assemblee di giovani con le teste fasciate e sanguinolente braccia e gambe ferite e bendate che hanno in mano lance e coltelli cioè gli strumenti di una guerra civile all'arma bianca si vedono i criminali cosiddetti criminali arrestati dalle guardie rosse legati e in ginocchio in attesa di esecuzione ci sono le prime foto che arrivano a quei tempi sulla stampa libera di Hong Kong foto di torture orrende di cadaveri mutilati sventrati e poi appesi agli alberi per educare le masse ci sono le foto dei morti che galleggiano nel delta del fiume delle perle che partono da Canton e arrivano fino alle rive di Hong Kong la sezione della mostra di Chantot dedicata alle vittime della rivoluzione culturale è ricca anche di personaggi illustri perché le persecuzioni la lotta tra le fazioni non risparmia neanche i VIP del regime c'è il segretario personale di Mao caduto in disgrazia che si suicida nel 1966 senza che il suo capo muova un dito per proteggerlo ci sono tanti artisti famosi perseguitati imprigionati deportati nei lager suicidati con le loro opere proibite e bruciate in piazza negli auto da fe delle guardie rosse è documentata la tragica fine dell'ex presidente della repubblica Liu Shaoqi morto di malattia dopo le torture sepolto sotto falso nome per negargli un funerale ma nel museo di Chantot della rivoluzione culturale solo quelle vittime famose hanno diritto a qualche scampolo di un omaggio postumo solo quei politici quegli intellettuali precipitati in disgrazia che hanno lasciato qualche traccia liberi proteste e i loro discendenti hanno avuto gli onori di una riabilitazione dopo la morte ma altre centinaia di migliaia forse milioni di perseguitati restano nell'ombra perfino a Chantot sono volti senza nome quante furono le vittime della rivoluzione culturale non lo sa nessuno il museo di Chantot cita solo dei casi locali 13.000 persone in fuga da Shandong 2 milioni colpiti da una carestia a Wuhan il bilancio nazionale dei morti resta un segreto di stato eppure tanti parenti e discendenti delle vittime sanno conoscono la verità sono costretti a seppellire il loro dolore nella memoria privata senza poter cercare un senso a quella tragedia a Pechino nel quartiere popolare Haidan al quinto piano di una torre caseggiato il professor Bi Bang Yan 70 anni ha accettato di accogliermi in casa sua per raccontarmi il periodo più terribile della sua vita i dieci anni bruciati nella rivoluzione culturale maoista dal 1966 al 1976 il governo mi dice il pensionato Bi ha stabilito che la rivoluzione culturale fu uno sbaglio punto e basta per loro quel bilancio laconico è sufficiente il dibattito è chiuso continuare a parlarne vorrebbe dire rimettere in discussione il partito le sue responsabilità dobbiamo imparare a dimenticare eppure c'è qualcosa che il professor Bi non riuscirà mai a dimenticare nel 1960 appena laureati in fisica alla migliore università di Pechino lo mandano a insegnare teoria aerodinamica ai futuri piloti militari all'accademia aeronautica di Xi'an lui era giovane ingenuo non sapeva molto della vita parlava liberamente e fu questo a rovinarlo a quell'epoca nei primi anni sessanti in Cina si respira ancora qualcosa dell'atmosfera quasi permissiva del periodo cosiddetto dei centofiori in cui Mao aveva incoraggiato una limitata libertà di espressione e così ogni sabato all'accademia di Xi'an come in molte altre università o anche fabbriche cinesi si tiene un'assemblea i capi incoraggiano tutti a parlare con disinvoltura a criticare l'azione di governo per migliorarla il professore Bici crede davvero li prende alla lettera altri suoi compagni più smaliziati di lui si accorgono che in quelle riunioni c'è sempre qualcuno che prende nota e trascrive gli interventi ogni sabato per sei anni di fila e allora nel 1966 quando scoppia la rivoluzione culturale di colpo cambia il tenore delle assemblee piomba addosso una nuova direttiva bisogna rivelare in pubblico le verità nascoste su voi stessi sui vostri amici sui compagni di lavoro ed ecco allora ricorda il professor B che molti si scatenano contro di me raccontano i miei interventi degli anni precedenti era tutto vero non potevo smentire nulla stava scritto in 20 volumi di appunti lo inchiodano per alcune sue affermazioni che nel nuovo clima ideologico di radicale sterzata sinistra sono diventate eretiche e inaccettabili una volta per esempio lui ha osato dire che Mao è bravo ma il suo numero due Liu Shaoqi è ancora meglio e Liu Shaoqi è un pragmatico che cade in disgrazia durante la rivoluzione culturale è in un certo senso il Khrushchev fallito del comunismo cinese il leader su cui i moderati avevano puntato quando speravano che alla destalinizzazione dell'unione sovietica del 1956 seguisse una demaoizzazione a Pechino nel 1966 Bi è fra i primi a finire in prigione un giorno racconta Bi mi trascinano fuori dalla prigione per esibirmi di fronte a una delle assemblee di lotta convocate dalle guardie rosse mi portano su un palco davanti a tanti studenti mi costringono a stare nella posizione dell'aeroplano cioè braccia spalancate curvo in avanti in segno di umiliazione con un cartello appeso al collo dove sta scritto il mio nome e la mia colpa a un tratto uno dei giovani del pubblico urla vogliamo vederli in faccia questi nemici del popolo allora una guardia rossa mi afferra i capelli per tirarmi la faccia all'insù sento piangere in prima fila ci sono mia moglie e i miei due figli di 5 e 2 anni che improvvisamente mi riconoscono li hanno portati lì apposta i figli dovevano imparare a odiare i padri le mogli venivano incoraggiate a divorziare dai reietti come me quel giorno pensai che era meglio morire quando Mao muore il 9 settembre 1976 sono passati appena 8 mesi dalla scomparsa del suo primo ministro Chuen Lai in poco tempo vengono meno così i due leader che hanno condiviso tutta la storia della rivoluzione comunista cinese si crea di colpo un vuoto di potere al vertice della Cina e proprio mentre il paese è già in preda a una crisi profonda la rivoluzione culturale è agonizzante Mao aveva già tolto la sua protezione alla banda dei quattro gli stigatori più virulenti della rivoluzione culturale ma nessuno sa che cosa avverrà in seguito la società cinese è stremata dal declino economico e da dieci anni di violenze la sfiducia verso i dirigenti è ai livelli massimi le basi di consenso verso il regime sono più deboli che mai un mese dopo la morte di Mao la sua vedova Zhang Qing e tutta la banda dei quattro sono già agli arresti rimane in carica però un primo ministro Hua Guofeng che è pesantemente compromesso con gli orrori della rivoluzione culturale ci vogliono due anni pieni di intrighi di colpi di scena bisogna arrivare fino alla fine del 1978 perché la lotta per la successione si concluda con la vittoria definitiva di Deng Xiaoping che Mao aveva riabilitato poco tempo prima di morire Deng è sempre stato un pragmatico per questo le guardie rosse lo avevano preso di mira definendolo un criptocapitalista Deng è famoso per la massima non importa se il gatto è bianco o nero l'importante è che acchiappi i topi in questo modo lui aveva segnalato la sua indifferenza ai dogmi ideologici la sua disponibilità a liquidare il marxismo pur di ottenere pragmaticamente dei risultati migliori dal punto di vista del benessere sociale e dello sviluppo economico Deng riporta con sé al potere molti altri dirigenti che come lui hanno sofferto umiliazioni personali terribili durante la rivoluzione culturale in breve tempo Deng si appresta a distruggere non solo gli eccessi più radicali ma gran parte della eredità di Mao nell'economia nella visione della società nei valori morali che proclamava il Maoismo è destinato all'annientamento sotto i colpi implacabili di Deng Xiaoping egualitarismo comunismo contadino lotta di classe permanente etica dell'austerità e della frugalità autarchia tutti questi principi del Maoismo vengono smantellati uno dopo l'altro da Deng Xiaoping e sostituiti con delle politiche diametralmente opposte l'economia secondo Deng va stimolata attraverso gli incentivi materiali quindi l'arricchimento personale è legittimo e deve essere incoraggiato dirà Deng arricchirsi è glorioso la retratezza del paese va curata con iniezioni di tecnologie e capitali stranieri Deng però vuole gestire questa sterzata senza mettere a repentaglio la stabilità del regime la sua modernizzazione ha un limite invalicabile questo limite è l'unico principio del Maoismo che Deng Xiaoping è deciso a salvare la società civile non deve affrancarsi il partito unico manterrà il monopolio del potere lui presenta questo monopolio del potere come una garanzia contro il ritorno del caos e dell'anarchia la stabilità è una giustificazione strumentale perfino aberrante visto che le convulsioni del grande balzo in avanti o della rivoluzione culturale sono tutte avvenute sotto lo stesso regime comunista e tuttavia negli anni seguenti Deng vedrà anche nella situazione internazionale dei nuovi alibi per arroccarsi su questa posizione dal movimento di Solidarnosc in Polonia nel 1980-81 fino alla caduta del muro di Berlino nel 1989 e alla conseguente disgregazione del blocco sovietico il gruppo dirigente cinese si troverà sempre più confortato nel suo rifiuto della liberalizzazione politica convinto che quella liberalizzazione segnerebbe l'inizio della sua fine esattamente come in Unione Sovietica Deng Xiaoping si giustificherà sempre con la necessità di risparmiare alla Cina una nuova guerra civile e spesso Deng riuscirà anche a vendere bene questa sua rappresentazione all'estero per esempio nel 1989 di fronte a un occidente inquieto per le ricadute economiche del disfacimento del blocco sovietico il dittatore cinese potrà agitare un ricatto implicito l'alternativa ai carri armati su piazza Tiananmen è un collasso generale lascia capire Deng che lascerebbe a voi americani a voi europei l'incombenza di organizzare il salvataggio finanziario di una nazione di un miliardo di abitanti in bancarotta oppure arriverà a dire in modo molto esplicito nel giugno 1990 quindi dopo la repressione di piazza Tiananmen se la Cina è instabile il mondo sarà instabile se dovesse scoppiare la guerra civile in Cina nessuno avrà i mezzi per fermarla la museruola di Deng soffoca in Cina fin dall'inizio fin dal momento in cui Deng consolida il suo potere nel 1978 soffoca la voglia diffusa che c'è nel paese di rimettere in discussione il maoismo tutto il maoismo dittatura compresa e però la stretta autoritaria di Deng 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 non impedisce periodiche fiammate di emozione popolare una importante accade nel novembre 1980 quando si apre a Pechino il processo della banda di quattro il principale capo d'accusa contro gli stigatori della rivoluzione culturale è quello di avere montato false accuse di avere attuato persecuzioni di aver causato la morte di 35.000 persone e la tortura di altre 700.000 durante il cosiddetto decennio della distruzione il processo alla banda di quattro è l'occasione per delle minuziose rivelazioni sulle violenze inflitte alle vittime sugli intrighi sulle macchinazioni del clan più estremista che era al potere dal 66 al 76 tra la gente in quel momento dilaga il giustizialismo però la vedova di Mao Jiang imposta gran parte della sua difesa sul fatto di avere agito con il pieno assenso di suo marito Deng Xiaoping sente il bisogno di raffreddare gli animi invoca in pubblico la virtù magnanime del perdono e di lì a poco riceve manforte da un altro protagonista decisivo negli equilibri del potere tra il 1980 e il 1981 dai vertici dell'esercito popolare di liberazione arrivano delle bordate di avvertimento contro chi vuole rimettere in discussione l'eredità di Mao in un discorso pubblicizzato dai giornali dell'epoca il generale Huang Keqiang denuncia il fatto che le critiche a Mao stanno superando i limiti tollerabili dietro quel minaccioso malumore dei militari non è difficile intuire quello che sta accadendo nel fiorire delle critiche al maoismo e alle strutture del regime sui tazzi bau e sui giornali che escono all'inizio degli anni 80 qualcuno ha cominciato a sollevare anche la questione dei privilegi e della corruzione che allignano nelle sfere dell'esercito l'appuntamento decisivo per imbalsamare Mao Zedong arriva nel 1981 Deng Xiaoping il suo successore ha deciso che il plenum del comitato centrale del partito comunista convocato nel giugno di quell'anno a Pechino sarà dedicato a sancire una volta per tutte il giudizio storico del partito sul grande timoniere è un modo per chiudere il dibattito e stroncare le velleità di chi vorrebbe una democratizzazione vera della Cina ci sono voluti quindi cinque anni dalla morte di Mao ma nel giugno 1981 il sesto plenum dell'undicesimo comitato centrale del partito comunista cinese approva una sorta di epitaffio scolpito sulla pietra tombale per consegnare per sempre alla storia un Mao Zedong fisso immutabile e da non ritoccare mai più è quella mummia imbalsamata che poi le generazioni successive dovranno omaggiare nel mausoleo di piazza Tiananmen fidandosi del giudizio che il partito comunista ha raggiunto nella sua infinita saggezza è il testo che ancora oggi ispira i manuali di storia che i ragazzini mandano a memoria sui banchi di scuola anche le biografie delle enciclopedie sui siti internet ufficiali non si discostano da quel preciso equilibrio di elogio e di critica contenuto nel documento dell'81 il fatidico comunicato redatto da Deng Xiaoping comincia così il compagno Mao Zedong fu un grande marxista e un grande rivoluzionario proletario è vero che egli commise grossi errori durante la rivoluzione culturale ma se giudichiamo le sue attività nell'insieme i suoi contributi alla rivoluzione cinese oltrepassano di molto i suoi errori i suoi contributi sono principali gli errori sono secondari egli rese un servizio eternamente meritorio nel fondare e costruire il nostro partito e l'esercito popolare di liberazione nel vincere la guerra di liberazione del popolo cinese nel fondare la repubblica popolare e nel fare avanzare la causa socialista diede contributi decisivi alla liberazione delle nazioni oppresse nel mondo e al progresso dell'umanità quella risoluzione approvata dal comitato centrale del partito comunista cinese nell'81 si dilunga attraverso decine di pagine e migliaia di parole ma il suo senso preciso è fissato in quelle righe iniziali i meriti sono superiori agli errori i meriti di Mao sono soprattutto quelli del patriota del capo militare è l'eroe della lunga marcia della resistenza contro i giapponesi è il fondatore della repubblica riposi in pace trasformato in questa statua paterna più tardi Deng Xiaoping che ha anche un dono innato della comunicazione di massa troverà una formuletta molto più semplice una formula da ragioniere per divulgare al popolo il verdetto finale della storia Mao dirà Deng Xiaoping fu per il 70% buono per il 30% cattivo è forse oggi la statistica percentuale più celebre tra un miliardo e 300 milioni di cinesi dal funzionario periferico di partito al giornalista della televisione di Stato che accetta il bavaglio della censura e la propaganda ufficiale fino addirittura a dei manager di multinazionali cinesi abituati a viaggiare all'estero andare in America e in Europa e a sentirsi rivolgere delle domande scomode sulla storia passata del proprio paese tutti hanno questa scorciatoia per rispondere che è stata fornita da Deng Mao 70% buono 30% cattivo cristallizzato nella risoluzione del comitato centrale del 1981 per il partito comunista cinese il culto di Mao dovrebbe accomodarsi in un tranquillo tran tran ripetitivo una sorta di innocua religione degli antenati eppure il cadavere di Mao resta ingombrante lo resta soprattutto per una società civile irrequieta e vivace nel 1985 nel 1986 la Cina registra nuovi fermenti di protesta soprattutto fra gli studenti delle grandi città sono i presagi dell'imminente esplosione democratica a riprova che il problema Mao è sempre lì è l'ostacolo ineliminabile per fare i conti con la storia e sbloccare l'impasse politica nel 1987 le autorità di governo fanno rimuovere nottetempo due gigantesche statue del grande timoniere dal campus dell'università di Pechino dopo che gli studenti avevano tentato di demolirle alla luce del giorno l'ultimo assalto frontale che viene tentato condotto in maniera esplicita per condannare insieme Mao e i suoi successori il regime del partito unico la dittatura avviene nella primavera democratica di Pechino del 1989 il linguaggio simbolico di quell'attacco al mito di Mao è di una forza straordinaria la violenza del castigo all'oltraggio dimostra anch'essa quanto Mao resti un simbolo capace di coagulare passioni e paure visioni opposte del futuro della Cina il 29 maggio 1989 mentre 10.000 manifestanti resistono impavidi agli ordini di sgombero e continuano a occupare piazza Tiananmen in nome della libertà e della democrazia mentre lì vicino già fervono i preparativi del golpe militare e Deng Xiaoping convoca colonne blindate dei carri armati per il massacro finale un gruppo di studenti dell'Accademia Centrale delle Belle Arti di Pechino comincia a costruire un'impalcatura di canne di bambù all'ingresso della città proibita esattamente di fronte al gigantesco ritratto di Mao che penzola dai muri del cancello della pace celeste una volta terminata quell'impalcatura gli studenti trasportano in bicicletta i pezzi di un'opera che hanno già concepito e fabbricato altrove e li assemblano in fretta sorreggendosi alle canne di bambù emerge così piano piano una figura alta 12 metri fatta di cartapesta e polistirolo tenuta insieme con fil di ferro e nastro adesivo rappresenta una donna che tiene in mano una torcia vagamente assomiglia la statua della libertà di New York viene battezzata la dea della democrazia alle prime ore dell'alba del 30 maggio 1989 quell'opera è completata quel giorno piazza Tiananmen viene invasa da una marea di spettatori arrivano in 300.000 per ammirare la dea della democrazia che fronteggia a tu per tu il faccione di Mao lo guarda negli occhi puntandogli contro la sua torcia tutte le televisioni del mondo riprendono quell'estremo e magnifico sberleffo libertario degli studenti al regime al suo fondatore e ai suoi eredi secondo alcune ricostruzioni sono proprio quelle immagini televisive a far cadere le residue incertezze di Deng Xiaoping quattro giorni dopo è la strage sono rari gli occidentali che riescono a entrare in Corea del Nord una sorta di monarchia comunista retta da Kim Jong Il per cui pochi che ci riescono l'itinerario turistico ufficiale naturalmente organizzato dal governo prevede l'emozione di sedersi al tavolo dove fu negoziato l'armistizio fra nordcoreani e americani il 27 luglio 1953 si trova al checkpoint di Panmunyom nella cosiddetta zona smilitarizzata strano nome perché in realtà è il confine più armato del mondo dove si fronteggiano tuttora due eserciti di un conflitto che non è mai finito ufficialmente visitandolo un colonnello nordcoreano vi indica il fronte opposto e dice là sono ammassate le forze dell'imperialismo impartisce la sua lezione di storia il colonnello nordcoreano nella versione che il regime comunista di Pyongyang insegna fin dai banchi degli elementari gli Stati Uniti dicono i nordcoreani lanciarono la loro aggressione illegale e arbitraria contro di noi il 25 giugno 1950 ma l'eroica resistenza coreana sotto la guida del grande leader Kim Il-sung inflisse perdite pesantissime agli invasori e gli americani furono costretti a chiedere l'armistizio in realtà il 25 giugno 1950 fu Kim Il-sung a lanciare le sue truppe nell'invasione del sud oltrepassando quel 38esimo parallelo dove alla fine della seconda guerra mondiale americani e sovietici avevano stabilito una linea di demarcazione asiatica delle rispettive sfere di influenza il dittatore nordcoreano fu vittima di un errore di calcolo che in qualche modo sembra rievocare quello che 40 anni dopo avrebbe spinto Saddam Hussein a occupare il Kuwait infatti secondo le ricostruzioni degli archivi sovietici Kim era convinto che il suo attacco a sorpresa non avrebbe scatenato reazioni americane sia Stalin che Mao i due grandi fratelli comunisti diedero il via libera a quell'invasione e la sorpresa per l'Occidente fu totale gli americani nel 1950 avevano ormai smobilitato gran parte delle loro truppe dalla Corea e da tutta l'Asia i sudcoreani da parte loro non avevano neppure costruito un esercito e all'inizio il blitz comunista fu travolgente il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite condannò l'invasione e diede la sua benedizione per la prima operazione militare mai realizzata sotto mandato ONU sulla carta era una coalizione larga vi partecipava anche la Francia ma il grosso delle truppe in realtà erano americane gli americani liberarono il sud e a loro volta ricacciarono indietro le truppe di Kim Il Sung e invasero quasi tutta la Corea del Nord finché fu Mao che per fermare gli americani decise di lanciare in campo a varie ondate milioni di soldati dell'esercito di liberazione popolare cinese il giorno dell'armistizio il bilancio della cosiddetta guerra dimenticata fu in proporzione alla sua durata più pesante di quello del Vietnam due milioni di morti fra cinesi e coreani 55.000 militari americani uccisi e 8.000 dispersi della storia vera della guerra di Corea non c'è traccia nel museo turistico di Panmunjom lato nord lungo la cosiddetta zona smilitarizzata fra Corea del Nord e Corea del Sud in quel museo non è solo l'attacco nordista ad essere stato cancellato e capovolto dalla propaganda del regime più curiosamente è invisibile perfino l'intervento militare dei cinesi che in realtà è l'unica ragione per cui la Corea oggi non è unificata con capitale a Seoul questa licenza della ricostruzione ufficiale è abbastanza sorprendente perché la Cina è rimasta l'ultimo sostegno di Pyongyang i cittadini cinesi sono gli unici stranieri autorizzati a entrare in Corea del Nord senza visto e sono sempre soltanto cinesi le comitive di turisti che si incontrano a scorazzare dal lato nord della zona smilitarizzata passeggiando lungo la zona smilitarizzata si può osservare il cambio della guardia dei sudcoreani sul fronte opposto all'apparenza non traspare quella tensione che c'è con gli Stati Uniti allarmati per i preparativi nucleari di Pyongyang neanche si può indovinare dietro il cerimoniale stanco che recitano al posto di frontiera i militari in divisa dei due blocchi quell'altra crisi più insidiosa e più sottile che da anni si è aperta tra Washington e Seul cioè l'anti-americanismo sempre più esplicito nelle nuove generazioni sudcoreane la tentazione pacifista o addirittura neutralista osservando poi la desolata Corea del Nord ci si chiede perfino se l'errore di calcolo di Kim Il-sung nel 1950 nel lanciare l'invasione la guerra contro gli americani sia stato un errore di calcolo in fondo senza quell'abbaglio del dittatore comunista che contribuì a far precipitare il mondo nella contrapposizione est-ovest e nella guerra fredda Kim non avrebbe potuto imporre il suo terrore totalitario non sarebbe riuscito a tenere in ostaggio 23 milioni di persone in uno dei regimi più spietati del mondo contemporaneo grazie a quell'invasione fallita dal 25 giugno del 1950 Pyongyang si è trasformata in via permanente in una società militarizzata dove una popolazione sempre sull'orlo della carestia deve mantenere uno degli eserciti più numerosi del pianeta un milione e duecentomila soldati professionisti e sei milioni di riservisti per decenni le notizie più angosciose che filtravano dal nord venivano accolte con un certo scetticismo anche in occidente Kim Il Song era dipinto più che altro come un eccentrico le sue opere venivano perfino tradotte in molte lingue italiano incluso solo nel 1997 la fuga all'estero di una delle figure più potenti del regime il 74enne Huang Yang Yop detto il Goebbels di Pyongyang fornì delle rivelazioni inconfutabili sui metodi usati da quel regime e cioè lo spionaggio sistematico della popolazione la delazione generalizzata le purghe casuali per intrattenere il terrore i lavaggi del cervello le torture i gulag insieme con i lussi stravaganti della nomenclatura la collezione privata di Mercedes di Kim Jong-il il figlio e successore i suoi raffinati cuochi europei il treno privato per i viaggi all'estero dopo la diserzione di Huang che per decenni era stato un regista della propaganda di regime la Corea del Nord è stata paragonata a un lager nazista dove solo i guardiani della Gestapo sono certi di sopravvivere c'è un solo luogo a Pyongyang nella capitale della Corea del Nord che peraltro assomiglia a una sorta di Jurassic Park del comunismo c'è un solo luogo dove la monotonia lugubre della città di colpo si dissolve quasi come per un incantesimo è il mercato Tongil Tongil vuol dire riunificazione è stato aperto solo da due anni è una vasta distesa di bancarelle a perdita d'occhio e lì dentro sembra di lasciare la tetra Corea del Nord e di ritrovare finalmente l'Asia c'è la ressa continua gomitata nei fianchi tra i clienti c'è l'odore di cavolo macerato il peperoncino le carni che frolano al sole donnine commercianti che calcolano sveltissime con il loro pallottoliere e tutto il vociare delle contrattazioni tipico di tanti mercati in Cina in India in Thailandia il mercato Tongil è una gioia talmente lontano dagli stenti e dalle privazioni della popolazione nordcoreana lì dentro si possono comprare delle primizie preziosissime fragoline ciliegie ma anche sigarette straniere Danhill Cartier Malboro ci sono tutti i whisky e i cognac del mondo e poi ci sono carpe vive ci sono maiali polli naturalmente anche dei cani scuoiati al reparto macelleria come tradizione in gran parte dell'Asia insomma c'è tanto cibo c'è tanta roba e c'è tanta gente nel mercato Tongil e ci sono banconote che girano vorticosamente e finiscono nelle scatolette di legno dove i negozianti tengono l'incasso della giornata è uno spettacolo abbastanza inebriante rispetto a tutto il resto della Corea del Nord è un angolo di abbondanza che distrae per un attimo dalla psicosi dello stato di assedio dal clima di delazione di paura che regnano sotto la dittatura di Kim Jong Il ma ci si chiede da dove escono tutti quei soldi che al mercato di Tong Il passano di mano freneticamente e un'occhiata ai cartellini dei prezzi lascia stupefatti perché un chilo di mele Fuji costa 1700 won la moneta locale un paio di scarpe 3500 won quando il salario di un professore di liceo di Pyongyang è di 3000 won al mese quello di un operaio al massimo raggiunge i 2400 won quindi quell'abbondanza del mercato Tong Il ha un prezzo folle ci vuole mezzo salario mensile di un nordcoreano per comprare un chilo di mele lo stesso shock si ripete nei reparti del numero uno che è il nome del primo grande magazzino aperto nella Corea del Nord aperto di recente a due passi dalla centralissima piazza Kim Il Sung finalmente anche nel grande magazzino numero uno è arrivato di tutto c'è dello shampoo ci sono salumi ci sono penne biro palloni da calcio telefoni frigorifero ogni ben di dio ogni bene di consumo però anche lì i prezzi sono sconcertanti la giacca a vento per un bambino costa 7500 won una valigia in simil pelle 24000 won cioè 10 buste paga 10 mesi di lavoro di un operaio in comune con il mercato Tong Il al grande magazzino numero uno c'è la provenienza della merce è tutta esclusivamente made in China il prodotto locale non esiste è una prova del crollo dell'economia nordcoreana dalle scarpe alle mele sia l'abbondanza che l'inflazione gli alti prezzi penetrano lentamente nel regno comunista di Kim Jong Il dalla frontiera settentrionale col potente vicino cinese che è l'ultimo protettore del monarca comunista la ragione per cui la Cina sta lentamente infiltrando la sua influenza economica capitalistica nella Corea del Nord è abbastanza evidente i cinesi non vogliono che la Corea del Nord crolli come è crollata la Germania Est non vogliono assistere al proprio confine orientale a un episodio come quello della riunificazione tedesca nei primi anni 90 perché la riunificazione coreana naturalmente finirebbe col fagocitare la Corea del Nord dentro l'economia ben più ricca sviluppata e moderna della Corea del Sud con il rischio alla fine come è accaduto per la Germania che il nuovo paese unito sia nell'orbita diplomatica politica e soprattutto militare degli Stati Uniti d'America per questo motivo i cinesi si danno un grande affare per far penetrare il loro modello capitalistico nella Corea del Nord come ci riescono ma si dice che il caro leader come viene chiamato dai suoi sudditi Kim Jong-il sia rimasto abbagliato quando i cinesi lo hanno invitato a visitare Shanghai nel 1999 allora segretario generale del partito comunista cinese era Jiang Zemin che guidò personalmente il leader nordcoreano in mezzo alla selva di grattacieli e autostrade di Shanghai a visitare la fabbrica della General Motors di automobili e quella dei computer Lenovo a Shanghai da allora si dice che Kim Jong-il sia tornato più volte anche in missioni segrete in incognito sempre per fare altri bagni dentro il capitalismo cinese e dal 2002 accogliendo gli insistenti consigli dei suoi protettori di Pechino la Corea del Nord ha varato le sue prime riforme economiche il regime ha allentato i controlli sui prezzi del riso e del grano che contribuivano a creare imboscamenti e scarsità ha incoraggiato i lavoratori a fare straordinari per guadagnare di più ha autorizzato le imprese anche se ufficialmente sono ancora tutte dello Stato le ha incoraggiate a inseguire il profitto e ha lasciato che i padroncini cinesi i nuovi capitalisti cinesi delocalizzassero le loro fabbrichette penetrando nelle zone di confine della Corea del Nord del resto questa influenza cinese è visibile nei luoghi più curiosi e insospettabili di Pyongyang a cena nell'unico ristorante di lusso nell'hotel Corio di Pyongyang una comitiva di cinesi ricchi si riconosce subito sono sicuri di sé cacciaroni si comportano da padroni le ragazze cinesi disinvolte rivolgono la parola a tutti sotto gli occhi inquieti timidi delle silenziosissime cameriere nordcoreane al casino dell'albergo che è vietato alla clientela locale i croupiers parlano soltanto in mandarino cioè in cinese e nella sauna massaggio dell'albergo di lusso di Pyongyang le prostitute si dice siano cinesi più probabilmente sono nordcoreane ma hanno imparato alla perfezione la lingua degli unici clienti danarosi un giovane cinese con una t-shirt di Ralph Lauren si presenta in un inglese perfetto in visita a Pyongyang dentro l'hotel Corio e dice per le vacanze estive mio padre ha deciso di portarmi in viaggio qui in Corea del Nord mi ha detto voglio che tu veda che cos'era la Cina di 30 anni fa nel 2005 l'economia mondiale ha registrato un sorpasso storico la Cina è diventata il maggiore consumatore mondiale di prodotti industriali e agricoli sottraendo questo primato agli Stati Uniti d'America che lo detenevano da quasi cent'anni nello stesso anno del resto la Cina ha anche scavalcato nel suo prodotto interno lordo l'Italia la Francia l'Inghilterra e sempre nel 2005 i cinesi sono diventati un miliardo e 300 milioni sempre nel corso del 2005 il numero di cinesi che hanno accesso a internet ha superato quello degli americani la forza della Cina è una combinazione di tutti questi elementi le grandi dimensioni geografiche e demografiche l'inesauribile manodopera a buon mercato e al tempo stesso le punte avanzate di modernità il boom cinese ormai detta i ritmi e le regole del sistema in cui noi tutti viviamo nessun settore neanche quelli tecnologicamente più avanzati sono al riparo dalla concorrenza del gigante asiatico la Cina è il più grande popolo di consumatori il più vasto bacino di forza lavoro e al tempo stesso una nazione che eccelle nella ricerca scientifica nella conquista dello spazio nelle biotecnologie secondo la banca americana Goldman Sachs nel giro di 30 anni l'economia cinese sarà tre volte maggiore di quella degli Stati Uniti la rivista inglese The Economist ha stimato che nel prossimo mezzo secolo lo sviluppo della Cina aggiungerà all'economia del pianeta una ricchezza pari alla scoperta di altre quattro Americhe in questo senso possiamo dire che siamo entrati nel secolo cinese agli inizi del novecento se facciamo un salto all'indietro anche con l'immaginazione nessuno poteva prevedere quanto sarebbe cambiata la vita durante quello che poi è diventato il secolo americano oggi per le stesse ragioni è altrettanto difficile prevedere in che modo e fino a che punto la Cina ci condizionerà negli anni a venire sicuramente dobbiamo prepararci perché il nostro pianeta è molto più stretto e interdipendente di quanto non fosse cent'anni fa l'ignoranza che la maggior parte degli occidentali rivela sulla Cina ha perlomeno questa attenuante che non potevamo aspettarcelo è accaduto tutto a una velocità sbalorditiva ancora vent'anni fa in fondo Shanghai era una città decrepita e stagnante se uno va a rivedere il documentario di Antonioni vede delle scene girate filmate a Shanghai che sembrano riprendere pezzi di Africa l'aspetto dei palazzi di Shanghai era cambiato poco dalla seconda guerra mondiale le strade erano affollate solo da biciclette e risciò un paesaggio da terzo mondo fare la spesa in un grande magazzino a quei tempi in Cina era un'esperienza logorante o deprimente per la scarsità dei prodotti e anche per il menefreghismo delle commesse che era tipico da economia di Stato è bastato in poco tempo quello che ha fatto Deng Xiaoping cioè far saltare il tappo del maoismo che aveva represso infinite energie nascoste ed è accaduto un prodigio la disciplina e l'obbedienza di un popolo come quello cinese per il quale il lavoro è tuttora una benedizione il leggendario talento commerciale che il comunismo non era riuscito a sopprimere e che restava ben visibile nella diaspora cinese a Hong Kong a Macao a Taiwan a Singapore a San Francisco o perfino da noi a Carpi la parsimonia delle famiglie gli inesauribili giacimenti di risparmio il rispetto confuciano per l'istruzione tutti questi ingredienti hanno consentito il verificarsi del miracolo cinese di quel grande balzo in avanti che non era riuscito a Mao Zedong oggi Shanghai ha un treno ad alta velocità che neppure l'Italia può permettersi il ritmo con cui si costruiscono nuovi grattacieli è tale che se uno si assenta per sei mesi da Shanghai al suo ritorno rimane spaesato e stordito dai cambiamenti la Cina sa di essere al centro del mondo ha fiducia nel futuro e chi ci vive viene presto contagiato dal suo ottimismo mentre la Cina trasforma se stessa a una velocità inaudita sta trasformando inevitabilmente l'intero pianeta mai nel mondo contemporaneo un paese emergente ha avuto lo stesso potere di scuotere i rapporti di forze economici gli equilibri diplomatici e militari mai si era visto nascere dal nulla in soli vent'anni un nuovo ceto medio urbano di 200 milioni di persone dotate di un potere d'acquisto occidentale la Cina di oggi è l'unica potenza che sfida l'influenza degli Stati Uniti e non solo la sfida in Asia ma anche in America Latina in Africa dove va a caccia di giacimenti petroliferi di risorse energetiche del resto il National Intelligence Council che è una divisione della CIA in un rapporto sugli scenari del futuro sostiene che la Cina possiede gli stessi requisiti che cent'anni fa permisero agli Stati Uniti di effettuare il sorpasso dell'Inghilterra che allora era la potenza economica industriale e finanziaria dominante quegli ingredienti sono le dimensioni geografiche la Cina ha la terza maggiore superficie del pianeta il peso demografico un mercato interno grande e in espansione un buon livello di istruzione l'accesso a capitali e tecnologie e infine anche una moneta sottovalutata quello studio della CIA conferma che l'emergere della superpotenza cinese avrà sulla situazione mondiale un impatto paragonabile a quello che fu l'ascesa degli Stati Uniti nel secolo scorso ed è un riconoscimento abbastanza emblematico perché è proprio il suo maggiore rivale strategico l'America la prima ad ammettere che questo secolo il ventunesimo secolo probabilmente apparterrà alla Cina ma questi paragoni con la storia passata risultano imperfetti perché sottovalutano gli elementi di originalità della Cina e il primo di questi elementi è che a differenza dell'Inghilterra dell'Ottocento e dell'America del Novecento per le sue dimensioni demografiche eccezionali la Cina diventerà la maggiore economia mondiale nonostante una fetta della sua popolazione possieda redditi da terzo mondo quindi la Cina sarà una superpotenza ma conserverà al tempo stesso a lungo un esercito di riserva di lavoratori poveri e quindi continuerà a esercitare una formidabile pressione competitiva sui paesi concorrenti soltanto due generazioni fa per i nostri nonni il centro della storia sembrava ancora coincidere con Londra Parigi Vienna o Berlino e ben presto invece quel mondo quel mondo dei nostri nonni sarebbe stato risucchiato nel vortice dell'americanizzazione i modi di lavorare che venivano dall'America le tecnologie i consumi della società consumistica di massa le mode la cultura la cultura di massa prodotta in America ma per quanto abbia reso marginali gli europei il secolo americano è stato un po' anche nostro il novecento in un certo senso ha consentito il prolungarsi della supremazia della razza bianca sul pianeta lo zio Sam è il diretto successore degli imperi britannico francese spagnolo per gran parte della sua storia l'America ha avuto la particolarità di essere un grande spazio semivuoto che inizialmente abbiamo riempito noi è stato riempito con contenuti di civiltà di ideologie di valori di origine europea il secolo cinese si apre con premesse diametralmente opposte la Cina non è uno spazio vuoto è uno spazio pienissimo sia dal punto di vista demografico sia per la sua storia che vanta una civiltà originale e una cultura ricchissima se uno osserva l'esperimento unico nella storia che è avvenuto nella Cina degli ultimi vent'anni si accorge che è come se la Cina avesse vissuto in un tempo compresso il capitalismo selvaggio dei grandi magnati americani della fine dell'ottocento la follia speculativa degli anni venti l'esodo rurale dall'America di campagna degli anni trenta l'emergere del ceto medio consumista degli anni cinquanta con la prima automobile la prima casa le prime vacanze i figli all'università e infine anche alcuni sconvolgimenti sociali e di costume dei nostri anni sessanta tutto questo in un arco di tempo strettissimo e allora si capisce che oltre all'ossessione del made in china che invade il resto del mondo si stanno diffondendo altre paure forse più legittime a questo ritmo di sviluppo tra vent'anni la cina avrà 200 milioni di automobili già oggi lo smog cinese l'inquinamento prodotto dall'industrializzazione della cina contamina l'atmosfera di tutta la terra le polveri tossiche di shanghai vengono rintracciate dai meteorologi nell'aria che si respira in europa e in america per soddisfare il bisogno di legname dell'economia cinese ogni anno vengono distrutte foreste pari alle dimensioni di tutta la svizzera l'impatto sulle risorse naturali del nostro pianeta è una delle incognite più gravi del futuro il regime politico di pechino rappresenta l'altra seria ragione di preoccupazione se nei prossimi anni non avverranno cambiamenti profondi siamo destinati ad avviarci verso una situazione inedita nella storia contemporanea per la prima volta la più grande economia del pianeta non sarà governata da un sistema democratico quindi chi oggi sopporta male leggemonia americana rischia di fare i conti in futuro con un'altra superpotenza in cui le decisioni vengono prese senza trasparenza senza contropoteri interni senza gli anticorpi di un'opposizione senza il bilanciamento il controllo di una stampa libera di una magistratura indipendente gli attuali dirigenti cinesi conoscono queste nostre paure ricorrono spesso all'espressione ascesa pacifica per descrivere in tono più rassicurante la traiettoria del loro paese ma al di là della propaganda ufficiale noi non sappiamo che tipo di superpotenza si propone di essere la Cina certo ha rinunciato fin dagli anni 80 alla vocazione maoista di esportare la rivoluzione per il momento si accontenta di esportare solo il made in China ma finirà per diffondere altre esportazioni finirà per esportare i suoi peggiori problemi come il disastro ambientale o addirittura le tendenze autoritarie ecco ci sono altre incognite di fronte a una prevedibile crisi ciclica dell'economia cinese a una battuta d'arresto che prima o poi ci sarà nello sviluppo cinese di fronte alle prime tensioni sociali e politiche gravi la leadership di Pechino subirà la vecchia tentazione delle dittature cioè quella di cementare il suo consenso interno attraverso il nazionalismo e le avventure militari quali scenari si aprirebbero in Asia e nel mondo intero nel caso di un'invasione armata dell'isola di Taiwan che gli americani sono impegnati a difendere tutti questi interrogativi all'alba del secolo cinese portano verso una conclusione il secolo cinese sarà benefico sarà rassicurante per il mondo intero se durante questo secolo avverrà l'altro appuntamento storico dopo l'appuntamento fra la Cina l'industrializzazione la modernizzazione l'appuntamento fra la Cina e la democrazia la storia urbanistica di Pechino riassume metaforicamente il rapporto tormentato e perfino patologico tra la Cina contemporanea e l'eredità dei suoi 5.000 anni di civiltà se uno guarda quello che i dirigenti comunisti hanno fatto della loro capitale e anche di ogni altra grande città cinese nell'ultimo mezzo secolo viene la tentazione di rovesciare l'uso delle parole non è il palazzo imperiale quello che bisogna chiamare la città proibita ma invece la grande Pechino che gli è cresciuta attorno nei secoli città proibita perché dal 1949 in poi tutto quello che ricordava il passato è stato oggetto di assalti furibondi di ondate distruttive guidate dall'ideologia negli anni 50 il modernismo industrialista di Mao ha voluto che sorgessero alti forni e grandi fabbriche in mezzo alla città negli anni 60 la rivoluzione culturale ha aggredito come un residuo reazionario e borghese ogni vestigia dell'arte della cultura della religione e infine dagli anni 80 in poi la conversione al capitalismo ha consentito nuovi tipi di stupro architettonico palazzinari e politici corrotti colate di cemento armato e poliziotti antisommossa hanno annientato un quartiere dopo l'altro hanno polverizzato le tracce fisiche della memoria hanno lacerato e disperso un tessuto sociale deportando la popolazione dei quartieri antichi in periferie desolate fatte di grattacieli anonimi Pechino città proibita quindi la si dovrebbe chiamare così perché sulla sua pelle viva è stata compiuta un'amputazione chirurgica del passato e ora che la Cina del ventunesimo secolo inizia una nuova pagina cioè la riscoperta orgogliosa delle proprie radici antiche è sempre nel laboratorio urbanistico di Pechino che questa operazione rivela un'ambiguità il revival dell'antico la riscoperta dei sriwan delle case tradizionali con il cortile interno è un lusso che si paga a caro prezzo quelle case sono uno status symbol riservato alla classe dirigente un po' come le scuole confuciane per i rampolli della nomenclatura e per mettere in difficoltà un cinese anche un esponente della elite più colta e cosmopolita oggi è sufficiente porgli due domande sono due domande che presuppongono una visione del futuro del paese e al tempo stesso chiamano in causa il senso di identità nazionale la prima domanda è questa che cosa sarà la Cina fra vent'anni la seconda domanda è visto che siete destinati a diventare la prossima superpotenza planetaria in che modo voi cinesi cambierete il resto del mondo non sono domande infondate se rivolte a una grande nazione a turno la Francia la Gran Bretagna gli Stati Uniti soprattutto nelle fasi della loro ascesa imperiale o neoimperiale hanno avuto una visione del proprio futuro un progetto per se stessi e per il mondo quasi una missione universalista ecco io devo ancora incontrare un cinese anche della classe dirigente che osi articolare una risposta a queste due domande questo non significa che la risposta non ci sarà la risposta la daranno i fatti però significa che ancora questa idea del ruolo della Cina non esiste nella cultura della nazione e della sua classe dirigente e questo vuoto dell'immaginario collettivo è un altro sintomo della transizione incompiuta è un segnale che la sfrenata modernizzazione della Cina deve ancora trovare i suoi valori fondati